Innanzitutto l'Istituto dell'invito, grazie a voi di essere qui, vi auguro buon viaggio innanzitutto per chi viaggerà con l'Istituto, penso che sarà sicuramente un'esperienza formativa veramente importante e significativa, insomma, quindi sono contento che abbiate fatto questa scelta, insomma, penso che sia importante. A me oggi spetta un compito veramente improbo, quindi insomma non so se riuscirò a essere nell'altezza, ci proviamo, e l'idea sarebbe quella di, come dire, fornirvi un inquadramento che in parte avrete anche già sulla storia di Jugoslava, in particolare sulla storia del Novecento, per appunto riuscire anche a mettere nel giusto contesto poi quelle che sono le guerre jugoslave e la situazione degli anni Novanta del Novecento e la situazione attuale della Bosnia-Herzegovina. E' un compito difficile perché questa parte di mondo è una parte di mondo molto complessa, molto articolata e perché io credo la storia dell'area Jugoslava nel Novecento in qualche modo racchiude in sé molti dei fenomeni che hanno riguardato la storia mondiale, la storia dell'Europa in particolare nel corso del Novecento. Sono in qualche modo una sintesi di quello che è la storia dell'Europa nel Novecento e in qualche modo anche uno specchio, uno specchio deformante, se vogliamo, che ingigantisce alcuni elementi ma che sicuramente ci consente anche di comprendere meglio la storia del nostro continente. In qualche modo, insomma, non è un caso che la storia del Novecento venga fatta cominciare a Sarajevo e terminare a Sarajevo. Il secolo breve, il cosiddetto secolo breve, comincia con l'attentato di Sarajevo del 1914 e termina con l'assedio di Sarajevo, la fine dell'assedio nel 1996. Quindi in qualche modo non è un caso appunto che il cuore dello spazio jugoslavo sia anche simbolicamente segni l'inizio alla fine della storia del Novecento. Appunto la storia del Novecento in cui nello spazio jugoslavo si concentrano conflitti, speranze, contraddizioni di quello che è appunto la storia del Novecento. Io in realtà avrei potuto portarvi tante cose ma vi ho portato essenzialmente delle cartine, delle mappe che penso che siano essenziali per comprendere la storia di un territorio e l'evoluzione di questo territorio nel corso degli anni. Mi dicono che si sente poco. Ah ok, scusate. Penso che la voce è abbastanza potente. Così si sente con la voce di un key mouse. Va bene. Mi sentite meglio? Grazie. No, dicevo appunto che vi ho portato delle mappe che dovrebbero consentirci un po' di inquadrare anche geograficamente il racconto che vi faccio e partiamo come dire dal, magari questa si vede un po' male, mi rendo un po' sgranata, ma quella che vedete più o meno è la mappa dell'impero stronghario con la vigilia della prima guerra mondiale. Quindi partiamo proprio dall'inizio, dall'inizio del secolo breve. Perché partiamo da qui? Perché è necessario, questa mappa ci aiuta a comprendere come lo spazio giugoslavo sia in qualche modo alla vigilia del secolo breve ancora diviso tra due grandi entità, tra due grandi impedi, l'impero stronghario da una parte e l'impero ottomaro dall'altra, che lasciano come dire un'eredità di tipo culturale, religiosa, sociale molto forte che in qualche modo spezza in due la storia giugoslava. Quindi sono come dire eredità complesse, eredità in qualche modo contrastanti, quella della parte del territorio giugoslavo che è stata sottomessa all'impero songarico e la parte invece che è stata sottomessa all'impero ottomano, ma anche un'unità di questo territorio invece di tipo culturale, soprattutto di tipo linguistico. in fondo le lingue jugoslave sono sostanzialmente un'unica lingua che è il serbo croato, che adesso subisce diverse variazioni, ma essenzialmente un'unica lingua, con alcune lingue comunque molto simili, dello stesso ceppo intorno a questo nucleo centrale del serbo croato. Quindi c'è un'unità linguistica molto evidente e anche un'unità culturale in riferimento all'identità slava di questi territori, nonostante appunto però eredità religiosa e sociali molto diverse e molto contrastanti. Io metterei un attimo la mappa successiva, che è ancora più piccola, la allarghiamo un po'. Questa mappa che rappresenta la Serbia subito dopo le guerre balcaniche, 1912-1913, quindi proprio a ridosso dell'inizio del primo conflitto mondiale, ci mostra come in questo territorio l'unico Stato già indipendente e con una forza politica e militare significativa nell'area è la Serbia. Esiste anche il Montenegro, che è un piccolo Stato che si vede sopra l'Albania, ma ovviamente ha un peso politico molto meno significativo. In questa fase storica si confrontano diverse prospettive politiche in quest'area, le elite politiche, naturalmente non parliamo dei contadini, della popolazione normale, ma le elite politiche di quest'area, sia quella ancora sottoposta all'impero stongarico, sia quella che si è già resa indipendente dall'impero ottomano, portano avanti diverse ipotesi politiche che hanno una prospettiva di raggio più o meno ampio, una sorta di cerchi concentrici, che sono anche cerchi concentrici identitari, cioè fanno riferimento a singole identità. In qualche modo tutte le prospettive politiche in quest'epoca hanno come modello principale quello del nazionalismo, l'idea di nazione e anche l'idea di far coincidere lo Stato, cioè il territorio di riferimento con una singola nazione, con una singola identità nazionale, che è la prospettiva politica più diffusa, più in poca, più presente in tutta Europa in quell'epoca. Il nazionalismo è una ideologia politica, non esiste dalla notte dei tempi, esiste sostanzialmente dalla seconda metà del Settecento, si diffonde in tutta Europa nel corso dell'Ottocento, produce una serie di Stato in azione nel corso dell'Ottocento, per cui il nostro paese, e quindi all'inizio del Novecento si presenta anche in questi territori come l'ideologia politica di riferimento, il modello da imitare, il modello da raggiungere. Ma il problema è che in una realtà così complessa dal punto di vista dell'identità, delle culture, delle religioni e anche dal punto di vista sociale, è difficile capire quale sia l'identità nazionale di riferimento, cioè quale sia lo Stato-nazione che si vuole formare. E su questo si confrontano diverse proposte politiche, diverse prospettive politiche. Da una parte c'è una prospettiva politica ad ampio raggio, molto ampia, che è quella del panslavismo, cioè l'idea di concepire tutti i popoli slavi come un'unica identità e che ovviamente fa riferimento principalmente alla Grande Madre Russia, che è lo Stato slavo più forte in questa epoca, che domina una buona parte d'Europa e quasi una buona parte di continente asiatico e che si presenta in questi territori come la potenza dominante, la potenza che vuole creare un'unità slava. Poi c'è una prospettiva politica che invece potremmo definire yugoslavista, all'epoca si chiamava illirista, l'illirismo era questa prospettiva politica, che prevedeva invece di identificare non tutti gli slavi, ma gli slavi del sud, quindi essenzialmente gli slavi che parlavano le lingue del ceppo slavo del sud, come un'unica identità culturale e un'unica identità nazionale e quindi l'idea di creare uno Stato nazione yugoslavo. Ma ci sono anche prospettive più ristrette, diciamo, con l'obiettivo che identificano come identità nazionale i singoli nazionalità più piccoli di queste, i serbi, i croati, gli sloveni, che sono essenzialmente queste tre a quell'epoca e che hanno invece l'obiettivo di creare Stati nazioni più piccoli, ma che in qualche modo necessariamente questi progetti di Stato nazioni si sovrappongono l'uno con l'altro, perché i confini si sovrappongono e quindi in qualche modo rischiano di, diciamo, non possono realizzarsi concretamente contemporaneamente questi Stati nazioni. per forza uno di questi Stati nazioni deve realizzarsi a scapito di quell'altro. Ecco, questi tre progetti politici, diciamo così, non sono necessariamente in contraddizione tra loro. In realtà per guardare le identità, ma le identità di tutti, anche le nostre, sono fatte a cerchi concentrici. Uno non è soltanto italiano e quindi non si sente europeo, per dire. Ognuno di noi si sentirà possibilmente sia italiano che europeo. Nello stesso modo, a quell'epoca, un cittadino personalmente colto di area yugoslava poteva considerarsi croato, poteva considerarsi appartenente all'impero stongarico, magari fedele alla monarchia in qualche modo, ma si considerava magari anche panslavo, cioè si considerava parte di un mondoslavo più ampio, di cui magari, come dire, abbracciava l'idea politica. Questo è fondamentale per capire come questi progetti politici appunto non siano necessariamente in contraddizione tra loro e anzi in quest'epoca in cui ancora, come dire, nella prospettiva di creare uno stato yugoslavo è ancora di là di venire, è anche considerata quasi un'utopia, quasi irrealizzabile. Consideriamo che è vero l'impero ottomano in questi anni si sta arretrando, è ancora un impero forte comunque, ma sta arretrando nei Balcani, ma l'impero stongarico non è, come dire, nessuno può prevedere nel 1914 che davvero nel giro di 4 anni l'impero stongarico scompaia dalla faccia della terra, è un progetto, è un'ipotesi veramente inimmaginabile. Non a caso quando Gavrilo Princip esplode i suoi colpi di pistola a Sarajevo contro l'era del trono Francesco Ferdinando, non immagina realmente che l'impero stongarico da lì a poco scompaia e che davvero si crei una yugoslavia unita, che è il suo progetto politico. Gavrilo Princip, come molti altri, sposa l'idea di creare uno stato yugoslavo, ma appunto lo immagina come un progetto utopistico non irrealizzabile, ma realizzabile nel giro di molto, molto tempo. Allora, chi come Gavrilo Princip immagina una yugoslava unitaria, di nuovo ha, come dire, prospettive politiche diverse. Esiste un'ipotesi diciamo così centralista, cioè l'idea che uno stato yugoslavo unitario debba essere uno stato nazione, nel senso proprio il termine, come l'Italia ad esempio in quell'epoca, e che in qualche modo debba imporre una sorta di nazionalità unica yugoslava, superando le differenze culturali e religiose delle diverse aree del territorio. Questa idea centralista è in qualche modo quella che viene portata avanti principalmente da, proprio dall'elite politica della Serbia. La Serbia è appunto in quel momento in qualche modo il Piemonte della Jugoslavia. Questa è una fase di, diciamo, equiparabile al risorgimento italiano, quindi una fase in cui gli esuli politici di varie parti dell'impero nostro ungarico, si elencano a Belgrado, esattamente come gli esuli politici italiani andavano a Torino, scusate questo parentesi, sento torinese, ci tengo a sottolinearlo, e in qualche modo appunto a Belgrado si ritrovano questi esuli politici con varie idee, varie prospettive di cambiamento politico, ma essenzialmente ispirati da quest'idea di creare una Jugoslavia Unita. Non a caso la principale rivista pubblicata in quegli anni a Belgrado da parte di questi eredentisti jugoslavi si chiamava Piemonte, non a caso l'organizzazione terroristica di cui fa parte Gavrilo Princip, che in realtà era un'organizzazione principalmente di tipo culturale e politico più che terroristico, ma insomma non si può negare che il suo gesto sia stato un attentato terroristico, si chiamava Giovene Bosnia, quindi faceva riferimento alla Giovene Italia e alla Giovene Europa di Mazzini. Quindi il modello risorgimentale è molto presente agli occhi di questi attivisti jugoslavi. Vado un attimo avanti. Allora, il gesto di Gavrilo Princip effettivamente ha successo, nel senso che la guerra scoppia dopo l'attentato di Sarajevo. Alla fine della Pongola Mondiale l'impero stongarico risulta sconfitto e la Serbia che pur viene completamente occupata dalle tue stongariche nel corso della guerra risulta però dalla parte dei vincitori alla fine del conflitto. Quindi si crea questo nuovo paese che appunto si chiama Jugoslavia, anzi nei primi anni si chiama Regno degli Serbi Croati e Sloveni. Questa Jugoslavia definita dagli storici di solito la prima Jugoslavia per distinguerla dalla Jugoslavia, poi sarà Jugoslavia Socialista di Tito, è una realtà politica che in qualche modo appunto sembra realizzare quegli ideali jugoslavisti, quegli ideali di unità jugoslava molto diffusi negli anni e decenni precedenti, che avevano grande consenso in realtà. Noi adesso siamo un po' abituati a pensare alla Jugoslavia come uno sbaglio della storia, non so come dire. Le guerre degli anni 90 e poi tutta la costruzione che è stata fatta dopo hanno secondo me trasmesso nell'immaginario comune europeo, occidentale l'idea che l'idea di Jugoslavia fosse un assurdo, un'idea che andava contro la volontà della maggior parte della popolazione che invece si identificava in queste singole nazionalità e che quindi appunto la stessa creazione di uno Stato unitario fosse un assurdo. Io penso che invece guardando in una prospettiva storica sia, non dico il contrario, ma insomma, alla vigilia della guerra mondiale e alla fine della guerra mondiale l'idea di creare invece stati nazioni separati era considerata assurda. Tutte le elite politiche in questi territori, compreso le elite politiche slovene e croate, pensavano a un Stato unitario. La cosa su cui non ero d'accordo era come governare questo Stato unitario. E appunto qui, lo stavo accennando prima però mi sono perso, scusate, adesso ci arriviamo, ma ripetita Iwant, appunto si confrontano diverse prospettive. C'è questa prospettiva centralista di cui vi parlavo prima, che è quella portata avanti di fatto dal re Jugoslavo, che era il re della Serbia, che diventa re di Jugoslavia, appunto avendo la Serbia di fatto vinto la guerra, e che sostanzialmente immagina la Jugoslavia come una grande Serbia governata dal punto di vista, appunto governata in maniera centralista dalla capitale Belgrado e dall'elite politica serba. Ci sono però, questo è importante dirlo, nell'ideologia nazionalista serba, si confrontavano all'epoca, ma si confrontano di fatto anche oggi, sicuramente nell'epoca di Minoshevich, nell'epoca della guerra degli anni 90, ma in qualche modo ancora oggi, due prospettive politiche che non sono esattamente coincidenti e combacianti. Una è quella della grande Serbia, probabilmente avete sentito dire, che appunto identifica la nazione serba come una nazione di riferimento e quindi l'idea di creare uno Stato che sia uno Stato che fa riferimento esclusivamente alla nazione serba, all'identità nazionale serba, nel quale le altre popolazioni possono vivere se si identificano con la nazionalità serba, cioè che si diventano serbi, se si serbizzano in qualche modo, il che vuol dire in qualche modo aviurare la religione e assimilarsi all'identità culturale serba. Questa prospettiva politica, ad esempio, non include nel territorio di questa grande Serbia, per quanto grande sia, ad esempio la Slovenia, dove l'identità culturale è evidentemente diversa, non ci sono ortodossi, la popolazione è interamente cattolica, parlano in un'altra lingua, cioè nessun nazionalista serbo, per quanto estremista in questa prospettiva di grande serba immagina di includere la Slovenia in questo territorio. Esiste però un'altra prospettiva che è quella della Jugoslavia, intesa come una sorta di Serbia che ha avuto una grande espansione, dove identità nazionali differenti sono ammesse, sono incluse, ma devono sottoporsi all'elite politica serba, che è quello che si crea di fatto dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè una piccola Jugoslavia, direi più che una grande Serbia, nella quale i serbi in quanto maggioranza relativa, in quanto popolo dominante, in quanto elite politica che ha vinto la guerra, governano, dominano, accettando l'esistenza di altre minoranze, ma di fatto mantenendo il potere economico e politico nelle loro mani. Queste due prospettive sono molto differenti in realtà e questo spiega anche poi le contraddizioni degli anni 90 rispetto a un'elite politica, quella che governa, rifatto negli anni 90, che continua a parole, ma in maniera non del tutto strumentale, a voler difendere una Jugoslavia un'Italia, che è quello che dice Minoshevich per tutti gli anni della guerra, e una opposizione politica al governo di Minoshevich, che è più estremista ai nostri occhi, ma che di fatto porta avanti un'altra prospettiva del nazionalismo serbo, che è quella della grande Serbia, quindi lasciamo pure dei territori, non ci interessa avere tutta la Jugoslavia, ma i territori che abbiamo devono essere esclusivamente serbi, come dire, puliti etnicamente, come si usa dire con un termine creato di fatto nel corso della guerra negli anni 90. Ecco, dicevo, alla fine della Puglia Mondiale, quando si crea la prima Jugoslavia, in realtà ci sono altre prospettive politiche, esiste una prospettiva politica che è quella di creare stati separati, appunto ha molto meno consenso di quanto noi ci possiamo immaginare, è molto meno presente in realtà nelle vite politiche dell'epoca, sicuramente però esiste e si sviluppa forse ancora di più nel corso degli anni della prima Jugoslavia, in quel ventennio, venticinquennio, più o meno, che va dal 1918 al 1941, quindi 23 anni, poco più di vent'anni, in cui dura la prima Jugoslavia, che sono anni di grande contrasto, di grande conflitto all'interno del territorio jugoslavo. In realtà l'ipotesi politica più presente, più nell'elite politiche non serve del territorio jugoslavo, è quella federalista, cioè l'idea di fronte a un territorio come il nostro, come quello di Jugoslavo, che è pieno di contraddizioni, che è pieno di identità differenti, l'idea federalista sembra essere quella più efficace, più funzionale, ma non viene presa in considerazione delle elite politiche selve che invece si considerano vincitrici della guerra e vogliono imporre uno stato appunto dal loro controllato. La prima Jugoslavia in realtà ha diverse fasi, cercherò di essere breve, poi secondo me, questo non l'ho detto all'inizio, però è una cosa fondamentale, io cerco di parlare non più di 12-13 ore, poi... Ritiportiamo anche gli agi. No, dopodiché magari vi lascio la parola per qualche domanda, sperando che ci sia tempo, così magari poi approfondiamo eventualmente qualche elemento, un po' pochi anni, ci saranno sicuramente moltissimi. No, dicevo, la prima Jugoslavia in realtà vive diverse fasi, la prima fase, diciamo dalla sua creazione fino al 1929, in cui proprio il nome e regno dei serbi croati e sloveni, già dal nome si intuisce come non venga neanche presa in considerazione l'ipotesi che ci siano altre minoranze all'interno del territorio, ad esempio i musulmani, la presenza musulmana che non è solamente in Bosnia, ma anche in altri territori della Jugoslavia, o gli albanesi ad esempio, in Kosovo e in altri territori, e dove in qualche modo in realtà in questo Stato si impone di più l'idea della leadership politica legata al re Jugoslavo che non aveva una prospettiva Jugoslava, in realtà il re anche alla vigilia dell'attentato di Sarajevo. Il re Jugoslavo non immaginava di creare un Jugoslavo in Italia, immaginava che in caso di guerra avrebbe magari aumentato i propri territori, come era successo con le guerre balcaniche quando la Serbia aveva raddoppiato il territorio addirittura a scapito dell'impero ottomano. Quindi si immaginava eventualmente di conquistare magari la Bosnia o qualche territorio a nord di Belgrado, ma non sicuramente di creare una vera e propria di Jugoslavo. Quindi si trova quasi involontariamente nelle mani questo paese così grande e lo amministra appunto nella prospettiva che dicevo prima di un'elite politica serba che domina in un territorio più vasto di quello che vorrebbe amministrare, diciamo così. Dal 1929 al 1934 c'è una seconda fase in cui lo Stato addirittura cambia nome, prende il nome di regno di Jugoslavia e che è una fase che è motivata dalla scelta politica del nuovo re Jugoslavo, che si chiama Alessandro, che invece porta avanti l'idea di quello che viene definito il Jugoslavismo integrale, cioè l'idea di creare un Stato realmente centralista e che fa riferimento a un'unica identità nazionale che però non è un'identità serba, è un'identità jugoslava, cioè l'idea di creare un'identità nazionale jugoslava, che anche qua forse ai nostri occhi di oggi sembra quasi un paradosso, cioè lui in qualche modo quest'idea politica nega l'esistenza di singole identità nazionali, di cui in qualche modo non si può nemmeno parlare, in questi anni non esistono partiti politici che facciano riferimento a singole nazionalità, sono vietati alla legge, possono esistere partiti politici soltanto se fanno riferimento allo Stato Unitario, quindi lo so, il partito contadino croato, che è il partito che rappresenta la maggioranza della popolazione croata, viene messo fuori legge perché ha la parola croato nel titolo e perché fa riferimento a soltanto la popolazione croata, quindi l'idea è quella di creare un'identità nazionale unitaria jugoslava che vada al di là e al di sopra delle singole micronazionalità, che appunto a noi forse sembra quasi paradossale visto oggi, ma in fondo non è diverso da quello che è successo in Italia dopo l'Unità d'Italia e in Italia è successo, come dire, di fatto l'Unità italiana è stata realizzata negando le singole identità culturali delle diverse territori italiane e imponendo un'identità unitaria a tutto il paese, tra l'altro anche linguistica in una realtà come quella italiana dove l'identità linguistica non esisteva assolutamente, c'era molto più difforme l'uso della lingua in Italia di quanto non fosse nella Jugoslavia nel momento dell'unità, dell'unificazione. Non a caso in Italia l'unità nazionale si crea anche attraverso una furiosa guerra civile, che è una guerra brigantaggio che abbiamo chiamato così per sminuirla, come dire, per dargli meno peso e sui nostri libri di storia risulta come una paginetta quasi insignificante, di fatto è una guerra civile molto violenta con accenni di razzismo anche molto evidente tra nord e sud, tra chi ha fatto l'unità italiana e chi l'ha in qualche modo subita, che abbiamo in qualche modo negato, sminuito, ma che rappresenta un conflitto veramente molto violente e molto significativo. Un conflitto che nella realtà jugoslava non avviene negli anni dopo la prima guerra mondiale, dopo l'unità. Questo tentativo jugoslavista dura, come dicevo, dal 1929 al 1934, termina con l'uccisione del re jugoslavo che aveva proposto, ed è portato avanti questa idea, che viene ucciso a colpi di pistole in un attentato molto simile a quello di Davilo Princip, ma che avviene a Marsiglia nel 1934, tra l'altro 20 anni dopo l'attentato di Sarajevo, ad opera di un movimento terroristico croato che si chiama Ustasha, che è legato ai servizi segreti italiani, al fascismo italiano, ed è guidato Dante Pavlic, che avrà in seguito un ruolo importante nella storia jugoslava. L'ultima fase del regno della prima Jugoslavia, dopo una fase intermedia un po' complessa che salterei, è quella del 1939 al 1941, in cui di fatto le elite politiche serbe si accordano con le elite politiche croate per una sorta di divisione dello Stato in due parti, in cui i croati amministrano la parte croata dello Stato, ma anche in gran parte una buona parte di Bosnia e Herzegovina, mentre i serbi, l'elite politica serba continua ad amministrare il resto del territorio. È un accordo politico che viene siglato nel 1939, a ridosso dello scopo della Seconda Guerra Mondiale e che resta in vigore fino al 1941, nel momento in cui la Jugoslavia viene invasa dalle truppe tedesche e dai suoi alleati e viene smembrata. E' andato via tutto. Ok, va bene, questa era la Jugoslavia del 1929, non mi ero dimenticato, è vera la mappa, va bene. No, è interessante questa mappa, giusto per capire come appunto in quella fase dal 1929 al 1934, questa è la ristrutturazione delle province all'interno di Jugoslavia e per chi di voi ha già visto delle mappe jugoslave, ha un occhio anche soltanto alla mappa attuale della Jugoslavia, si può notare che nessuna di queste province coincida con le identità nazionali e gli stati nazionali di oggi, con la forse parziale esclusione della parte nord, cioè la Slovenia che più o meno coincide con la Slovenia di oggi, il resto è proprio pensato per non far coincidere le realtà amministrative con le identità nazionali, proprio in quella logica jugoslavista di superare i conflitti nazionali. Ecco però arriviamo al 1941 che diciamo il periodo del 1941 al 1945, quindi la seconda guerra mondiale in Jugoslavia, appunto arriva nel 1941 in questo territorio, è forse il periodo storico più rilevante ancora oggi della storia jugoslava, su cui come dire le politiche alla memoria che ancora oggi si scontrano e si affrontano, ed è di nuovo una fase in cui si confrontano progetti politici contrastanti. Sostanzialmente il paese viene smembrato dalle forze dell'asse, cioè tedeschi, italiani e i loro alleati che decidono di far sparire dalla mappa europea la Jugoslavia e in parte annettano alcuni territori, in parte creano delle realtà amministrative separate all'interno dello spazio jugoslavo. Dalla mappa che vedete si può in parte capire come alcuni territori vengono ad esempio annessi all'Italia, che sono essenzialmente i territori verdi qua, la Dalmazia, questa parte di Dalmazia e la Slovenia meridionale, che vengono annessi all'Italia, la Germania annette alla Slovenia settentrionale, che è quella parte lassù in alto, e una parte, la maggior parte del Kosovo e una parte di Macedonia e Montenegro vengono annessi all'Albania, che è già italiana in quegli anni, la Bulgaria annette la Macedonia, questa parte più meridionale, e l'Ungheria annette la Boivodina, che è la parte nord della Serbia, essenzialmente. Quello che rimane viene amministrato da realtà collaborazioniste più o meno autonome dal dominio soprattutto tedesco, perché poi alla fine sono i tedeschi che hanno una maggiore presenza anche in questi territori, in particolare quello che resta della Serbia, che diventa una sorta di stato collaborazionista serbo. Il Montenegro, che invece è questo territorio qua che avrebbe dovuto diventare una sorta di stato soggetto al Regno d'Italia, ma poi di fatto viene amministrato militarmente dall'esercizio italiano, e invece la parte più grande, che è questa marrone centrale, che diventa il cosiddetto stato indipendente croato, ed è governata proprio da Ante Pavlic, cioè il leader di quel movimento terroristico che negli anni 30 aveva ucciso il re Jugoslavo. La parte quindi maggioritaria, diciamo, del territorio è amministrata da Giustacia, da questi estremisti croati, che hanno, possono vantare, come dire, un'amicizia ventennale con il cittismo italiano, e quindi una qualche forma di fedeltà ideologica al fascismo, ma il cui progetto politico è essenzialmente quello di creare uno stato nazionale, che ovviamente non fa riferimento in questo caso alla nazione jugoslava, ma al contrario alla micronazionalità croata, e che porta avanti il progetto politico di creare uno stato etnicamente puro croato. All'interno di questo territorio che però vediamo è molto più grande, l'altore Croazia, cioè include tutta la Bosnia-Herzegovina, ma anche una buona parte di territori, diciamo, compresi tra il Danubio e la Sava, che attualmente fanno parte della Serbia, arriva fino alla periferia di Belgrado, di fatto oltre alla conferenza dei fiumi Sava e Darubio, di fronte alla capitale serba, quei territori erano appartenenti allo stato indipendente croato nella seconda guerra mondiale, quindi a veramente 100 metri da Belgrado cominciava la stato indipendente croato. In questo territorio la popolazione che si identifica come croato-cattolica rappresenta poco più del 50%, di fatto il 51%. Il resto della popolazione è per circa il 30% serba e poi ovviamente c'è una presenza musulmana significativa. Gli Ustasha decidono di riconoscere ai musulmani una presenza sul territorio, in qualche modo vengono riconosciuti come croati convertiti e quindi etnicamente croati che un giorno si convertiranno alla giusta religione ma che per il momento possono rimanere. I serbi vengono invece considerati estranei allo stato croato e l'idea è quella di eliminare la presenza serba dal territorio. L'eliminazione avviene in diverse fasi, con diverse modalità, c'è una strategia di conversione forzata al cristianeo, al cattolicesimo, i serbi sono cristiani ma ortodossi e quindi centinaia di migliaia di persone vengono convertite forzatamente al cattolicesimo anche grazie all'aiuto delle gerarchie ecclesiastiche croate. Centinaia e migliaia di serbi sono costretti o scelgono di fuggire verso la Serbia o verso il Montenegro, ma l'elemento più drammatico riguarda quei 500.000 serbi che vengono sterminati fisicamente, eliminati fisicamente e sterminati tra l'altro anche nei campi di sterminio, ovvero i propri che vengono creati sul territorio dello Stato indipendente croato. Il campo di Giafenevas in particolare, il più grande di questi campi, il più conosciuto, che si trova al confine tra Trazia e Bosnia, non so se andrete a visitarlo, sì, ok, perfetto, e poi ve ne parleranno meglio quando sarete lì, ma insomma comunque è l'unico campo di sterminio in Europa non amministrato dai nazisti, ma direttamente da Giustacea, quindi dai collaboratori con questi croati. In questo campo di sterminio vengono sterminati decine di migliaia di Rom e di ebrei e di antifascisti di varie provenienze, ma anche centinaia di migliaia di serbi. In generale, in totale, i serbi sterminati nella seconda guerra mondiale da Giustacea sono appunto circa 500.000. Stiamo parlando di popolazioni civili, naturalmente, cioè donne, bambini, vecchi, essenzialmente. Questo è, come dire, il fenomeno più drammatico della Jugoslavia nella seconda guerra mondiale, ma è interessante come di nuovo in questa fase la Jugoslavia rappresenti una sorta di modello di studio molto rilevante per capire quello che accade nella seconda guerra mondiale in tutta Europa, cioè di fatto in questo territorio avvengono tutti i fenomeni che avvengono durante la seconda guerra mondiale in Europa. Ci sono appunto le stragi a sfondo etnico-nazionale, cosa che non accade soltanto in questi territori, ma anche in quasi tutta l'est Europa nel corso della guerra, c'è la Shoah, c'è lo sterminio degli ebrei, la Serbia è il primo paese d'Europa che viene dichiarato a Judenfrei già nella primavera del 1942, quindi prima ancora che venga recisa la soluzione finale, gli ebrei serbi vengono interamente sterminati alle periferie di Belgrado. C'è la guerra di resistenza, nel caso della Jugoslavia, il caso della Jugoslavia è straordinario perché è l'unico paese che di fatto si libera da solo con le proprie forze dall'occupazione straniera. La resistenza guidata da Tito è la più forte, la più grande e la più efficacia d'Europa e riesce appunto a costituire un vero e proprio esercito partigiano che alla fine della guerra conterà 500.000 uomini e che libera praticamente il territorio con le proprie forze, con l'eccezione peraltro significativa naturalmente della capitale del Belgrado che viene liberata dalle forze sovietiche in collaborazione con i partigiani. C'è quindi una guerra di resistenza ma c'è anche una guerra contro la resistenza, una guerra anti-guerriglia diciamo così, che viene portata avanti dalle forze occupanti ma anche da collaborazioni di sti locali che provoca anche qui centinaia di migliaia di morti, soprattutto tra la popolazione civile perché le rappresaglie contro i partigiani in realtà colpiscono nella maggior parte dei casi le popolazioni civili e in questo anche gli italiani hanno un ruolo significativo. gli italiani che occupano in realtà circa un terzo del territorio jugoslavo, al di là dei territori che vengono annessi o amministrati direttamente ma la presenza militare italiana appunto riguarda circa un terzo del territorio che è la parte più vicina alla costa segnata da questa linea nera. E con questi territori anche l'esercito italiano si rende patronista di crimini di guerra, in particolare arresti indiscriminati, distruzione di villaggi, fucilazioni di prigionieri, ma l'elemento più significativo, più noto della presenza italiana è quella della creazione di campi di concentramento, non sono campi di internamento, non sono campi di sterminio ma sono campi nei quali finiscono circa 100.000 ingoslami nel corso della guerra, quindi è una cosa molto significativa. Il più noto di questi si chiama il campo di Arbe, sull'isola di Arbe in Croazia, dove passano circa 30.000 persone, tutti civili, anche in questo caso di solito i partigiani carturati vengono fucilati immediatamente, quindi nella maggior parte dei casi in questi campi finiscono popolazioni civili che sono considerate in qualche modo quando condiventi con la resistenza. Arab su 30.000 civili che vengono internati, circa 1.500 sono i morti, morti per fame, stenti, malattie essenzialmente. oltre a questo tipo di guerra che è una guerra contro i civili, diciamo così, più che una guerra civile, si svolge sul territorio di Jugoslava anche una vera e propria guerra civile, cioè una guerra tra diverse forze politiche e militari interessate a combattersi l'una contro l'altra in una prospettiva politica differente. Da una parte c'è l'esercito partigiano jugoslavo guidato da Tito, che come vi dicevo è il più forte e più efficace d'Europa, ma è anche un movimento partigiano che a differenza di quello italiano è esclusivamente comunista, ovvero non vuol dire che tutti i partigiani singolarmente sono comunisti, ma l'elite politica che guida anche l'esercito, quindi sia politica che militare, è composta dal comitato centrale del Partito Comunista Jugoslavo, il leader unico è appunto il segretario del partito Josipov Tito e di fatto è una resistenza che ha soltanto un'anima politica che è quella comunista. Questo contribuisce anche al fatto che tutte le forze politiche che si dichiarano anticomuniste finiscono in un modo o nell'altro per collaborare con gli occupanti e combattere contro i partigiani. Questo succede ovviamente agli Ustosia, che sono i primi che addirittura creavano una collaborazione stravera e proprio filofascista, ma in realtà succede alle altre forze politiche presenti sul territorio che finiscono per creare bande militari e combattere contro i partigiani in Slovenia, in Serbia e in altri territori. La contrapposizione tra partigiani e forze che combattono contro i partigiani non è soltanto di tipo ideologico, cioè comunismo o non comunismo, ma è anche di tipo nazionale, nel senso che l'esercito partigiano è un esercito multinazionale, multiculturale che include partigiani di tutte le provenienze della Jugoslavia nella prospettiva di ricostituire una Jugoslavia unitaria che sia però questa volta federale, che quindi riconosca quelli che erano gli ideali precedenti, più diffusi nelle elite politiche di Jugoslavia precedenti alla Prima Guerra Mondiale e che riconosca le singole edite nazionali presenti sul territorio e ad ognuna di esse riconosca in qualche modo un territorio e una presenza politica. Dall'altro ci sono le forze che combattono contro i partigiani e invece fanno riferimento a singole nazionalità, quindi di nuovo la contrapposizione profonda tra queste realtà è di tipo nazionale, ovvero qual è la prospettiva, qual è l'idea di nazione che ha in mente. E quindi gli ustaci ovviamente fanno riferimento alla nazione croata, i cetnici sono le forze nazionaliste selve, fanno riferimento alla nazione selva e così via, ci sono forze politico-militari nazionaliste slovene o kosovare o di altro tipo. La guerra finisce Siete ancora vivi? Scusate, adesso piano piano arriviamo, siamo ancora lontani ma non ho cominciato proprio dai dinosauri quindi vi ho risparmiato qualche millennio di storie. Va bene, dunque la guerra finisce e Tito trionfa effettivamente, vince la guerra contro gli occupanti ma vince anche la guerra civile di fatto, sconfiggendo quindi le forze collaborazioniste e su questo io poi non mi sono dilungato perché è un tema su cui ho scritto tanto, ho lavorato tanto ma naturalmente anche su questo se poi ci sono delle curiosità, delle recitazioni possiamo farle dopo e si crea uno stato, un nuovo stato jugoslavo unitario che però ha caratteristiche radicalmente diverse da quelle precedenti, innanzitutto è uno stato socialista e quindi ha una prospettiva sociale di tipo differente ma è anche uno stato federale, uno stato federale di cui qua vedete la divisione in repubbliche all'interno della Jugoslavia, la Serbia che è la repubblica più grande ha al suo interno due province autonome che sono la Boivodina a nord che ha una significativa presenza di nazionalità differenti da quella serba, in particolare ungheresi, ma prima della seconda guerra mondiale ha anche una presenza molto significativa di popolazione tedesca che viene di fatto espulsa da Jugoslavia a fine della guerra, espulsa per decreto in qualche modo, a parte chi aveva qualche referenza nella lotta partigiana, la popolazione tedesca viene espulsa a norma di legge, cosa che non avviene nel caso della popolazione italiana dell'Istria che invece ha una storia completamente diversa e poi l'altra provincia autonoma che è quella del Kosovo a sud confinante con l'Albania dove c'è una presenza albanese maggioritaria e quindi si crea una provincia autonoma. Questa costruzione statuale ideata da titoli dei suoi commilitoni e amici del partito ha una prospettiva federalista naturalmente, ma soprattutto immagina che riconoscendo ogni nazionalità sul territorio di Jugoslavia la propria Repubblica in qualche modo possa superare quel conflitto che è evidente agli occhi di Tito tra le singole nazionalità. In qualche modo la seconda guerra mondiale ha dimostrato che la creazione di stati in azione delle singole nazionalità su un territorio così complesso e così frammischiato può realizzarsi solo attraverso lo sterminio reciproco. Questo è quello che in qualche modo è stato sotto gli occhi di tutti durante la guerra. Non solo gli USA ci hanno sterminato centinaia di migliaia di serbi per creare il loro Stato-Nazione, ma anche i serbi, anche i cetnici, il movimento cetnico, il movimento nazionalista serbo che combatte contro i partigiani della seconda guerra mondiale cerca di creare territori etnicamente puri, esclusivamente serbi, massacrando popolazioni differenti, in particolare i musulmani nella zona del San Giacato della Bosnia. Quindi in qualche modo quei modelli di micronazionalismi si realizzano nella seconda guerra mondiale o rischiano di realizzarsi solo attraverso lo sterminio reciproco. Quindi ovviamente è chiaro negli occhi di Tito che è necessario trovare un modo per superare questo conflitto nazionale. Tito non torna all'idea yugoslavista dei primi anni 30, in parte perché era stata fallimentare quell'idea in quegli anni, essenzialmente perché era stato un modello autoritario, imposto dall'alto, da re, peraltro da un re serbo, quindi comunque in una prospettiva centralista e quindi in qualche modo considerata in ogni caso filosella. Ma propone appunto un'idea diversa, un'idea diversa che è questo modello federale che ha due grandi modelli alle spalle. Uno è quello dell'impero stongarico, un impero stongarico che in qualche modo riconosceva la presenza di tutte le minoranze all'interno di un contesto di equilibrio, di dominio tra le varie rappresentanze politiche. E l'altro è il modello sovietico naturalmente. Tito è un comunista felilissimo fino al 1948, quando poi ci sarà la rottura con Stalin, ma sicuramente è fedele, magari non a Stalin dal quarto tempo, ma è fedele al modello sovietico, al modello comunista. Per cui non solo la Yugoslavia dei primi anni impone un modello politico-economico di tipo stalinista, anche dopo la rottura con Stalin, quindi collettivizzazione forzata, industrializzazione rapida, nazionalizzazione delle proprietà, eccetera, ma anche si rifà proprio al modello statuale dell'Unione Sovietica, appunto l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Quindi questo modello esattamente viene importato in Yugoslavia. E esattamente come per le Repubbliche Sovietiche, si immagina che ogni Repubblica abbiamo una sua nazionalità di riferimento. Cioè la Repubblica è di quella nazionalità, che poi accoglie all'interno della propria Repubblica altre minoranze, che vengono rispettate, naturalmente ne sono cittadini come gli altri, ma l'elemento della singola nazionalità che ha un suo potere politico, una sola cosiddetta politica, rimane molto forte e molto evidente dello Stato Jugoslavo. Questo in qualche modo lo sottolineo, perché in qualche modo è un elemento che trascina forzatamente questa distinzione nazionale negli anni della Jugoslavia Socialista. Con molta difficoltà si crea una nuova identità jugoslava che superi le differenze nazionali negli anni della Jugoslavia Socialista. Non dico che non si crea affatto, si crea. E' uno degli elementi, come dicevo prima, uno degli elementi identitari di quei cerchi concentrici che sono le nostre identità, le identità di tutti noi. Per cui il cittadino jugoslavo medio nel 1980 si considerava senz'altro jugoslavo, almeno la maggior parte di loro, ma continuava a considerarsi principalmente croato, serbo, sloveno, eccetera. Proprio perché l'identità nazionale era l'elemento forse più rilevante nella sua presenza in quanto cittadino jugoslavo. I documenti di identità portavano la definizione nazionale, ma soprattutto c'era un sistema di quote, in parte esplicitate, in parte no, per poter accedere agli incarichi pubblici, a gran parte dei lavori, al poter ottenere una casa o qualche proprietà, eccetera. Quindi l'identificazione con la propria identità nazionale era uno degli elementi più rilevanti. La cosa paradossale è che a un certo punto, nel momento in cui viene riconosciuta, la possibilità di dichiararsi anche nel proprio documento di riconoscimento e nel censimento come jugoslavo, e quindi non croato, serbo, eccetera, ma come appartenente esclusivamente a un'identità più ampia, in qualche modo tu perdevi dei privilegi, dichiarandoti jugoslavo, perché certo eri più fedele allo Stato, ma non potevi più accedere a quelle quote per ottenere privilegi o l'accesso all'università, per esempio, eccetera. Quindi non ti conveniva ad essere jugoslavo piuttosto che esso. E nel momento del massimo splendore dell'idea di Jugoslavia, la percentuale di cittadini che si dichiaravano Jugoslavi rimaneva comunque intorno al 15%, quindi è una percentuale relativamente bassa. Di fatto quindi la Jugoslavia rimane, la Jugoslavia socialista rimane al di là degli elementi tipo politico, ideologico, eccetera, ma rimane uno Stato in cui l'identificazione come una singola nazionalità è forse l'elemento politico più rilevante. In qualche modo la divisione del potere, dei poteri all'interno delle singole repubbliche, ma anche a livello dello Stato unitario, è tutta basata su un equilibrio di potere tra le diverse rappresentanze nazionali. Ok, in questo adesso arriviamo al bello. Io poi all'erano dello scherzo, abbiamo già fatto una certa ora. Adesso arrivo alla guerra negli anni 90 in maniera molto rapida, poi in realtà oggi per un ligio Nardelli vi racconterà molto di più e molto più approfonditamente, credo la realtà di oggi è quello che è il risultato delle guerre degli anni 90, quindi poi su questa parte io lascerei fare a lui. Però ecco, ancora due parole sulla guerra negli anni 90 che credo che siano essenziali per capire poi il mondo che andrete a vedere tra qualche giorno. Allora questa in realtà che ho messo qua è la mappa, una mappa etnica della Bosnia nel 91. Queste, quindi prima della guerra, con l'ultimo censimento prima della guerra, che è quello del 91. Queste mappe ovviamente lasciano sempre il tempo che trovano, nel senso prendetele con le pinze. Come ho già ripetuto fino allo sfinimento, le identità sono molto complesse e molto variegate, per cui è difficile dire, se è difficile dire per una singola persona, se è serbo, croato, musulmano o tutte e tre, perché magari ha un nonno musulmano, una madre serba e un padre croato, è ancora più difficile metterlo su una cartina. Io questa mappa ve l'avevo mostrata soltanto per, a colpo d'occhio, farvi comprendere quanto è complessa nel cuore dell'Iugoslavia, nel cuore di questo territorio di cui abbiamo parlato fino ad adesso, la commissione tra nazionalità, identità e religioni, ancora negli anni, alla vigilia della guerra degli anni 90. La guerra degli anni 90 è difficile dire due parole per quale ragione si scoppia e quali sono gli obiettivi politici di chi la porta avanti, però senz'altro è il risultato di una serie di fenomeni che di nuovo riguardano tutta l'Europa. Il primo di questi è la crisi economica e politica dei sistemi socialisti negli anni 80, che di nuovo non riguarda soltanto la Jugoslavia, perché questa crisi riguarda tutti i paesi dell'Est Europa, e che termina nel caso Jugoslavia negli anni 80, sono anni di grandi difficoltà economiche, inflazione molto elevata, impoverimento della popolazione, una crisi politica anche dovuta alla morte di Tito, banalmente il leader politico che ha creato tutto questo sistema e che ha governato in maniera comunque autoritaria fino al 1980 muore nell'80 e quindi gli anni successivi sono anni anche di crisi del sistema politico, oltre che di crisi economica. Questa crisi raggiunge il suo apice con l'89, con la caduta del muro di Berlino, che è un fenomeno di estrema rapidità. Se qualcuno di voi si ricorda in quell'epoca, quello che accade tra la caduta del muro di Berlino e l'inizio della guerra di Jugoslavia è un attimo, succede tutto in un anno, sostanzialmente. La caduta del muro di Berlino è del novembre dell'89, quindi la fine dell'anno. Nel 90 ci sono già le prime elezioni multipartitiche in Jugoslavia, nel 91 è scoppiata la guerra, quindi avviene tutto in maniera molto rapida. La caduta del muro di Berlino, la caduta dei sistemi socialisti in tutta Europa ha una conseguenza molto forte sul Stato Jugoslavo, sebbene la Jugoslavia non faccia parte del sistema sovietico, non fa parte del patto di Varsavia, non fa parte dell'area socialista, c'è un fede dell'Unione sovietica, ma ne subisce il conto al colpo sia per l'evidente fallimento della ideologia politica comunista, ma direi ancora di più perché la Jugoslavia in qualche modo si è mantenuta anche dal punto di vista economico, ma direi economico e di politica estera, di politica di geostrategia, in tutti gli anni dal 48 al 90, proprio perché era un paese di mezzo tra i due blocchi, proprio perché era un paese che poteva fungere da mediatore e in qualche modo era stato cuscinetto tra il blocco del patto di Varsavia e il sistema capitalista occidentale e quindi in qualche modo ne aveva vantaggi, ne riceveva vantaggi da entrambi gli schieramenti. Nel momento in cui viene a cadere lo scontro tra due blocchi e anche l'importanza geostrategica della Jugoslavia non esiste più, quindi ad esempio l'appoggio internazionale a parte degli Stati Uniti alla Jugoslavia viene a cadere immediatamente perché non ha più senso sostenere un paese che è comunista, quindi comunque è nostro nemico, ma serviva esclusivamente a creare problemi all'altro blocco che non esiste più. Lo stesso sistema dei paesi non allineati, creato da Tito e da altri paesi a partire dagli anni Sessanta, perde di senso in un contesto in cui non c'è più la necessità di contrapporsi ai due blocchi che dominano il mondo. E quindi la Jugoslavia perde il suo peso politico strategico, entra in grave crisi economica e perde il senso politico della sua stessa esistenza. Quindi il Partito Comunista decide di promuovere elezioni multipartitiche, queste prime elezioni vengono tenute non a livello federale, ma a livello delle singole repubbliche e si candidano in quasi tutte le repubbliche, si candidano partiti politici che fanno riferimento alla singola nazionalità rappresentata in quella repubblica, quindi i partiti nazionalisti croati, i partiti nazionalisti serbi e via dicendo. Questi partiti nella stragrande maggioranza dei casi vincono elezioni o laddove vince il Partito Comunista o gli eredi del Partito Comunista, questo avviene perché quel partito in qualche modo ha già fatto una svolta in senso nazionale. Il caso di Milocivic che si è già in qualche modo rappresentato, pur essendo ancora leader ufficialmente del Partito Socialista, cioè erede del Partito Comunista, si è già rappresentato di fronte dell'opinione pubblica serba come l'alfiera del nazionalismo serbo contro le minacce, diciamo così, allo Stato serbo da parte dei nazionalisti kosovari da una parte e dei nazionalisti croati dall'altra. Ecco, la guerra quindi scoppia in maniera quasi logica in seguito alla vittoria nelle singole repubbliche di partiti che portano avanti l'idea nazionale. È chiaro che questi partiti si presentano sulla scena politica come portatori di un'idea politica che propone la separazione della propria repubblica dalla Jugoslavia un'Italia. Un'idea peraltro che è presente nella stessa Costituzione dello Stato Jugoslavo, cioè la Costituzione Jugoslava prevedeva l'ipotesi che ogni singola repubblica potesse dichiararsi indipendente, quindi questo avviene quasi a norma di legge, non c'è niente di strano, è tutto molto logico, segue una logica abbastanza evidente. Prendiamo il caso della Croazia che è quello più significativo, in Croazia stravince il partito nazionalista croato che ha come obiettivo politico quello di separarsi dalla Jugoslavia, a norma di legge la Croazia dichiara l'indipendenza della Jugoslavia nel giro di pochi mesi. Segue tutta una logica molto ferra. È anche però logico il fatto che Miloševic, che è in quel momento il rappresentante invece del nazionalismo serbo, però è anche il capo dello Stato Jugoslavo, che porta avanti quell'idea di nazionalismo jugoslavo, di nazionalismo serbo-jugoslavo, diciamo così che vi dicevo all'inizio, cioè l'idea di difendere una Jugoslavia militaria in cui i serbi però sono la maggioranza relativa e hanno il dominio politico sul territorio. E ovviamente anche in una logica che di nuovo richiama la Seconda Guerra Mondiale, cioè la paura delle stragi accadute nella Seconda Guerra Mondiale è sicuramente uno degli elementi che spingono, soprattutto in questo caso l'opinione pubblica, a schierarsi per i partiti che vogliono la guerra. Questo riguarda ad esempio le minoranze serbe in Croazia o in Bosnia che si sentono minacciate da un nuovo Stato croato nel momento in cui l'ultimo Stato croato che si ricordi è quello che ha sterminato 500.000 serbi in quel territorio e non è successo tre secoli prima, è successo ai loro genitori e i loro nonni. E quindi è evidente che la paura di una nuova carneficina è nell'aria. Questo in qualche modo spinge le popolazioni serbe all'interno della Croazia ad armarsi, a favorire le elite politiche che vogliono la guerra e in qualche modo si innesta il meccanismo del conflitto. In Bosnia questo conflitto diventa più drammatico essenzialmente per le ragioni che questa mappa ci mostra. Qui l'idea di creare un Stato nazionale o comunque una presenza nazionale compatta in un territorio del genere è evidente che può essere realizzato soltanto attraverso sterminio o attraverso comunque lo spostamento forzato alla popolazione, non c'è altra strada in un territorio del genere. Mentre anche le popolazioni serbe che vivono in Croazia in gran parte, non vale per tutto il territorio, ma in gran parte vivono compattamente in alcuni territori, in alcune aree della Croazia, in Bosnia questo non è così. Inoltre questo è un altro elemento fondamentale, non solo in Bosnia ma in tutta la Jugoslavia, i luoghi di commissione, di luoghi di presenza di diverse nazionalità all'interno di un unico territorio sono essenzialmente le città. Le campagne sono molto più compatte dal punto di vista etnico-nazionale anche dopo 50 anni di Stato unitario, ma appunto le città sono essenzialmente il luogo dell'incontro, il luogo della convivenza tra diverse nazionalità ed è anche il luogo dove la presenza di cittadini che si dichiarano Jugoslavi o di fini di coppie miste è molto più rilevante. A maggior ragione in Bosnia perché la Bosnia è il cuore della Jugoslavia e quindi in qualche modo ha colto immigrazione da tutta la Jugoslavia, ma anche perché la Bosnia ha subito una fortissima urbanizzazione e industrializzazione nel corso della seconda fase del Novecento, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, molto più che in altri territori. Diciamo così, le grandi città Belgrado e Zagreb erano già grandi città prima della Seconda Guerra Mondiale, in Bosnia di fatto le città si formano sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono città industriali prevalentemente, tra l'altro con una forte presenza dell'industria militare e anche questo dovuta semplicemente al fatto che si trova nel cuore del paese e quindi è una zona più difendibile, tra virgolette, nell'ipotesi di un'invasione esterna. Ok, potrei parlare molto lungo di questo, ma vado un attimo avanti. Ok, vabbè, questa è sempre una mappa, ma ancora peggio di quell'altra, su tutta il territorio di Jugoslavo. Ok, questa mappa in qualche modo rappresenta il risultato della guerra, no? Questa è una mappa del 1998 sulla base di proiezioni in realtà, perché non è stato fatto un censimento nel 1998, ma che rappresenta invece la presenza nazionale sul territorio della Bosnia alla fine della guerra, in maniera abbastanza credibile, cioè rimane abbastanza evidente come la guerra riesce ad ottenere quell'obiettivo che sembrava irrealizzabile guardando la mappa precedente, cioè creare territori etnicamente puri in un'area dove la popolazione vive così fammischiata insieme. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso lo sterminio, attraverso l'immigrazione forzata di una parte significativa della popolazione bosniaca, viene raggiunto attraverso lo spostamento forzato di popolazione, la pulizia etnica essenzialmente. Questa mappa mostra la presenza, il colore blu rappresenta la popolazione croata, quello rosso la popolazione serba e quello verde la popolazione musulmana. Nelle aree gialle sarebbero i cantoni dove diciamo c'è una compresenza tra croati e musulmani, in realtà sono aree anch'esse divise al proprio interno. L'esempio più evidente è la città di Mostar che è una città ancora oggi di fatto divisa in due, con una popolazione musulmana che vive da una parte della città, la popolazione croata che vive dall'altra parte della città. Quindi anche se in questa mappa sembrerebbe essere un luogo, quel cantone, un luogo di convivenza, in realtà non lo è nemmeno quello. Quindi una separazione molto netta della presenza della popolazione sul territorio. Ora fortunatamente in questo preciso momento la realtà non è esattamente identica come era nel 98, ma come scoprirete quando andrete in Bosnia, non è così dissimile in ogni caso. Il caso di Mostar poi può essere preso ad esempio rispetto al proprio discorso che facevamo rispetto alle città, perché Mostar che era forse la città più multietnica in assoluto della Bosnia alla vigilia della guerra e non a caso una delle principali vittime della guerra. Il ponte di Mostar famoso battuto dall'artiglieria croata è un esempio simbolico, ma la città di Mostar è una di quelle che viene veramente devastata alla salsuora nel corso della guerra e in qualche modo rappresenta simbolicamente quello che è uno degli elementi più importanti della guerra negli anni 90, cioè una guerra combattuta in qualche modo semplificando molto dalle campagne contro le città, ma sostanzialmente da popolazioni non abituate alla convivenza diciamo così, contro città che invece rappresentano, sono in qualche modo il simbolo, ma anche concretamente sono il luogo di convivenza e di commistione tra le diverse identità. E quindi le città sono le vere vittime della guerra. Certo la guerra avviene anche nei villaggi, anche i villaggi vengono distrutti raso al suolo eccetera, ma essenzialmente la guerra in Bosnia e la guerra di Yugoslavia in generale sono guerre che distruggono le città come luoghi di convivenza. Non a caso la prima città raso al suolo, che è anche la prima città in Europa raso al suolo dopo la seconda guerra mondiale, è Vukovar che si trova nella Slavonia, cioè a nord della Bosnia, al confine tra Serbia e Croazia più o meno. Di nuovo Vukovar è una delle città più multietniche della Jugoslavia alla vigilia della guerra. Quindi in qualche modo i nazionalismi che si contrappongono nel corso della guerra non si combattono gli uni contro gli altri, come ci si immaginerebbe, ma combattono contro l'idea di convivenza tra singole identità nazionali. In fondo questo è il vero nemico dei nazionalismi. Non è così illogico se ci pensiamo. In fondo vale per tutti i sovranismi e di oggi, anche i nostri, anche i nostri sovranismi italiani che sono così diffusi negli ultimi anni. In fondo il nemico del sovranista, del nazionalista non è l'altro nazionalista. L'altro nazionalista lo rispetto perché in fondo ha la stessa mia idea e ci possiamo mettere raccordo sui confini, diciamo così. Importante che i voi stiano di là, i vostri stiano di qua, che ci sia una separazione netta. Quello che è insopportabile per i nazionalisti è invece chi è disposto a convivere, chi non ha un'identità netta, chi non è identificabile e chi non è identificabile nelle guerre di Yugoslavia finisce male, nel senso che o viene ucciso o è costretto a espatriare e chi è costretto a espatriare non tornerà mai nel suo paese, nel senso che qualcuno è tornato, non è che non torna nessuno, ma tornano in un paese che non è più il loro paese, perché quel paese lì, quel paese dove era possibile convivere con altre identità religiosi, culturali, eccetera, non esiste più, non esiste più da nessuna parte. Quindi in qualche modo è scomparsa quella stessa idea di convivenza che esisteva prima. E quindi in qualche modo, anche che è tornato appunto, non è mai più tornato a casa realmente, ma poi la maggior parte in realtà non sono tornati, la maggior parte di quelle persone che avevano quel tipo di idea non sono tornati. Dicevo il caso di Mostar è semplificativo perché Mostar che aveva 120.000 abitanti prima della guerra, ora ne ha 100.000, prima della guerra di questi 120.000, 25.000 erano serbi, uno potrebbe pensare legittimamente che beh certo non ci sono più i serbi a Mostar e quindi semplicemente sono andati via i serbi e la popolazione è rimasta quella, non è così. Sostanzialmente di quei 120.000 che evitavano prima della guerra sono andati via tutti i serbi, quindi 25.000 serbi non ci sono più, adesso ce n'è qualche decina, sono andati via più del 50% di croati musulmani, quindi diciamo almeno 50.000 croati musulmani, che erano in gran parte figli di coppie miste o persone comunque che non si riconoscevano in queste contrapposizioni e non sono mai più tornati, sono andati a vivere a Belgrado, a Zagabria, a Sarajevo oppure all'estero, soprattutto all'estero e la popolazione che ha ripopolato la città è popolazione che invece viene dalle campagne, che spesso ha subito la pulizia etnica e che non ha quel tipo di mentalità cittadina, non ha quel tipo di mentalità tollerante, aperta e disposta ad accettare le differenze. Questo spiega anche perché è ancora una città divisa quella città. Io forse farei una pausa, nel senso che anch'io devo rifiattare un attimo, però soprattutto vi chiederei davvero di farmi delle domande, qualunque tipo di curiosità e vi ringrazio vi ringrazio di avermi ascoltato. ho adesso mai più, tra virgolette. Ha buttato lì davvero tante questioni, ha attraversato veramente un sacco di anni di eventi storici, quindi se avete delle cose che non vi sono apparse chiare, perché effettivamente ha messo tanta carne al fuoco, approfittatene in questo adesso, insomma, abbiamo la possibilità di averlo qui con noi. Se volete qua c'è anche un bellissimo microfono a disposizione. Parlo forte. Vabbè, te Ivano sì, eh? Lei ha parlato molto di religioni, di etnie, eccetera, però sappiamo che le guerre normalmente vengono usate per fare scocciare la guerra, le religioni e le etnie, ma i veri motivi economici e le vere ragioni economiche che hanno fatto scocciare queste guerre, quali sono esattamente? Cioè, io capisco le religioni, le etnie, eccetera, però dietro sicuramente ci sono delle ragioni economiche che hanno spinto a fare questo. Sì, ma sì, un po' lo accennavo prima, diciamo, la crisi economica negli anni Ottanta sicuramente è una delle problematiche che, diciamo, portano alla guerra. In un contesto di, come dire, indebolimento dello Stato, indebolimento economico dello Stato e quindi di diminuzione delle risorse, diciamo, disponibili, succedono due meccanismi. Da una parte gli uomini di potere cercano di accaparrarsi le risorse il più possibile prima che sia troppo tardi. E quindi c'è una sorta di competizione per acquisire le risorse, ad esempio attraverso la privatizzazione, il fenomeno opposto alla nazionalizzazione che avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale, ad avere una privatizzazione molto rapida e molto selvaggia che viene fatta nei primi anni 90, nel corso della guerra, e che favorisce ovviamente i gruppi di potere in gran parte quelli che avevano anche governato prima. Perché poi spesso questi leader che prendono il potere sono gli stessi leader di regime, diciamo così, che si trasformano in regimi in leader nazionali. In questo senso è strumentale, è evidente quanto sia strumentale l'uso dell'idea nazionale, delle religioni, eccetera. Sulle religioni direi che nel caso di Gustavo veramente dobbiamo prenderle proprio con le pinze, perché la religione è uno degli elementi delle identità culturali, delle identità nazionali. Non si può assolutamente parlare di quella di religione in questi territori. Adesso anche qua noi guardandole in prospettiva magari rispetto all'oggi tendiamo a pensare, ah sì, certo i musulmani chissà che idee avevano, non è così. Cioè l'identità religiosa, poi in special modo quella dei musulmani di Bosnia, che sono un tipo di Islam molto laico, molto aperto, non hanno un peso così rilevante dal punto di vista religioso, quanto più che altro nella distinzione delle identità nazionali. In qualche modo in Bosnia, in questo territorio, la religione è l'unico elemento che distingue le persone, cioè queste identità nazionali, in che modo le puoi vedere concretamente in Bosnia, in un territorio, a Sarajevo, cioè due persone che vivono nella stessa casa evidentemente parlano la stessa lingua. Che cos'è che le distingue? Nemmeno l'andare in chiesa o in moschea, quanto il fatto che i loro nonni o che abbiano una tradizione culturale in famiglia che fa riferimento all'Islam, piuttosto che alla chiesa ortodossa, piuttosto che alla chiesa cattolica. Però appunto, dicevo, la crisi economica porta con sé due meccanismi. Da una parte quello, appunto, le elite politiche che cercano di accappararsi le risorse, le privatizzazioni, eccetera. Dall'altra è di mantenersi al potere anche, perché chiaramente in un momento di crisi politica ideologica, chi ha governato fino ad allora non è disposto a lasciare il potere facilmente. E quindi il fatto di trasformarsi in leader nazionalisti gli consente di rimanere al potere. E dall'altra la paura, la paura della popolazione, nell'opinione pubblica, di impoverirsi, di trovarsi senza le risorse che avevano prima, eccetera. Questo lo vediamo tutti i giorni anche noi, è un meccanismo, sono meccanismi comuni a tutte le situazioni di crisi, di crisi economica in particolare. E quindi di nuovo la paura di perdere quello che hai, che ti porta a stringerti, come dire, più facilmente a cogliere l'idea di microidentità perché ti stringi nella tua microidentità. Come uno che ha paura tende a difendere i propri familiari prima che lo Stato. E quindi il meccanismo è lo stesso, cioè l'uso strumentale dell'idea di nazione, come dire, incontra la paura di chi teme di rimanere senza risorse e quindi dice, beh, almeno rimaniamo compatti noi, ecco. E quindi in questo senso sono d'accordo con te, in gran parte sono strumentali ma poi hanno però una presenza nella mente delle persone, che in qualche modo anche si costruisce nel corso della guerra, perché ad esempio per tornare all'Islam nel caso dei musulmani di Bosnia, in qualche modo l'Islam si diffonde nel corso della guerra. Stiamo parlando anche di una società comunista, nel senso alla vigilia della guerra, questo era un paese che aveva avuto 45 anni di comunismo. Il comunismo jugoslavo non era né come il comunismo sovietico né tantomeno come quello albanese che vietava addirittura la religione, se ti beccavano che pregavi finivi in galera. In Jugoslavia potevi tranquillamente, c'era un sacco di gente che andava comunque in chiesa e in moschea, potevi tranquillamente esprimere la tua religiosità, ma era, diciamo, socialmente disdicevole e non era così diffuso. E quindi alla vigilia della guerra, in realtà le persone realmente religiose erano una infima minoranza. Nel corso della guerra si crea una sorta di ridiffusione delle religioni che viene, che in qualche modo ha origini di nuovo nella paura, nella difficoltà delle persone, ma che incontra anche una volontà dall'alto di riproporre queste identità religiose. Non so, mi viene in mente la costruzione di Sveti Sava Belgrado, che è una mega chiesa, la più grande chiesa dei Balcani, che non è ancora finita adesso, che viene cominciata negli anni 90, viene ripresa negli anni 90, diciamo. o altre leggende. Nel caso dell'Islam musulmano è evidente come in Bosnia ci sia un tentativo di diffusione dell'Islam anche dall'alto, diciamo, da parte dei leader politici. Iterbegovic è leader di un partito politico che propugna una unità bosniaca, uno stato bosniaco unitario, nella stessa logica della Jugoslavia unitaria propugnata dal re serbo, cioè facciamo la Jugoslavia unitaria ma comandiamo noi. In fondo il partito di Zezbegovic ha la stessa prospettiva, cioè fatemmo la Bosnia unitaria ma visto che noi siamo una maggioranza relativa, governiamo noi e poi in fondo siamo noi i veri bosniaci, i serbi hanno il loro stato, i croati del loro stato, questo è il nostro. Quindi la logica è quella ed è anche una logica in cui la religione ha un peso rilevante. Zezbegovic era da ragazzino, era un attivista diciamo musulmano, integralista, poi insomma ha portato avanti forse tutta la sua vita, di fatto da prospettiva politica di tipo anche con riferimento alla religione musulmana molto forte. Quindi sicuramente questa cosa anche spaventa le altre comunità. Non so se più o meno ho risposto. Paolo vuole parlare? Allora, forse in parte ha già risposto adesso però. a proposito di etnia, identità, non so come chiamarlo. Mi è abbastanza chiaro cosa vuol dire che un abitante si definisce croato o serbo o sloveno, uno scrive civico, poi magari sono serbo ma abito in Croazia, sono croato, ma i bosniaci, la Bosnia, cioè sono i musulmani, sono un'altra cosa, anche la guerra che è scoppiata a me è sembrata da quel molto colletto che per poco ho capito, che essendo la Bosnia poi in realtà mezzo abitata da serbi e l'altra metà con tanti croati e così, si vogliono poi, se lo volevano dividere, perché non ho capito ancora bene cos'è la Bosnia, chi sono i bosniaci, sono tutti musulmani, no, credo di no, si, 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 volentieri. Ma dunque, allora, è una questione complessa, cerco di prendere un po' da lontano, cerchiamo di capirci. Allora, innanzitutto ci sono ragioni storiche per cui la Bosnia è così oggi, ovvero, la Bosnia è stata, a partire dal 400, progressivamente inclusa nel sistema ottomano, fino al 1878, col congresso di Berlino, quindi per 300 anni buoni, è stata all'interno dell'impero ottomano e quindi è stata in qualche modo islamizzata. L'impero ottomano, non so se avete un'idea, ma non imponeva la religione islamica, assolutamente, l'impero ottomano era pieno di persone che praticavano altre religioni, anche lì era, diciamo, socialmente svantaggioso non essere musulmano, ma potevi tranquillamente farlo. Quindi, in Bosnia, una parte di popolazione consistente si è convertita all'islam, non solo in Bosnia, tra l'altro, anche nei suoi territori, in Serbia, eccetera, ma in realtà ha continuato ad esserci una presenza di altre religioni molto significativa. Nel 1878, con congresso di Berlino, la Bosnia passa a uno status particolare fino al 1908, quando poi viene annessa all'impero austro-ungarico, in quegli anni ha uno status particolare perché ufficialmente fa parte dell'impero ottomano, ma di fatto è già amministrata agli austriaci. Quindi, diciamo, per semplificare, dal 1878 fino al 1918 fa parte dell'impero austro-ungarico, in pratica, e quindi di nuovo subisce una nuova influenza culturale che è quella dell'impero austro-ungarico, che invece, in qualche modo, anche lì è un impero che include religioni e nazionalità diverse, ma che favorisce in qualche modo il cattolicesimo. Dopodiché c'è tutta la storia di cui abbiamo già parlato. All'interno di questo territorio, per queste ragioni storiche, per queste eredità storiche, ci sono, vivono, diciamo, alla vigilia della guerra degli anni 90, popolazioni di identità nazionali e religiose differenti. Essenzialmente, ci sono tre grandi comunità, diciamo così. Quella serba, quella croata e quella bosniaca. Adesso cerchiamo di capirci. Tutti e tre fanno parte della, tutti e tre attualmente hanno la cittadinanza bosniaca, cioè sono cittadini dello Stato che si chiama Bosnia-Herzegovina. Quindi il bosniaco, il termine bosniaco indica il cittadino dello Stato. Come da noi può essere cittadino italiano, una persona originaria in Ghana, come una persona originaria dell'Alto Adige, come una persona originaria di Torino. Sono tutti e tre cittadini italiani, ma hanno identità nazionali differenti. All'interno della Bosnia, quindi ci sono tutti cittadini bosniaci, quello erano anche prima, erano cittadini della Repubblica di Bosnia all'interno dello Stato. Dopodiché ci sono tre grandi, appunto queste tre grandi comunità che hanno identità culturali differenti. Allora, le differenze linguistiche non esistono perché vivono nello stesso territorio, quindi non è che parlano lingue diverse, parlano la stessa identica lingua. In quel caso le differenze linguistiche ci sono tra il serbo e il croato riguardano il serbo di Belgrado e il croato di Tagabria, nel senso che vivono posti distanti e parlano leggermente differente. Ma come dico spesso, parlano differente come parlo differente io che sono di Torino e uno che è di Bari, ma non perché io parlo dialetto e lui parla dialetto. Io parlo un italiano che si parla a Torino e uno che parla italiano a Bari parla un italiano diverso, ma anche uno che parla italiano a Modena parla un italiano diverso. Cioè tutti noi parliamo con sfumature leggermente diverse di linguaggio, quando parliamo italiano intendo, non il dialetto. E quindi questo riguarda anche i territori di Bari. Nel caso però del cittadino di Sarajevo parlano tutti la stessa identica lingua, hanno lo stesso accento, gli stessi modi di dire. Che cosa li distingue? Quindi di fatto li distingue soltanto la religione, che di nuovo, ripeto, non è necessario che venga praticata questa religione, ma ha a che fare con una identità culturale relativa alla religione. Per cui la cosa che dicono tutti, le persone con cui parlerete da quelle parti, sostanzialmente riguarda poi le feste, quel genere di cose, per cui il Natale piuttosto che la Pasqua, piuttosto che il Bairam, che è la festa islamica. Quindi essenzialmente sono le religioni che distinguono queste popolazioni. Ora, i serbi sono cristiani ortodossi, la chiesa cristiana ortodossa è una chiesa nazionale, come sapete ogni nazione ha la sua chiesa nazionale, c'è la chiesa ortodossa rumena, la chiesa ortodossa greca, eccetera. Fanno tutte riferimento ad un unico patriarca, ma di fatto hanno ognuno la propria guida religiosa all'interno del proprio paese. Per farvi capire meglio, serbi e montenegrini, che sono sempre stati parte dello stesso mondo culturale, che hanno sempre pensato di essere la stessa popolazione, e quindi hanno sempre avuto un'unica chiesa, la chiesa ortodossa serba era anche presente in Montenegro. Oggi il Montenegro è stato indipendente, è uno stato indipendente che si è creato in qualche modo identificando come nemico nazionale i serbi, in un contesto in cui la popolazione si è sempre considerata serba, quindi una cosa effettivamente quasi assurda, però funziona questa roba e che dimostra veramente come costruire l'identità nazionale a tavolino è possibile. Quindi oggi i montenegrini, poco più del 50% dei montenegrini, si considerano montenegrini e non serbi, considerano i serbi un'altra roba completamente diversa, non si capisce bene sulla base di che cosa, però è così, e lo stato montenegrino ha creato una chiesa nazionale montenegrina, che è uno degli elementi che servono per distinguere noi da voi. Quindi c'è tutta una battaglia sulle singole chiese, se deve essere montenegrino serve, ovviamente la chiesa serba diceva questa chiesa è mia da 600 anni, non esiste che adesso diventa dello stato montenegrino. Però questa cosa evidenzia anche il fatto che c'è una commissione fortissima nelle chiese ortodosse tra identità nazionale e identità religiosa e quindi tra politica e religione anche. Questo succede, in teoria non dovrebbe succedere col cattolicesimo, i croati sono cattolici, non sono cristiani di altro tipo, sono cattolici. Il cattolicesimo come sappiamo è una religione universale, universalista, quindi uno può essere cattolico, che sia peruviano, polacco o croato, dovrebbe essere comunque parte di uno stesso mondo che è il cattolicesimo. Diciamo che i croati cattolici tendono a identificare il cattolicesimo come una chiesa nazionale di fatto e molte gerarchie ecclesiastiche in Erzegovina in particolare, cioè nella parte croata della Bosnia, hanno interpretato il loro ruolo in senso più politico che è religioso. Non mi dilungo su Međugorje, spero che andrete a Međugorje, ne avete bisogno comunque. Dovevamo andarci l'anno scorso. Ecco, vabbè, dopo fate il viaggio a Međugorje per pentirvi di questo bruttissimo viaggio che fate. Però non mi dilungo su Međugorje, ne parliamo un po' in privato, se no mi metto in galera. Però, a parte gli scherzi, invece le cattolicesimo hanno avuto un ruolo significativo nell'estremismo croato, ma di nuovo per le ragioni, perché l'unica cosa che distingue i croati in quella zona è la religione e quindi in qualche modo c'è una commissione molto forte tra religione e identità. Nella Seconda Guerra Mondiale questa cosa è stata drammaticamente evidente non solo dalle conversioni forzate di cui vi ho già accennato, ma anche dalla presenza attiva di membri del clero nelle stragi contro le popolazioni serbe. L'esempio più eclatante è il fatto che per un anno e mezzo il capo del campo di concentramento di Yasei, la nazione del campo di sterminio, è stato un frate francescano. Questo mi vuol dire che la dice tutto. In questo, allora, quindi croati e serbi l'abbiamo detto, è diciamo più semplice, la cosa più difficile, adesso arriviamo, pensavate che fosse finita, invece no, adesso arriviamo al bello, i bosniacchi, cioè i musulmani di Bosnia. Allora, i musulmani di Bosnia sostanzialmente sono in gran parte slavi, popolazioni slavi che si sono convertite all'islam nel 400, 500, 600, nei secoli in cui c'è stata la presenza ottomana, quindi non hanno un'identità etnica, sempre che questa cosa esista, differente dagli altri. Hanno un'identità religiosa differente dagli altri, quindi sono, diciamo, potrebbero essere definiti, equivalenti ai croati e serbi, solo che sono, invece di essere cattori ciortodossi, sono musulmani. Però, c'è una, sono due peculiarità. La prima è che questa identità in realtà è molto recente, cioè mentre l'identità croata e serba risalgono, non che siano, anche quelle, non che si perdono la notte dei tempi. Quando i serbi dicono, nella battaglia di Kosovo Poglia, nel 1389, i nostri guerrieri serbi hanno combattuto contro i turchi, dicono una mezza falsità, perché nel 1300 non esisteva neanche il concetto di essere serbi. Cosa vuol dire essere serbi? L'identità nazionale serba nasce come tutte le identità nazionali tra la fine del 700 e l'inizio del 800, cioè prima uno si considerava contadino o barone o qualcos'altro, ma non c'era questa distinzione nazionale. Parlava quella lingua lì, la mia lingua di suono, semplicemente non... quindi vabbè. Quindi l'identità nazionale musulmana però si costruisce molto più tardi delle altre. Tendenzialmente, ancora nella seconda guerra mondiale, la maggior parte dei musulmani in Bosnia si consideravano tendenzialmente i croati perché era meglio, perché se ti consideravi serbo i giustici ti ammazzavano, quindi si consideravano croati, i musulmani. L'identità musulmana si costruisce in parte nel corso della guerra, della seconda guerra mondiale, anche grazie al movimento partigiano che in qualche modo accoglie i musulmani, dandogli un riconoscimento di diversità rispetto ai croati. E poi, dopo la seconda guerra mondiale, con la creazione di uno Stato, cioè di una Repubblica all'interno della Jugoslavia, la Repubblica di Bosnia, che in qualche modo riconosce la presenza anche dell'identità musulmana. La Jugoslavia socialista ha avuto diverse costituzioni. In una di queste costituzioni, non la prima, nel corso dei decenni, viene riconosciuta l'identità musulmana come identità nazionale, per cui tu fin da subito potrevi dichiarare nel tuo censimento e nel tuo documento di identità, potevi dichiarare l'identità nazionale e la religione di riferimento, che praticavi. La religione potevi dire che eri musulmano anche prima. A un certo punto, dagli anni 60, tu puoi dichiarare anche la tua nazionalità musulmana. Non viene ideato un termine nuovo, perché di fatto l'unica cosa che li distingue è l'essere musulmani, quindi da quel momento in poi tu puoi dichiararti come nazionalità musulmana, musulmana con la M maiuscola, per distinguere la musulmana come religione con la M minuscola. È una cosa complicata, però il concetto è questo. Fino a che esiste la Jugoslavia, quindi, l'identità musulmana, si costruisce in maniera sempre più significativa come distinta dagli altri, anche sulla base di questa M maiuscola. A partire dagli anni 90, la nuova elite politica musulmana di Bosnia, quella guidata da Zezbegovic, per capirsi, crea, inventa un nuovo termine, che è quello bosniacco, che si usa ufficialmente oggi, io tendenzialmente non lo uso, perché secondo me fa confusione tra bosniacco e bosniacco, un italiano medio non capisce niente, però è il termine ufficiale e ovviamente io non lo uso anche perché ha dei risvolti politici evidenti, cioè nel momento in cui tu dici i cittadini musulmani si chiamano bosniacchi e quindi il nome in qualche modo equivale al nome dello Stato, stai dicendo questo è il nostro Stato, che è quello che vuol dire Zezbegovic, adesso c'è il figlio al governo e quindi Zezbegovic, sì che sta governando ora perché Zezbegovic è morto diversi anni fa, però è esattamente quello che volevano dire, cioè il messaggio è che lo Stato della Bosnia è dei bosniacchi, lo dice la parola stessa, e gli altri, i croati e i serbi sono degli estranei emigrati qui e dovrebbero andarsi nei loro rispettivi Stati, ce l'hanno uno Stato e esattamente la logica nazionalista che dicevamo prima, in cui i nazionalisti si trovano perfettamente d'accordo, basta decidere dove mettere la frontiera, per cui basta che stiamo separati, voi state di là, noi stiamo qua però, la Bosnia e i bosniacchi, questa è la logica, adesso sto estremizzando molto, semplificando insomma, però il concetto è questo. Poi la, diciamo, gli ideatori di questo termine bosniacchi anche fanno riferimento al fatto che prima dell'arrivo agli ottomani esisteva una popolazione in Bosnia di cui si sono perse più o meno le tracce, si sa pochissimo, che si chiamavano Bogumili, che erano cristiani eretici e che hanno lasciato in realtà come principale, ricordo di, diciamo, segno di memoria delle lapidi, delle tombe, ok, che avete già visto, perfetto, che sono presenti in tutto lo spazio bosnico, ma non solo in Bosnia, ci sono anche in Montenegro, in Serbia, nella parte centrale della Jugoslavia, diciamo, erano presenti, erano i direttici probabilmente simili ai catari, diciamo, come tipo di, che erano sottoposti quindi, come è successo ai catari, a repressione da parte dei cattolici principalmente, quindi quando arrivano gli ottomani scompaiono i Bogumili, cioè dopo non si sa più nulla. Allora, chi sostiene questa, anche l'uso del termine bosniaco, di solito sostiene anche che i musulmani sono gli eredi dei Bogumili, che in realtà si sono convertiti all'Islam per salvarsi la vita e che quindi sono i veri cittadini di questo Stato, cosa che peraltro è di nuovo un gioco tipico dei nazionalismi, che usano la storia per i propri interessi e che fanno sempre coincidere il proprio Stato con la popolazione più antica, cioè noi c'eravamo da prima, ovviamente i coranti dicono no, ma noi siamo gli eredi degli Illili, che c'erano ancora prima dei Romani, quindi ancora meglio, cosa vuoi di più? E insomma, quindi si va avanti così a cercare di andare il più indietro possibile, i macedoni sono ancora più furbi perché fanno riferimento a Alessandro Magno e quindi vai, cioè, li battono tutti. Hanno fatto una stazza di Alessandro Magno è alta 20 metri a Scopie e ovviamente Alessandro Magno era il nome, ma tra l'altro il territorio della Macedonia dell'epoca non coincideva nemmeno con la Macedonia di oggi e Alessandro Magno ovviamente era di lingua, cultura, greca e non c'erano niente con il Macedonia di oggi. L'uso politico della storia mi appassiona molto, prego. Albert, si sente? Albert, vieni qua. Aspetta, no ti porti il microfono tranquillamente. Vai la valletta un po' dai. Ragionando così anche tra amici, sulle guerre balcaniche degli anni 90 abbiamo notato l'estrema violenza che ci sono fatti in conflitto e che quasi ci sembra la violenza non come un fine ma come un obiettivo delle varie parti in lotta. Ecco, volevo chiedere questo, cioè, perché così estrema violenza ci sono testimonianti, insomma, vengono a galla anche cose piuttosto efferate, i meccanismi tra, diciamo, di guerriglia, di guerra simmetrica tra le parti, ecco, perché questa violenza fra persone che erano convidenti fra, diciamo, un giorno prima con delle differenze ovviamente, e poi il giorno dopo si scagliano le une contro le altre, il classico esempio dei vicini di casa, con l'estrema violenza. Ecco, questo è una cosa che anche da appassionato di queste materie faccio fatica a comprare. Grazie, grazie alla domanda. Ma, devo parlare, no, ci sono altre domande? Sì, 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 giocassi lì, sì. Ma si sente, io ho visto a Sarajevo il museo del genocidio e diverse mostre fotografiche dove la guerra, l'assedio di Sarajevo e la guerra venivano descritte, sottolineando, come si dice, prestando attenzione alle vittime civili, senza dire questi di qua, questi di là, questo perché volevano questi, questi perché volevano quell'altro. Cioè la ricostruzione della guerra era centrata solo, scusa, chiedo scusa per questo solo, che sto dicendo ovviamente tra virgolette, solo centrata sulle vittime civili. Come se il percorso per capire che cosa sta succedendo quasi prescindessere, perché e per come centrasse proprio l'obiettivo su questa cosa qua. Questa cosa mi ha colpito tantissimo. E ho visto, cioè, andateci, andateci, per metri di tempo, è un museo importante, diverse mostre, insomma, importanti. E poi ho visto che la parola paratengo, ho chiacchierato un po' con alcune persone e questo sentimento che in Italia è arrivato con lo slogan di Ugo Nostalgia, un pochino l'ho notato, chiacchierando qualcuno ha detto sì però. E volevo capire quanto è, quanto è a viva di sponda a noi o quanto invece è autentico. Grazie comunque per la sua relazione di grande interesse. se ci sono altre domande così le accorpiamo? Io ho una certa età e non so se mi ricordo tutto poi. Ma sono solo un'età? No, per ora sì. No, va bene. No, va bene, ma al limite dopo comunque. Abbiamo ancora tempo, no? Abbiamo ancora un po' di tempo. Ti ha detto l'una? Sì, ok, ok, va bene. Allora, sulla violenza. Beh, insomma, intanto premetto che forse do una risposta un po' personale, nel senso di che è una domanda un po' prescinde dalle competenze storiche, quindi non so, posso darti una risposta in base all'idea che mi sono fatto io. Io credo che ci siano delle ragioni di tipo pratico e delle ragioni di tipo psicologico in quel tipo di violenza. Scusa, pratico, forse è un termine un po' brutale, ma adesso non spiego perché. Allora, come ho già credo spiegato prima, la guerra, soprattutto la guerra in Bosnia, è una guerra essenzialmente contro i civili, cioè non è una guerra di eserciti contrapposti, non è una guerra di un esercito che vuole conquistare il territorio di un altro esercito e si vede chi vince, come succedeva, non so, diciamo ancora nella seconda guerra mondiale. In questo senso è considerata la prima o la più significativa delle guerre moderne. Le guerre moderne sono guerre contro i civili, sono guerre in cui le vittime civili hanno superato ormai il 90% delle vittime totali, forse anche di più in realtà nelle guerre attuali contemporanee, e cui si è capovolto proprio quindi la percentuale di vittime rispetto alla prima guerra mondiale, che era esattamente il contrario, il 90% delle vittime militari e il 10% delle vittime civili. Quindi il secolo breve in qualche modo anche in questo si apre e si chiude con un capovolgimento delle percentuali di vittime delle guerre. Allora, quindi in quanto guerra contro i civili è evidente che le violenze, nel senso di violenze di gente armata contro gente disarmata sono molto più presenti che in qualunque altro contesto di guerra. Di fatto quando c'è uno scontro militare tra due eserciti muore qualcuno sicuramente, ma si muore perché uno cerca di uccidere l'altro per non essere ucciso a sua volta, diciamo così, semplificando moltissimo lo scontro militare, la guerra di Piero. In questo caso non è così, si uccide volontariamente per uccidere una persona indifesa per uno scopo preciso. Lo scopo preciso è la pulizia etnica, cioè la creazione di territori etnicamente puri, territori dove non ci sia la presenza della popolazione ritenuta nemica. E ripeto, qua la popolazione ritenuta nemica in gran parte è la popolazione che non si identifica, poi ci sono ovviamente anche moltissimi casi in cui la popolazione ritenuta nemica è l'altra popolazione, diciamo così, che siano musulmani, che siano serbi, che siano croati, ma sono gli altri. Però per ottenere la pulizia etnica, qui c'è anche l'ulteriore elemento di ragione pratica, per ottenere la pulizia etnica l'uso della violenza è rilevante, nel senso che di una violenza anche estrema, di una brutalità estrema, è rilevante, è utile, perché in qualche modo sterminare l'intera popolazione è più complicato che uccidere con la violenza alcuni e convincere gli altri ad andarsene. Quello che avviene in Bosnia essenzialmente è questo, arrivano le bande paramilitari, quelle che sono disposte a fare quel tipo di violenza, quelle che sono pieni di pazzi psicopatici, sadici e che sanno come fare questo genere di cose, non arriva l'esercito, non arriva il soldato di leva, arriva un paramilitare che è abituato alla violenza e che la esercita in un certo modo, uccide con estrema brutalità le popolazioni di un piccolo villaggio, magari 100 persone, sei sicuro che in 5 villaggi vicini la gente andrà via, non è neanche bisogno di andare lì a ucciderli, non è neanche bisogno di andare con i carri armati ad attaccarli, se ne vanno da soli, perché la violenza ha questa efficacia, si diffonde, il terrore si diffonde e quindi funziona, funziona meglio. Quindi in questo senso c'è un uso pratico della brutalità, della violenza che è molto efficace. E poi secondo me c'è anche la questione psicologica, qua forse è proprio l'elemento più mio personale, che io sono convinto che paradossalmente se tu vuoi fare la guerra a una persona che ti è tanto vicina, devi usare ancora più violenza, cioè se tu devi uccidere tuo fratello, usi più violenza che se devi uccidere un totale estraneo. Un estraneo di fatto lo uccidi con freddezza, perché non ti interessa. Per uccidere un fratello hai bisogno di più violenza, di più motivazione, di più rabbia, di più odio e quindi questo secondo me anche in qualche modo è un elemento psicologico che c'è in questa guerra. Proprio perché sono così vicini, vale esattamente il contrario di quello che di solito viene raccontato rispetto alle guerre jugoslave, erano così diversi che per forza gli sono fatti la guerra. È proprio il contrario, erano così uguali che hanno dovuto farsi la guerra in maniera così brutale per potersi uccidere veramente, cioè per potersi separare veramente. Non so se più o meno risposto. Questo in qualche modo effettivamente si collega anche alla domanda sulle vittime civili. Lì secondo me nella ricostruzione dei monumenti, dei luoghi della memoria e dei musei che sono comunque, che raccontano una storia molto recente, nel senso comunque anche se è successo ormai 25 anni fa, però è ancora presente nell'immagine di tutti, è una cosa che fa ancora soffrire le persone che vivono lì. Ci sono secondo me due atteggiamenti che portano a incentrare tutto il discorso sulle vittime civili. Uno è l'atteggiamento vittimista, cioè banalmente noi non abbiamo fatto la guerra, l'abbiamo solo subita, vedi le vittime sono solo civili, non avevamo le armi, era una guerra contro i civili, che in gran parte è vero, questo ha un presupposto principale, è questo, essenzialmente è vero, è una guerra contro i civili e quindi è giusto anche incentrare il discorso sui civili, ma diciamo c'è un elemento che è quello vittimista, che è questa cosa qua, cioè tu vai anche nelle, io sono stato da poco a Gasco, a Trebing, in posti della Repubblica Serbia di Bosnia dove la guerra non è mai arrivata, cioè loro avevano, il loro esercito bombardava Sarajevo, bombardava Dubrovnik, attaccava Mostar, capito? Non erano, loro hanno realmente attaccato e non hanno avuto la guerra lì. I loro monumenti di memoria della guerra sono monumenti alle vittime civili, sono monumenti all'aggressione subita, comunque tutte le parti in conflitto si definiscono vittime e si definiscono aggrediti. E però dall'altra parte c'è un atteggiamento anche che invece è più efficace agli occhi di chi lo guarda, di chi lo guarda da fuori, quindi del turista, dell'occidentale, del finanziatore estero per esempio, che invece vede in quella roba lì un racconto neutro, un racconto neutro, perché se tu dici, se tu racconti la storia della guerra, se tu a Sarajevo racconti la storia della guerra, racconterai per forza la storia di una città assediata dai nazionalisti serbi che ti hanno, quindi stai dicendo noi e loro, stai dicendo ci sono i buoni e ci sono i cattivi ed è giusto che sia così perché nella tua memoria, nella tua storia è così, è l'unico modo che hai di raccontarla. Ma al finanziatore estero o al turista occidentale non vuole vedere quello, non vuole sentirsi dire ci sono i buoni e ci sono i cattivi, quelli là sono i colpevoli e invece noi siamo le vittime. Gli piace molto di più sentirsi dire ma no, in fondo sono tutti civili, ci siamo fatti la guerra tra di noi e purtroppo sono morte tante persone innocenti, cioè questo è un elemento più neutro, più accettabile per tutti e in fondo è più accettabile anche per loro stessi, nel senso che loro stessi si possono raccontare, tutti quanti tra di loro, croati, serbi e musulmani, si possono raccontare la storia della guerra come una storia in cui tutti i civili hanno subito violenze da parte di militari dell'altra parte, che puoi anche non nominare a quel punto, nel senso che c'è i cattivi con le armi, non importa chi siano, e le vittime erano solo civili. In fondo è anche un modo sensato, ragionevole per raccontare oggi, provare a raccontare oggi questa storia senza urtare la suscettibilità gli uni degli altri. Quindi anche lì secondo me c'è una logica anche corretta, non è raccontare la storia così. Io penso che anche io ho visto diversi musei a Sarajevo che hanno questa impronta e penso che in fondo sia la cosa migliore in questo momento, in cui, ricordo ancora così caldo, raccontare la guerra in quel modo lì. Yugo Nostalgia? Sì, qualcuno aveva parlato di Yugo Nostalgia. Sempre tu? Allora, io penso che sia molto presente nell'immaginario collettivo una nostalgia della Jugoslavia, ovviamente ha una presenza diversa secondo dei territori, dei nuovi stati e delle singole persone e anche una differenza generazionale. È però una percezione molto presente che non ha nessuna base politica reale, nel senso non c'è nessun partito politico che si presenta come Yugo Nostalgia. Quindi non c'è nessuna prospettiva politica, non c'è nessuna idea di tornare a creare uno stato unitario da nessuna parte. C'è una nostalgia per i tempi, per i bei tempi che furono, soprattutto nei paesi che ovviamente hanno vissuto invece tempi atroci dopo, quindi in Bosnia soprattutto, ma anche in fondo anche i paesi che comunque sono indeboliti oggi rispetto all'epoca, ma sono perlomeno indeboliti nell'immaginario collettivo. La Jugoslavia è uno stato forte, leader dei paesi non allineati, centrale nel sistema mondiale. Oggi è, non so, un cittadino della Serbia o del Montenegro, come si può sentire? Un paese periferico, marginale, che non ha nessuna importanza. Quindi è logico che si possa sentire nostalgia, provare nostalgia per quello stato in cui viveva, in cui invece che aveva un peso nel mondo. E poi c'è secondo me una nostalgia, questa nostalgia qua che stavo dicendo ad essere ovviamente è più una nostalgia vecchia, nel senso così rappresentata dalle persone di una certa età che hanno visto la Jugoslavia, che se la ricordano e che possono avere una nostalgia proprio della loro memoria personale, e che spesso come tutte le nostalgie hanno anche a che fare con la giovinezza. Quando ero giovane era più bello, se quando ero giovane c'era il fascismo, vabbè sono nostalgico del fascismo, e in quel caso insomma era nostalgico di Tito perché c'era Tito quando ero giovane. Però c'è anche una nostalgia devo dire giovanile, per esempio presente in aree che non ti aspetti, per esempio in Slovenia, in Slovenia è diffusissima e che secondo me ha caratteristiche principalmente estetiche, cioè culturali, ma estetiche direi più che altro. Per cui c'è quelli che portano la maglietta con Tito, quelli che c'è la birra che si chiama Tito, che vendono a Ljubljana, cioè sono cose, perché fa figo, perché funziona, perché alla fine se un turista va in Slovenia non sa neanche cos'è la Slovenia, se gli dici no ma qua c'era Tito, ah Tito sì l'ho già sentito, cioè quindi è una cosa che puoi vendere ai turisti, e quindi insomma caratteristiche ecco di quel tipo lì, quindi non politiche assolutamente, ma di tipo più estetico-culturale, magari anche un po' all'Italia, però è diffusa tra i giovani proprio, giovani, giovanissimi. Non so se più o meno. Bene, e se le domande per Eric sono concluse, volevo chiedere a Michele se aveva voglia di aggiungere in questo momento, ok. Quindi riprendiamo tutto nel pomeriggio, intanto Eric tu fino alle 3.30, quanto tu mi riesci a rimanere. Allora, visto che sono le 12.30, volevo, allora, ci ritroviamo qui alle 2.30, facciamo il contrario di quello che avevo detto, cioè nel senso vi do quelle informazioni rispetto al viaggio, in quel momento si trattano queste di mezz'oretta, così le persone invece che non sono legate al viaggio possono chiaramente, possono congedarsi, ci ritroviamo qui alle 4.30. Le persone invece che vengono in viaggio con noi, se rimangono un attimo, giusto per avere uno scambio di informazioni, diciamo, di carattere pratico. Allora, intanto, c'è nel senso che possono anche rimanere in sala, non è che ce ne vogliono cacciare via, è che magari può essere meglio, ma possono tranquillamente rimanere, non c'è nessun problema, non volevo fare questa parte di scuro. Perciò che lo parla di invidia poi di chi non viene. Allora, ricominciamo. Allora, se prendete posto possiamo ricominciare, il quarto d'ora accademico direi che è abbondantemente finito e ricominciamo i lavori del pomeriggio con l'intervento di Michele Nardelli, come dicevo anche questa mattina, ci accompagnerà anche in questo secondo viaggio e quindi avremo, per chi partirà con noi la prossima settimana, avrà l'opportunità di continuare ad ascoltarlo anche in viaggio. Quindi lascio a lui la parola e teniamo tutte le domande al termine dell'intervento di Michele, come abbiamo fatto questa mattina con Erich. Sì, mi tengo qualcosa anche per il viaggio, perché se no... Vedi tu, al tuo buon cuore. Allora, beh, stamattina abbiamo avuto una disamina molto efficace, a me parso, insomma, della storia passata e recente dei Balcani e quindi in particolare della vecchia Jugoslavia, per cui credo che valga la pena ora concentrarsi su qualche aspetto che più può in qualche modo incuriosirci rispetto non soltanto a quello che è accaduto ma a quello che sta accadendo. Quindi ragionare non soltanto appunto avendo chiaro le vicende della storia, ma anche il loro significato, quello appunto che avremmo dovuto capire. Questo è un po' appunto il titolo anche della mia relazione. Ovviamente per chi ha partecipato al viaggio dello scorso anno un po' di queste cose le hanno già ascoltate ma una ripassata non fa mai male e invece appunto penso anche di arricchirlo con quest'ultimo, con alcune considerazioni che mi vengono da quest'ultimo viaggio che ho fatto proprio dieci giorni fa. Io da un anno e mezzo sto facendo una cosa che si chiama viaggio nella solitudine della politica. Si tratta di un viaggio che dura per due anni e mezzo o tre sostanzialmente e che è fatto di diversi itinerari, alla fine saranno 20-25 itinerari attraverso altrettanti limes del nostro tempo. Quando parlo di limes del nostro tempo parlo di luoghi che sono significativi dal punto di vista paradigmatico, cioè di quello che sta accadendo e di quello appunto che dovremmo capire perché fa parte del nostro tempo, insomma di quella capacità di visione di ciò che accade che purtroppo oggi la politica ha spesso smarrito ma molto spesso anche non soltanto la politica, anche le istituzioni perché si vive sostanzialmente alla giornata. Io credo che questo sia il tratto più preoccupante della crisi della politica e quando parlo della crisi della politica non parlo soltanto dei partiti, parlo dell'insieme dei corpi intermedi e anche delle istituzioni perché la fatica a mettere a fuoco è davvero una fatica che io avverto in maniera molto preoccupante. Prima ancora di ragionare su quello che avremmo dovuto capire, potrebbe dire ragioniamo di quello che non abbiamo voluto vedere perché insomma mi pare che le persone che siano qui non siano proprio di primissimo pelo insomma e quindi c'eravate quasi tutti quando è accaduto appunto la tragedia dei Balcani negli anni 90 e quindi è davvero incredibile come nonostante la vicinanza geografica, nonostante la prossimità che derivava anche dall'arrivo dentro l'Europa di centinaia di migliaia di profughi che venivano da quella regione, noi abbiamo guardato in maniera distratta a quello che stava accadendo in questo pezzo d'Europa insomma. E credo che questa cosa ci deve in qualche modo farci interrogare perché noi appunto abbiamo una guerra che avviene all'interno dell'Europa, nel cuore dell'Europa, negli anni 90 e noi quasi non la vediamo. Tutti noi, mi piacerebbe proprio chiedervelo a ciascuno di voi, sapete e sappiamo dove eravamo quell'11 settembre 2001 quando venne fatto l'attentato alle Torri Gemelle. Ci lo ricordiamo perfettamente e sappiamo che quella cosa determinò 2.974 vittime, 2.999, sono dato ad aggiornarmi con alcuni effetti collaterali, 2.999. e perché? Noi non sappiamo assolutamente dove eravamo quel 11 luglio 1995, non c'erano poi tanti anni di distanza, sono semplicemente sei anni insomma. Eppure voglio dire, noi abbiamo conosciuto solo a Sebrenica quella cosa che ha potuto essere definita genocidio, il primo genocidio dalla fine della seconda guerra mondiale nel cuore dell'Europa. 8.372 vittime stando a quelle come dire riconosciute insomma, ma in realtà sono anche di più. Allora perché ci ha colpito nel nostro immaginario, fino ad averlo scolpito dentro di noi, voglio dire appunto l'attacco alle Torri Gemelle e Sebrenica voglio dire appunto, probabilmente se chiediamo alle persone che appunto incontriamo per strada, nemmeno ci sanno dire di cosa stiamo parlando. Poniamoci questa domanda, perché io credo che questa abbia molto a che fare con le tante domande che vi ponete, che vi porrete quando facciamo il viaggio, perché io credo appunto che sia molto utile interrogarsi su questa rimozione. Nessuno può dire di non avere oggi gli strumenti per sapere, noi sappiamo quello che vogliamo sapere. Un tempo la conoscenza era monopolio delle classi privilegiate, delle classi colte, eccetera. Oggi non è più così. Noi oggi sappiamo perfettamente quello che vogliamo sapere. Abbiamo tutte le informazioni, basta che uno se le vada a cercare, basta che sia un po' curioso, voglio dire, ma grosso modo non è che ci siano delle paratie, insomma, dei compartimenti stagni attraverso i quali isolare un argomento. Noi, voglio dire appunto, sappiamo quello che vogliamo sapere. Io credo che più di una volta, insomma, io stesso mi sono chiesto ma perché questa situazione, questa disparità, appunto, anche nel conto macabro dei morti, insomma, perché 8300 sono quasi il triplo dei morti nelle torri, e io non voglio fare graduatorie di importanza, perché figuriamoci, insomma, no? E però è stravagante, voglio dire il fatto che noi, appunto, di questa cosa non ne sappiamo niente o ne abbiamo sentito parlare in maniera molto, molto vaga e ancora oggi, appunto, abbiamo risposte piuttosto accomodanti o comunque che rientrano dentro lo schema del, come dire, insomma, dei luoghi comuni, ecco, insomma, così, no? Perché noi conosciamo dei Balcani, soprattutto i luoghi comuni. Io credo che ci sia una risposta, e cioè che noi, appunto, rimuoviamo tutto ciò che fa parte della complessità. Se una cosa è complessa, se una cosa non la possiamo giudicare in bianco e in nero, questa cosa, voglio dire, fatichiamo, e siccome non abbiamo voglia di faticare, no? A capire, allora preferiamo metterla da parte, insomma, se le cose rientrano dentro il nostro schemino mentale, vuol dire, è tutto semplice. Se invece questa cosa ci rompe degli schemi, allora preferiamo, appunto, non porci le cose, insomma. E quindi noi oggi, appunto, nonostante siano passati 25-30 anni da quegli avvenimenti, appunto, ancora oggi continuiamo con i luoghi comuni. La persona che stamattina ha fatto la domanda, Andrea, no, sulla questione della violenza, Alberto, non ha posto, ovviamente, questa questione in termini, appunto, ha posto una domanda seria. E però guardate che spesso io ho a che fare con persone che mi dicono, che si danno già la risposta, ah, ma lì è sempre stato così, perché c'è, come dire, un carattere belluino delle persone, insomma. Lì le persone hanno, come dire, la guerra nel sangue, no? Che magari questa cosa, probabilmente, ha a che fare con racconti dei nonni, perché l'occupazione dell'Albania, voglio dire, c'era l'esercito italiano, insomma, quindi probabilmente i racconti che ci sono stati fatti hanno qualcosa a che vedere. Ma, ripeto, questa cosa, appunto, ha molto a che fare, appunto, con lo stereotipo di gente cattiva, di gente violenta. Io credo, voglio dire, che se andassimo a vedere il tasso di aggressività delle persone nei Balcani scopriremo, voglio dire, che non è particolarmente diverso dal nostro, insomma. Tant'è vero che noi impariamo molto velocemente tutto quello che non dovremmo imparare, insomma, o meglio che... Allora, io credo che il... questa cosa, appunto, debba... dobbiamo capirla, insomma, cercare, appunto, e io cercherò oggi pomeriggio di parlare soprattutto di questo. Poi, se vogliamo, possiamo anche ragionare d'altro, ma, insomma, a me pare importante riuscire... E, guarda, questa cosa non è che riguarda le persone che non hanno semplicemente voluto... Cioè, Paolo Rumis, in Maschere per un Massacro, ad un certo punto parla degli negoziatori, nei lunghi anni di trattativa sulla crisi, appunto, dell'inizio degli anni 90. E parla di vari personaggi, da Holbrook ad altri che hanno avuto nelle loro mani il destino di migliaia di persone. E lui racconta della mediocrità, racconta del fatto che anche nel rapporto che gli stati nazionali hanno avuto nei confronti, e più in generale della diplomazia internazionale, ha avuto nei confronti di quella crisi, come, appunto, un tratto di mediocrità. Anziché cogliere la gravità di quello che stava accadendo e la difficoltà di venirne a capo, hanno mandato sul terreno, come dire, degli apprendisti sostanzialmente. Persone che non avevano la ben che minima capacità di affrontare queste situazioni, insomma. Racconta di una conferenza a cui partecipò il Ministro degli Esteri allora, Susanna Agnelli, no? Sì. In cui lei, vuol dire, non sa neanche chi sono le persone che ha intorno a un tavolo, insomma, ecco. E dici, ma come? Come è possibile che una persona che deve fare una negoziazione non abbia neanche avuto la curiosità di documentarsi sulle persone che aveva intorno a un tavolo? Io credo che questo è, come dire, quello che purtroppo ancora segna il rapporto con quella regione. Rumis dice, Karadis e Milosevic, al cospetto di questi signori, sembravano dei giganti. E per chi ha studiato un po' di vicende che riguardano appunto la storia della crisi jugoslava degli anni 90, sa bene quanto sia l'uno che l'altro fossero loro stessi apprendisti stregoni. Nel senso che uno era un psicopatico che giocava a carte a poker dalla mattina alla sera e quell'altro era un mediocre dipendente bancario, insomma, quindi, no? E ciò nonostante, anche al cospetto di Bill Clinton, questi sembravano dei raffinati strateghi. Io credo che questo, appunto, è una domanda che, appunto, lascio aperta sulla questione della rimozione, ecco, per il nostro confronto qui, ma anche per, appunto, il viaggio. Riprendo un paio di cosucce di questa mattina, tanto per entrare poi, spero in maniera più efficace, nel merito delle questioni che avremmo dovuto imparare. Eric stamattina, appunto, parlava della, appunto, e alcune domande anche sono state fatte sulla questione della disintegrazione, del perché della disintegrazione della Jugoslavia. E' una domanda che viene rivolta sempre, no? Tu hai a che fare con un grande paese. Tenete conto che le dimensioni anche geografiche della Jugoslavia sono analoghe a quelle dell'Italia. a capo del movimento dei non allineati, tenete conto che il movimento degli non allineati, che per la cronaca c'è ancora, no? Raggruppava al tempo 120, se non ricordo male, 126 paesi, quando il sistema mondo era di 190 o forse anche meno paesi. Quindi immaginatevi il ruolo. Poi il non allineamento, che era in qualche modo anche cullato dalle grandi potenze per accattivarsi, voglio dire, questa dimensione di influenza dopo la fine del periodo coloniale, insomma. Quindi tutti i paesi che finalmente si liberavano dal gioco coloniale entravano a far parte, appunto, tendenzialmente dentro questo grande movimento di cui, ricordo, a capo c'era non soltanto la Jugoslavia, ma anche l'Egitto di Nasser, l'India di Nehru, e quindi abbiamo, oltre alla Jugoslavia di Tito, quindi realtà assolutamente significative sul piano globale. E allora perché, appunto, questo paese si disintegra più di altri? Insomma, contemporaneamente c'è la fine della Cecoslovacchia, no? C'è la divisione tra Repubblica Ceca e Slovacchia e questo non determina una situazione, appunto, di scontro armato. Dentro la stessa Unione Sovietica noi abbiamo un processo di disintegrazione, per cui dalla fine dell'Unione Sovietica nascono, vado a memoria, almeno una decina o anche forse di più di nuovi paesi, no? Anzi, una quindicina di nuovi paesi. E anche questo, nonostante, no? L'unico terreno di scontro armato che si determina è quello, appunto, che avviene nella parte orientale della Moldavia, che dà vita alla Transnistria, insomma. Ma è l'unico episodio, sostanzialmente, no? Poi c'è la situazione balcanica e caucasica, ma è un ragionamento ancora più complesso. E in Jugoslavia, invece, accade questo. Io credo che questa cosa sia certamente legata all'89 e alla fine, voglio dire, no? Ma a qualcosa che potremmo definire implosione interessata. La Jugoslavia esplode per le mille contraddizioni di cui, appunto, si è parlato anche stamattina. E però, voglio dire, appunto, su questa cosa si gioca immediatamente una nuova fase politica, che è la geopolitica del post caduta del muro di Berlino. Per cui, tanti paesi immaginano che dentro la fine della Jugoslavia ci sia qualcosa di interessante anche per loro, no? La disintegrazione diviene motivo per trarne vantaggio. Per cui, la diplomazia immediatamente si mette in moto a sostegno delle affinità religiose, culturali, ideologiche, antichi obiettivi di tipo territoriale e tante altre cose ancora. Per cui, alla domanda che molto spesso qualche jugo nostalgico pone, o meglio, alla risposta che qualche jugo nostalgico si dà a proposito del fatto che si è voluto far implodere la Jugoslavia, la mia risposta è no, non è esattamente così. La Jugoslavia è implosa per ragioni proprie e certamente però su questa implosione hanno interferito tutti quelli che in quel momento potevano avere degli interessi perché questo accadesse. E questo ci fa ragionare anche sul fatto che non è che ci sia semplicemente un prima e un dopo. Nel senso che la Jugoslavia, i meccanismi che poi andremo a vedere, non è che iniziano con la caduta del muro di Berlino o con l'inizio della guerra. C'erano già tutti. C'erano dentro già tutti, insomma, nelle ragioni che hanno portato alla fine. Allora, cosa avremmo dovuto capire? Io continuo a dire che analizzare i Balcani, e i Balcani e in particolare l'area Jugoslava, rappresentano una sorta di caleidoscopio sulla modernità. Cosa voglio dire con questo? Un caleidoscopio è quello che ti aiuta a capire i processi sostanzialmente. E noi osservando quello che è accaduto dentro questa parte d'Europa negli anni 90, potremmo leggere tante cose con le quali noi oggi qui in Italia abbiamo a che fare. Ma tante, no? E io ve le elenco, insomma, o ne parlo in qualche modo. Allora, in primo luogo, noi stiamo parlando di Europa. prima, come dire, cosa che avremmo dovuto capire. Stiamo parlando di Europa e questa cosa non è scontata, perché io sento continuamente, anche oggi, anche recentemente, fiordi intellettuali che dicono ah, l'Unione Europea ha tenuto distante la guerra per 70 anni dall'Europa. Quasi che, voglio dire, questa cosa, appunto, che è avvenuta negli anni 90, non c'entrasse niente con... e questo ha una ragione. Perché? Perché noi consideriamo l'Europa neanche sulla dimensione dell'Unione Europea, che pure è una parte dell'Europa, no? Ma sull'idea che ci siamo fatti d'Europa, che è l'Europa occidentale. Continuiamo a ragionare con la testa dentro la vecchia divisione del mondo. Questo è il dato, no? Se poi, appunto, ci avviciniamo più alla realtà, ci rendiamo conto che tra l'Unione Europea, a 27 o a 28, a seconda di cui si consideriamo, appunto, dentro o fuori il Regno Unito. E il Consiglio d'Europa, che è l'organismo più rappresentativo sul piano della geografia europea, mancano all'appello qualcosa come 20 paesi, se ragioniamo. Perché il Consiglio d'Europa, appunto, vede la legione di 47 paesi, non di 27, come l'Unione Europea, insomma. E quindi, anche da questo punto di vista, noi scambiamo, insomma, no? E anche qui, nell'immaginario collettivo, l'Europa non è nemmeno l'Unione Europea, è qualcosa ancora di più ristretto dell'Unione Europea, perché se andiamo a chiedere a qualcuno se Malta, anziché, che ne so, l'Estonia, fanno parte dell'Unione Europea, ti guardano un po' storto, insomma, no? Ma nemmeno passa per l'anticamera del cervello il fatto che l'Azerbaijan, anziché l'Armenia, siano parte dell'Europa. Ma certo che sono parte dell'Europa, insomma. Lo è anche la Turchia, che fa parte del Consiglio d'Europa, dal 1949, pur essendo un paese ponte, diciamo, tra mondi diversi, insomma. E questo senza parlare del fatto che dopo, appunto, la deflagrazione di alcuni dei paesi dell'est, noi abbiamo a che fare, appunto, con la nascita di nuovi stati, insomma, che non sono stati irrilevanti. Prima facevo il riferimento a quel pezzo di Moldavia che si chiama Transnistria, perché sono paesi che nascono dentro il processo di modernità, anzi, appunto, dentro la post-modernità. Perché hanno a che fare con i meccanismi di finanzializzazione dell'economia, hanno a che fare con i traffici di armi, di esseri umani, no? Di tutto quello che genera spaventoso profitto, insomma. Quindi, in questo senso, tutt'altro che arcalci come... Eppure, voglio dire, appunto, il fatto che la Transnistria esista dal 1990, quindi sono passati 28 anni, ancora, voglio dire, non lo abbiamo assolutamente metabolizzato, insomma. Ma è la realtà. Se un paese esiste da 28 anni, può essere riconosciuto o non riconosciuto, non cambia sostanzialmente nulla. E questo, a prescindere da quell'idea di Europa di cui parla Bauman, quando dice l'Europa è un pensiero in divenire, e quindi la immagina come un continuo movimentarsi, anche di tipo geografico, insomma. Per cui è difficile parlarne a prescindere, come se la geografia fosse una materia data una volta per tutte. La geografia è una materia viva, no? E quindi noi dovremmo saperla, come dire, maneggiare. Ma nemmeno l'idea dell'Europa da dove prende il nome. Perché l'Europa della principessa della mitologia greca è l'Europa che nasce fuori di sé. Cioè che nasce a tiro, in Fenicia. E quindi dall'altra parte del Mediterraneo. E cosa ci dice questa cosa? Ci dice appunto di questa idea di un luogo appunto che non può esistere senza il Mediterraneo, per esempio. che è fortemente intrecciato con la sua storia, la sua cultura. La sua cultura è il prodotto di quell'attraversamento. E quindi ragionare a prescindere non è proprio possibile, insomma. Stiamo parlando dell'Europa, dicevo, e l'Europa si fa e si disfa nei Balcani. Quando Giuliano Amato, che non è certo un estremista, lo chiamavano il sottile, tanto era raffinato come... venne incaricato di presiedere la commissione sui Balcani dell'Unione Europea per studiare le forme dell'allargamento, nel documento finale di quella commissione, disse, l'Europa si fa e si disfa nei Balcani. Ora non è un problema, voglio dire, che riguarda i Balcani. È un problema che riguarda l'Europa, che ci riguarda. E però noi non la consideriamo, insomma, no? Potremmo dire, appunto, che l'Europa... che i Balcani dell'Europa sono il cuore, anche geograficamente, è più o meno così, insomma, no? Ma lo sono perché lì abbiamo la faglia dell'incontro tra Oriente e Occidente. L'incontro tra Oriente e Occidente, come dire, riguarda ogni cosa. Riguarda le culture, riguarda il modo di essere delle persone, le identità, per quanto, appunto, anche queste sono sempre in divenire. Riguarda la musica, riguarda ogni aspetto della nostra vita, per come siamo, insomma, voglio dire, no? E quindi è davvero difficile prescindere. E poi, come diceva giustamente Erika stamattina, la storia dell'Europa non può prescindere dai Balcani se è vero come è vero che il Novecento inizia e finisce nei Balcani, a Sarajevo in particolare, insomma. E anche questo dovrebbe, in qualche modo, dirsi, ma se tutte queste cose hanno un qualcosa di vero, ma come è possibile che noi, appunto, facciamo questa operazione di rimozione nei confronti, appunto, del... Una seconda cosa che avremmo dovuto comprendere è il fatto che riguarda la Costituzione Europea. Voi sapete che l'Unione Europea non ha una sua Costituzione, ha un trattato costituzionale e non è la stessa cosa. Perché le parole hanno sempre un senso. Perché non abbiamo una Costituzione ma abbiamo un trattato? Perché il trattato era una cosa che si doveva fare per forza in quel momento, insomma, la Costituzione rappresentava qualcosa di ben più impegnativo. L'Europa politica si è incagliata attorno al tema delle sue radici culturali plurine. Se voi vi ricordate quando, e di questa cosa, fu protagonista la Lega, no? Ci fu la grande discussione contro, no? L'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Tutto il tema, appunto, si discuteva contemporaneamente sulla questione della Costituzione barra trattato europeo. Il tema era appunto quello, se si doveva mettere o no dentro la Costituzione il riferimento alle radici cristiano-judaiche dell'Europa. E' evidente che se tu, come dire, consideri una parte dell'Europa, questo probabilmente, anche se francamente discutere e dire questo diventa comunque difficile. Perché se pensiamo al ruolo che l'Andalusia ha avuto, l'Andalusia musulmana ha avuto nella costruzione dell'Europa, anche questo non si può dire che riguarda soltanto una parte. Ma, ovviamente, se noi ragioniamo, abbiamo una Costituzione europea che prevede il fatto che le radici di questo aggregato politico è la cultura giudaico-cristiana, vuol dire in qualche modo mettere una sorta di barriera nei confronti dell'ingresso di paesi che invece hanno una forte tradizione islamica. Le radici plurali dell'Europa sono l'essenza del progetto europeo, del progetto politico europeo. Perché, voglio dire, la condizione per fare l'Europa, ed Europa nasce per questo, era di evitare una terza guerra mondiale dopo, come dire, la seconda. L'idea dell'Europa politica nasce prima, ma nasce con forza, voglio dire, attraverso la commissione per il carbone e l'acciaio, eccetera, voglio dire, con una forte spinta nel momento in cui, appunto, abbiamo la fine della seconda guerra mondiale tant'è vero che dopo la formazione della commissione per il carbone e l'acciaio la spinta più grossa è quella per la formazione dell'esercito europeo. sicuramente sono passati 70 anni e l'esercito europeo ancora non c'è, insomma. Quindi noi, appunto, abbiamo a che fare con una questione, voglio dire, appunto, che è nell'essenza del progetto, la sua natura plurale, la dimensione pluriman dal punto di vista delle culture e delle radici culturali dell'Europa è questione di rimente, non è una questione che uno può dire, ah no, io non sono d'accordo su questa cosa. No. Perché l'Europa o nasce attraverso l'essere insieme di tante minoranze, oppure torna ad essere quel progetto all'interno del quale qualcuno può avere l'egemonia su qualcun altro. E il tema dell'egemonia è il tema, appunto, delle guerre che hanno segnato il Novecento. L'idea che ne aveva Prodi, per dire, insomma, ma che ne aveva Prodi nel momento in cui incarica Pedrago Macvejevic di avviare il trattato di Barcellona, voglio dire, no, per la costituzione del progetto mediterraneo era questo, insomma, no, e, appunto, quella della ricerca, appunto, di un'identità europea che fosse proprio la capacità, appunto, di mettere insieme le tante minoranze che la compongono. Accanto a questo c'è l'idea dell'Europa che include, anche questo non è una cosa da niente, perché quante volte, e soprattutto di fronte al fatto che oggi, voglio dire, i paesi cosiddetti di Visegrad, no, si muovono come si stanno muovendo, qualcuno ha detto a me abbiamo sbagliato a includerli dentro l'Unione Europea, perché questi, voglio dire, appunto, sono quelli che vanno nella direzione esattamente opposta. Beh, io credo che questa sia una stupidaggine, nel senso che l'idea dell'Europa che include è l'idea che la guerra jugoslava, per esempio, potesse essere evitata. Quando Ante Markovic, l'ultimo dei presidenti di turno della vecchia Jugoslavia, va alla Commissione Europea, non c'era ancora l'Unione Europea a quel tempo, e chiede l'ingresso della Federazione Jugoslava nella Comunità Europea, la risposta che viene dalla Comunità Europea è no. Voi pensate come avrebbe potuto essere diverso l'esito se la risposta fosse stata affermativa. Cioè l'idea, appunto, dell'inclusione come uno strumento politico di condizionamento attivo rispetto a valori, rispetto a processi, appunto, di democratizzazione, di fronte al fatto che, appunto, quello poteva diventare uno strumento straordinariamente importante. E allora, quando scoppia la guerra, ad essere sotto assedio non è soltanto la città di Sarajevo. Sotto assedio dal 92 al 96, agli ultimi mesi del 95, non era, appunto, solo la capitale bosniaca. Sotto assedio era l'Europa. e noi, invece, abbiamo vissuto quell'assedio come, appunto, quella cosa non si riguardasse. Come se fosse una cosa, vabbè, una delle tante guerre con le quali dobbiamo affrontare, no? Ma quella cosa, tutto sommato, poteva non riguardarci, no? L'assedio di Sarajevo era l'assedio ad un'idea di loro. E non è un caso che, dentro l'assedio di Sarajevo, i primi obiettivi di guerra sono la Biblioteca Nazionale e l'Istituto Orientale, che racchiudono tutta la storia di come si è andata formando l'Europa. Questo è il nodo. Noi abbiamo pensato che, appunto, quell'assedio non solo non ci riguardasse, ma, vuol dire, fosse una cosa un po' bizzarra, un po' crudele, un po'... No, no, lì sotto assedio c'era un'idea di Europa. E la cancellazione di una storia. Ed è quella storia che viene ben messa in rilievo, mi scuso con le persone che hanno già partecipato lo scorso anno alla formazione e al viaggio, viene ben messa in rilievo con il censimento del 1910 dell'Impero Strongarico, l'ultimo censimento dell'Impero. Perché cosa ci racconta quel censimento? Nel 1910 l'Impero Strongarico fa, appunto, il censimento di tutto un impero che avete visto nella prima cartina di questa mattina, va praticamente dal Trentino fino alla Galizia. quindi un'Europa sostanziale, un pezzo significativo dell'Europa. Per la cronaca cinque religioni ufficiali, undici lingue ufficiali, quindi un impero, nonostante il dominio, diciamo così, cattolico, è però un impero che riconosceva, come dire, la pluralità del suo essere una piccola Europa. Noi a Trento avevamo la moschea all'inizio del Novecento che era la moschea che venne costruita per permettere ai soldati bosniaci del regio impero di poter pregare la loro religione. Se penso che oggi, dopo cento anni, ci sono questi malfattori che negano il diritto ad avere un luogo di preghiera, insomma, vuol dire che, e questi magari si mettono le braghe di Coram per dire noi siamo, abbiamo l'identità che viene dalle montagne, vuol dire, no, ma non conoscete nemmeno appunto la storia a cui volete fare riferimento. E però appunto da quel censimento viene fuori cosa? Che la terza lingua parlata dopo il serbo-croato e il tedesco che era la lingua ufficiale dell'impero, la prima lingua ufficiale dell'impero, la terza lingua parlata era l'antico ladino, e cioè lo spagnolo dei sefarditi che rappresentavano il 13,4% della popolazione di Sarajevo. Dentro l'istituto orientale di Sarajevo c'era questa storia che gli assedianti volevano cancellare. E allora non venite a parlarmi di guerra arcaica, no, 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 c'era una grande scientificità, c'era una grande presenza al proprio tempo, mi viene da dire, di quei barbari che tenevano sotto assedio Sarajevo. E, adesso non voglio farlo ma troveremo il modo durante il viaggio di farlo, sarebbe interessante andare a vedere perché il 13,4% degli abitanti di Sarajevo ha come lingua parlata in casa, in strada, il ladino dei sefarditi spagnoli, no, perché questa cosa ci rimanda al 1492, anzi al 3, al 2 di agosto del 1492, il 3 di agosto partono le caravelle, ma il 2 di agosto è la scadenza dell'editto di espulsione degli ebrei dalla Spagna, no, e di tutte le politiche fatte precedentemente per semplificare i 700 anni di storia che erano rappresentati prima dal califato di Andalusia e poi dalle taife, ovvero delle città-stato musulmane. Senza quei 700 anni di storia noi saremo ancora sugli alberi, no, perché noi abbiamo appunto avuto la possibilità di accedere alla filosofia dell'antica Grecia, alla matematica, alla chimica, all'astronomia, eccetera, 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 grazie al movimento di traduzione iniziato prima a Damasco e poi proseguito a Bagdad e che con la cacciata degli abbassidi arriva in Andalusia. Per la cronaca, la città più popolata nell'anno 1000 in Europa è Cordoba. Anche questa cosa l'abbiamo completamente rimossa, perché noi abbiamo rimosso 700 anni di storia, perché quei 700 anni di storia ci raccontavano una storia leggermente diversa. È difficile rimuovere 700 anni di storia, eh? Eppure voglio dire quello che è avvenuto. E sapere, voglio dire, che noi appunto abbiamo la possibilità di essere quello che siamo grazie a quella storia è fondamentale. Ora, quel censimento ci dice appunto come si è costruita l'Europa. Non ci sono... non c'è niente da... non si può discutere. È così. Mi dispiace ma è così, insomma. Oppure mi piace ed è così. E questa cosa riguarda anche l'Islam europeo. Altro tema, voglio dire, appunto, che non abbiamo compreso. L'Islam endogeno. Quando noi parliamo di Islam pensiamo a qualcosa che viene da altre parti. Ma il cristianesimo, scusate, voglio dire, da dove viene? E riguarda sia i serbi che... scusate, gli ortodossi che i cattolici, eh? Voglio dire, no? L'Islam... Stamattina Eric parlava... era un punto sul quale avevo un elemento di dissenso, devo dire, insomma, della cultura bogomila. Ma poi è vero, e lui ha ragione, che la storia viene piegata da ciascuno per interesse e per infiorettare le cose, insomma. Ma è indiscutibile che tra i sincretismi più importanti che la storia ha prodotto c'è, appunto, l'Islam endogeno. Ovvero, appunto, quel meccanismo che ha fatto sì che gli eretici bogomili, che avevano radici cristiane, no? Abbracciassero l'Islam come la religione più affine al loro credo. Se voi andate a Stolas, noi quest'anno non ci andremo, ci siamo stati lo scorso anno, negli stecci, che sono le tombe funerarie dei bogomili, Stolas è a sud di Mostar, per capire se per cui dal mare è davvero un tiro di scoppio, scoppio, di schioppo e potete andarci quando vi capita, insomma. Ma se voi guardate su quei monumenti funerari, i simboli della cristianità e i simboli del paganesimo, come dire, si sovrappongono l'un l'altro. Interessante. Ma così sono le religioni. Tutte. Perché se le religioni, come le identità, sono ferme, scompaiono. E quindi sono sempre il prodotto di processi successivi di trasformazione. E quindi noi abbiamo a che fare, voglio dire, appunto con un islam endogeno che abbiamo preferito rimuovere. E questo è, come dire, perché, insomma, è sintomatico della paura che abbiamo e che hanno in genere le religioni nei confronti dei processi sincretici. Perché il sincretismo significa disponibilità a mettersi in gioco. E vale per ogni identità, culturale, religiosa che sia. E quindi anche in questo, voglio dire, noi non abbiamo saputo vedere. Voi pensate che altro rapporto avremmo potuto vedere nel riconoscere la cultura islamica come parte della nostra stessa cultura. Oggi uno dei temi su cui si scontra, o meglio, non solo oggi, dalla fine della guerra in poi, è la ricostruzione delle moschee. E siccome a pagare questa ricostruzione molto spesso sono gli stati arabi, quello che sta accadendo è appunto l'arabizzazione dell'islam endogeno. Ma se voi vedete una moschea vaabita e una moschea islamica bosniaca, vedete immediatamente la differenza. Immediatamente. E quello che sta vogliendo è la cancellazione di quell'antica cultura, a testimonianza del fatto che hanno vinto loro. Ma su questo poi ci arrivo. Un'altra cosa, quando prima parlavo della scientificità dei bombardamenti che avvenivano nell'assedio di Sarajevo, indicavo in nuce, insomma, un altro dei temi importanti che noi avremmo dovuto capire, e cioè la modernità, anzi la post-modernità della guerra. Un passino indietro perché mi dimenticavo. Dentro questa idea di cancellazione della cultura, c'è anche, siccome non ci andiamo è meglio parlarne, c'è anche l'editto di Blagai. Andatevelo a leggere, l'editto di Blagai. è, come dire, 1463. Blagai, B-L-A-G-A-J. È, come dire, 1463. Quindi 29 anni prima dell'editto di espulsione degli ebrei e dei musulmani dalla Spagna. Quindi parliamo di quasi 30 anni prima. È uno dei manifesti di tolleranza religiosa più importanti che voi potete leggere. Certo, non era mica, vuol dire, il momento secondo, che appunto era l'estensore di quell'editto, non era mica una mammoletta, voglio dire, infatti lui dice il nome del nostro grande creatore, il nome eccetera eccetera, e poi dice, è il nome della spada che impugno, quindi non era esattamente un prototipo di pacifista. No, e ciò nonostante, appunto ne faceva accenno Eric stamattina, nella cultura ottomana non c'era, come dire, il diniego nei confronti delle altre. perché era una cosa impensabile, impensabile. C'era, come dire, l'unica prescrizione che veniva posta è che i luoghi di culto non fossero più alti di quelli islamici, insomma. Vabbè, no? Si può discutere anche di questo, ma no? Solo per dire che. Allora dicevo la modernità, no? Quando io ho cominciato ad occuparmi di Balcani, o meglio, quando ho ricominciato ad occuparmi di Balcani dopo essermene occupato prima della guerra, insomma, in virtù del fatto che la Jugoslavia comunque rappresentava un luogo interessante da studiare, perché sicuramente c'era un'anomalia politica, no? Jugoslava, nel senso che questa cosa non rientrava, dentro gli schemi del bipolarismo e della guerra fredda. Anche se poi, voglio dire, Tito era, come dire, uno stalinista contro lo stalinismo, insomma, ecco, per capirci. Per cui la cultura politica non era poi, era molto più affine di quello che si rappresentava. Però, nonostante, ha rappresentato e rappresentò un'anomalia politica nello scenario internazionale. Per questa cosa del movimento di non allineati, per questa cosa dell'autogestione, per questa cosa del carattere federale dello Stato, eccetera, eccetera. Poi tutte cose magari anche contraddette, perché questo, nonostante fosse un paese federale, era molto centralista, nonostante parlasse dell'autogestione, vuol dire, l'economia era centralizzata, e quindi poi queste cose erano più sulla, come dire, sull'etichetta che non, e nonostante, appunto, era interessante conoscere, parlare, eccetera. Anche perché, peraltro, gli anni 60 e 70 rappresentarono, anche per quel paese, e anche e soprattutto per Belgrado, uno dei punti importanti. Il 68 non è soltanto quello che si è giocato a Parigi, o a Torino, o a Trento, insomma, no? No, no, c'è stato anche, come dire, un 68 a Praga, c'era stato un 68 anche a Belgrado. E quella cosa rappresentava un pezzo della discussione che tendenzialmente nella sinistra occidentale veniva poco preso in considerazione, anche perché era, come dire, un pensiero critico che andava contro il comunismo, no? e quindi non era immediatamente funzionale ad un ragionamento di trasformazione del mondo in quella direzione. Ma, ecco, stavo dicendo, quando ho cominciato a rieccoparmi di Jugoslavia, dopo, subito, durante la guerra e nell'immediato post-guerra, il primo incontro che io ho avuto dentro questo processo di relazione internazionale avviato attraverso la Casa per la Paz di Trento, fu l'incontro col sindaco di Priedor, Milomir Stachic, il primo ad essere condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale per i Crimini di Guerra dell'ex Jugoslavia, condannato per omicidio, strage, furto, violenza, vuol dire, avevano un capo di imputazione lungo un chilometro, venne condannato all'ergastolo, la pena venne poi commutata in 40 anni di carcere. E io mi trovai a discutere con il sindaco di quella città dove avevamo intenzione per quello che era accaduto durante la guerra di avviare una relazione di tipo comunitario e quindi con lui sapevamo che quella classe dirigente era quella che aveva organizzato la pulizia etnica, non sapevamo ancora le responsabilità dirette di ciascuno, insomma, quindi non avevamo l'esatta percezione di con quali manigoldi avevamo e criminali avevamo a che fare, però, insomma, ci siamo buttati dentro questa cosa e quell'incontro, io ve lo dico sempre, insomma, è stato l'incontro più interessante che io ho avuto in 30 anni di frequentazione balcanica, l'incontro con un criminale, interessante perché? Interessante perché immediatamente abbiamo colto con chi avevamo a che fare, dove il nazionalismo era semplicemente la parte apparente del meccanismo, perché questi erano criminali, erano affaristi. La prima cosa che mi disse quando io chiesi che prospettiva potessi immaginare per la Repubblica Serbska, perché di Bosnia e Svegovina con loro non si poteva parlare perché loro non avevano firmato gli accordi di Dayton, aveva firmato i Milosevic per loro, rischiando peraltro di prendere il Nobel per la pace, ma loro non avevano firmato e quando appunto io gli chiesi ma che prospettive immaginate per la Repubblica Serbska perché lui mi rispose noi pensiamo ad un portofranco e dentro quella risposta c'era tutto il senso della guerra. Quella mattina qualcuno di voi ha chiesto quali sono le motivazioni prosaiche diciamo così insomma della guerra. C'era l'idea di una classe dirigente che pensava appunto di subentrare a se stessa. Certo non erano quelli più esposti erano le seconde le terze le quarte linee del vecchio apparato che avevano immaginato quale poteva essere il significato della costruzione nel cuore dell'Europa di un'area fortemente deregolata perché dentro uno stato offshore dentro un portofranco dentro un'area deregolata tu puoi fare tutto quello che vuoi non c'è stato di diritto non c'è come dire tutela dell'ambiente non c'è niente lui ci disse venite qui con i vostri investimenti garantiamo noi tutto quello che volete fare questa non è la risposta di uno di un nazionalista classico il nazionalista classico dice noi prima degli altri insomma ma questa cosa si coniugava con la natura criminale di questi soggetti i quali avevano fatto la pulizia etnica non soltanto per liberarsi dell'altra parte della popolazione ma per prendere tutto quello dell'altra parte della popolazione perché la pulizia etnica è sequestro dei conti correnti bancari è sequestro dei conti correnti postali è demolizione del 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 catastro e quindi appropriazione delle proprietà altrui no e così è avvenuto per 5 anni vuol dire qual è quando voi vedrete nel viaggio che a un certo punto ci sono magari una casa insieme a un bosco o a una montagna completamente distrutta e uno dice cavolo c'entra con una guerra l'andare a distruggere a bruciare la casa che sta in cima a quella montagna che scopo può avere allo scopo del fatto che dentro ogni casolare ci può essere oro da recuperare qualcosa di valore una donna da stuprare eccetera 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 no questa è come dire la modernità dei processi di accumulazione primaria a cui seguono poi voglio dire appunto le operazioni bancarie le operazioni postali le operazioni che riguardano appunto il catastro e così via alle persone che erano oh ma andremo a vedere cosa rimane di quel del primo campo di concentramento che è nato in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale tu dovevi se volevi uscire e non eri uno di quelli che erano considerati da far fuori firmare in bianco l'accessione di tutti poi bene nazionalismo mi fa sorridere questi sono sì certo anche nazionalisti ma di tipo nuovo questi voglio dire insomma è come dire che la andrangheta è nazionalista certo che sono calabresi che si tengono perché hanno il loro codice d'onore ma la andrangheta è un fenomeno della postmodernità mica delle antiche allegorie no per cui appunto appunto l'idea di costruire e se voi pensate a ciò che è avvenuto nel postcomunismo in tutta quella regione vedrete appunto che quest'idea ha vinto perché gran parte dei paesi con cui abbiamo a che fare poi ci ritorno a proposito dell'ultimo viaggio che ho fatto insomma abbiamo a che fare con state offshore non gli interessa niente di far parte delle regole dell'Unione Europea niente anzi standosene fuori possono beneficiare tanto delle entrate per preannessione quanto voglio dire della loro deregolazione e quindi ma appunto la deregolazione ha a che fare con la finanziarizzazione dell'economia perché appunto e poi la postmodernità è anche una terribile sperimentazione sociale perché tutto il patrimonio di quel paese che era un grande paese grande come l'Italia ripeto e che aveva la metà della popolazione quindi che aveva risorse di ogni tipo dal legno al nord dall'acqua voi pensate che in Bosnia c'è una quantità d'acqua pro capite sette volte quella della media europea quindi una quantità d'acqua spaventosa ma l'acqua oggi è il petrolio no e quindi voglio dire risorse immense no deregolazione significa controllo da parte dei signori della guerra no che sono appunto che abbiamo visto essere prima uomini d'apparato poi signori della guerra poi come dire affaristi in doppio petto vuol dire vi stupirete della quantità di automobili ricche che vedrete girare in questi paesi poi certo ci sono anche tante 600 Zastrava e vecchie cose perché riescono a tenere funzionanti qualsiasi cosa ma in questo c'è una capacità industriosa molto significativa ma poi vedrete appunto i segni della postmodernità lo dico sempre ci vendono più Ferrari in Romania che a Milano per dire appunto come i processi di deregolazione sono processi di grande accumulazione finanziaria con i proventi della pulizia etnica di Priel solo della città di Priel hanno aperto una banca a Cipro questa è la postmodernità e dal resto voglio dire appunto quando sentiamo parlare delle Cayman quando sentiamo parlare di tutti questi processi che riguardano la finanza globale abbiamo a che fare con processi in cui il limite tra la legalità e l'illegalità è assolutamente incerto no? perché voglio dire perché quando tu affronti questi temi insomma hai vabbè dicevo appunto una sperimentazione sociale e la demolizione del welfare spaventosa insomma perché parliamo di un paese dove la luce elettrica era gratis le case no? c'era anche un po' di proprietà privata ma era anche un po' significativa perché avevano 5 ettari potevano avere fino a 5 ettari di terra per la propria autonoma coltivazione quindi stiamo parlando del paese tra virgolette più ricco di quelli del blocco dell'Ez se di blocco vogliamo parlare il peso del mito nella sfera pubblica altra cosa voglio dire no? voi vi ricorderete la storia dell'ampolla dell'ampolla del Po no? di quando uno dei delle prime tracce voglio dire su cui si fondava il mito del fondo genetico padano era appunto simboleggiato come dire dall'ampolla dell'acqua no? questi rituali di tipo esoterico li abbiamo ritrovati via via per tutto il dopo la guerra e il dopo guerra balcanica fino al suicidio del generale Priglia no? che beve in diretta la cicuta voglio dire no? questo meccanismo di tipo esoterico ha a che fare con il mito dei Nibelungsi ha a che fare con il nazismo ha a che fare voglio dire con noi abbiamo sorriso anche quando faceva bossi queste cose ridevamo un po' insomma e poi voglio dire appunto vediamo voglio dire a forza di riderne cosa in che condizioni siamo insomma no? e guardate che questa dimensione appunto della mitologia del se ci pensate bene insomma ha segnato tutta la storia moderna no? se leggete Magris Danubio di Magris no? vi racconta le origini no? incerte del Danubio no? e parla di quella casa sul monte Abnova da cui dai cui spioventi nascerebbe da una parte il Reno no? che è il fiume interamente tedesco e il Danubio cioè il fiume dell'attraversamento il mito dei Nibelungsi e la coine appunto ebraica no? pensate a quanto voglio dire queste cose voglio dire poi non siano affatto arcaiche e pesino oggi perché poi voglio dire dentro questa postmodernità ha bisogno di miti sempre di più ha bisogno di personaggi forti ha bisogno di appunto logiche di tipo plebiscitario e ha bisogno di mitologia basta pensare a Kosovo Poglie insomma le cose di cui parlava stamattina Erika non le ripeto un'altra cosa che avremmo dovuto capire il conflitto tra città e campagna c'è un capitolo di questo libro che è Autopsia dei Balcani che non lo trovate in libreria ma se lo ordinate ve lo fanno avere insomma di Rada Ivecoviz Autopsia dei Balcani un libro del 98 se non ricordo male del 99 c'è un capitolo dedicato alla locanda balcanica come concetto filosofico la locanda balcanica come concetto filosofico non so se riusciremo a trovare sul nostro tragitto una krizma ma la balcanska krizma è uno dei concetti chiave per capire cosa è accaduto nei Balcani anzi è un concetto chiave per capire cosa sta succedendo in Europa ma non perché accade nei Balcani e dunque anche in Europa no no perché accade qui perché sempre di più noi stiamo circondati da luoghi in cui gli umori diventano rancore e il rancore diventa progetto politico umori rancore progetto politico la krizma la krizma la krizma è un'osteria però è una tipologia particolare di osteria è l'osteria dove non entra la luce dove è tutto chiuso perché poi è inverno l'inverno balcanico è freddo e più non gira l'aria dentro la krizma c'è il balcansco blato c'è il fango piuttosto che non l'aria che gira dove si consumano solo racchia e caffè grappa e caffè è un luogo maschile è il luogo dove si parla male degli altri dove si esprime l'odio nei confronti degli intellettuali del sapere dove si inventano appunto delle storie per cui appunto lei dice le ragazze cieche non portano le mutande le espressioni dell'immaginario maschile la volgarità la blasfemia no? ma noi voglio dire se ci pensiamo non siamo forse circondati da luoghi un po' così di cui magari non abbiamo nemmeno la consapevolezza no? ma poi se andiamo a vedere bene voglio dire sono quei luoghi in cui appunto si è fomentato l'odio nei confronti dell'extracomunitario e di tutte queste cose voglio dire con le quali abbiamo a che fare nel nostro quotidiano e vi assicuro che questa cosa della Krizma corrisponde appunto a quella che un altro intellettuale serbo in questo caso che si chiamava Radomir Kostantinovich quando parlava della filosofia palanche cioè della filosofia del villaggio no? dentro una netta contrapposizione appunto tra quelli della campagna e quelli della città dove quelli della città sono quelli che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera sono quelli che vivono sulle spalle di chi lavora sul serio sono quelli no? che hanno le mani callose sono quelli che fanno ma non parlano no? fare bisogna basta chiacchiere no? tutte queste cretinate vuol dire basta parole diffidate da chi vi dice vogliamo fatti e non parole perché le parole sono fondamentali è lo strumento più importante che abbiamo e che ci distingue in qualche modo nel bene o nel male dal resto del mondo animale insomma quindi eppure voglio dire pensate a come queste frasi sono diventate di moda e le continuiamo a sentire in televisione reiterate tratta all'infinito e questo odio nei confronti degli intellettuali e questo odio appunto della città nei confronti della campagna della campagna nei confronti della città è un classico lo troviamo anche se andiamo a vedere negli orientamenti elettorali se andiamo a scavare un pochino anche da noi e accanto a questo c'è l'idea dell'urbicidio questo termine che è stato cognato proprio dentro la guerra jugoslavia si era mai parlato di urbicidio e però l'urbicidio è una caratteristica delle guerre moderne quando bombardano hanno bombardato Damasco e Aleppo non è che bombardassero semplicemente due città della Siria bombardavano i più antichi insediamenti urbani che la storia conosce quindi bombardavano non semplicemente una città ci bombardavano e noi però no? dico chi se ne frega ma insomma voglio dire no comunque e se andate a vedere voglio dire appunto come questa cosa della demolizione della demolizione della città dei suoi luoghi della cultura lo ritroviamo a Timbuktu anziché a Palmira lo troviamo in tutte le guerre moderne questo è un tratto ormai perché si vuole appunto cancellare semplificare dicevo della deregolazione altro appunto di quel tratto uno dei tratti della deregolazione che ha a che fare appunto con le cose che avremmo dovuto imparare è il tema della delocalizzazione delle imprese qualche giorno fa con Jovan che incontrerete a Belgrado dicevamo ormai qui nelle fabbriche lui diceva pagano gli operai 200 euro più i pannoloni perché non li fanno neanche più andare in bagno questa è la delocalizzazione delle imprese c'è la possibilità di avere appunto mano d'opera a prezzi schiacciati voglio dire con diritti di tipo sindacale che sono cose quelli sì ormai arcaici voglio dire e dove si può fare quel caso quando hanno trasferito la Omsa dalla Val Marecchia in Serbia erano 250 euro al mese contratti che venivano rinnovati di mese in mese assunte donne con figli perché erano più ricattabili questa è come dire lo ritenete un processo arcaico questo è un processo della postmodernità 024 io ho imparato voglio dire appunto all'inizio degli anni 90 cosa significava in Bosnia H24 non avevo mai visto prima voglio dire e adesso se voi andate in giro per il mondo è tutto H24 e deregolazione significa appunto questo significa trasferimento condizioni disputamento eccetera eccetera la guerra finisce con Dayton si fa un accordo che ferma la guerra e tutti dicono ah finalmente si è riusciti a fermare la guerra ma quell'accordo immediatamente genera la guerra in Kosovo e in Serbia uno si dice perché perché se tu legittimi signori della guerra nella loro rivendicazione anche di tipo territoriale oltre che culturale eccetera eccetera no determini il fatto che l'unico soggetto che nonostante la guerra dei dieci anni fosse iniziata in Kosovo perché i primi momenti di tensione con nello sgretolarsi della vecchia Jugoslavia avvengono in Kosovo quando Milosevic nega l'autonomia che funzionava per la Serbia a Voivodina e al Kosovo in Kosovo non succede niente perché non succede niente perché c'era l'LDK di Ibrahim Rugova ve lo ricordate Ibrahim Rugova no veniva chiamato il Gandhi dei Balcani e lui per dieci anni riesce a tiner fuori mentre appunto salta per aria la Croazia salta per aria la Bosnia vuol dire la Macedonia e la Slovenia si dichiarano indipendenti anche se lì poi guerre vere e proprie non ce ne sono insomma e in Kosovo non succede niente almeno dal punto di vista del conflitto armato lui voglio dire fa atto significativo nel 1992 il funerale della violenza prende una bara la porta in giro per Pristina con diecimila persone con diecimila mi ricordo il numero esatto delle persone vabbè comunque e e fa il funerale della violenza e dice non ci avrete dentro questa logica e lui tiene fuori il Kosovo per dieci anni quando è che inizia la delegittimazione di Ibra in Rugova e dell'Ldk nel momento in cui si siglano gli accordi di dentro e cioè i signori della guerra vengono appunto premiati come i fautori della pace di Vod ecco avete visto che sono le armi quelle che determinano la possibilità di autogoverno di indipendenza e allora si inventano l'UcK e attraverso l'UcK appunto viene messo in discussione anche se poi lui verrà eletto come primo presidente del Kosovo ma appunto delegittimandolo delegittimandolo vi ricordate la foto di Rugova che stringe la mano a Milosevic che venne fatta girare appunto scientemente per appunto continuare questa delegittimazione del no insomma la diplomazia internazionale con Dayton segna appunto in qualche modo il dato di chi ha vinto altra cosa che dovremmo che non dovremmo mai smettere di imparare è la necessità di indagare le guerre questo non riguarda soltanto i Balcani però nei Balcani questa cosa prima appunto quando Alberto chiedeva appunto della violenza noi abbiamo a che fare appunto con questo concetto che è straordinario che Anna Arendt coniò appunto in occasione del processo Eichmann nel 1900 1861 cioè la banalità del male se voi andate a studiare le carte del processo di al tribunale penale internazionale dell'AIA vedrete che voglio dire appunto questa dimensione della banalità del male viene fuori in continuazione ma viene fuori soprattutto quando viene interrogato Zrazan Erdemovic che allora era un giovane militare che finalmente apre un straccio il velo di omertà sulla questione di Serbrenica perché prima Serbrenica era negata dicevano no non è vero quando in realtà con tutti gli strumenti che ci sono di indagine sui territori sapevano perfettamente quello che stava avvenendo ma comunque voglio dire appunto lui finalmente apre uno squarcio dentro il silenzio su Zrazan Erdemovic perché lui dice che in una mattina insieme a altri dieci persone o giù di lì insomma uccide più di mille musulmani uno che fa fuori più di mille persone in una mattina ora lui viene interrogato e gli chiedono ma com'è ci racconti com'è andata e lui disse io la mattina sono stato caricato siamo caricati su un camion si va di bene non c'era obiezione di coscienza in Urlaga quindi per non andare a fare il militare bisognava scappare via insomma altrimenti eri dentro quella roba insomma lui disse venimmo caricati su un camion ci portarono in una falegnameria nei pressi di Zvornica e quando siamo stati lì ci dissero che sarebbero arrivati dei criminali combattenti musulmani e che bisognava appunto giustiziarli quando lui è detta così poteva essere come dire una cosa discutibile ovviamente ma dentro la guerra insomma in realtà si trova di fronte appunto a centinaia e centinaia di persone che erano di ogni età che erano qualcuno era soldato ma qualcuno no insomma e lui dice al suo superiore vi rendete conto di quello che ci chiedete di fare insomma e il superiore risponde se non sei d'accordo basta che ti metti dall'altra parte e facciamo fuori anche te allora sicuramente come dire una persona che fa fuori in una mattina insieme ad altri più di mille persone è un criminale ma il tema non è questo il tema è ciascuno di noi di fronte ad una situazione di quel tipo cosa avrebbe fatto ? domanda mica banale eh? per dire che primo i criminali non sono mostri quando io incontravi Stachitz avevo davanti una persona sveglia intelligente normale tra virgolette insomma e Drasen Erdemovic era un Cristo di 22 anni che si è trovato in una situazione così a proposito appunto della banalità del male e quindi questa cosa appunto dovremmo in qualche modo provare a a rifletterci perché dentro quel cerchio masico che scatta dentro le guerre e soprattutto dentro le guerre moderne ognuno di noi ha dentro un criminale in potenza e quindi non possiamo chiamarsene fuori e questa cosa ha a che fare proprio con la riflessione sulla guerra sul tema della colpa della responsabilità perché quella che viene indagata normalmente è la colpa criminale ma non la colpa politica e quella morale ma anche sulla colpa criminale come dire insomma ti puoi trovare dentro quel cerchio e tu sei come dire coinvolto fino alla fine e non riesci a venirne fuori se non col suicidio però questo comporta vogliere qualcosa che non sempre si ha il coraggio questa cosa fa il paio con il tema fondamentale altra questione della elaborazione dei conflitti ripeto non riguarda soltanto la Jugoslavia ma riguarda un po' tutte le guerre insomma ma se c'è una ragione per cui quello che è accaduto in Jugoslavia è potuto accadere è la non elaborazione di ciò che era accaduto durante la seconda guerra mondiale va bene lo ripeto se c'è una ragione più ragione delle altre per cui è potuto accadere che le persone che erano vicine di casa si scannassero tra di loro è perché appunto non si è fatto alcuna elaborazione di ciò che era accaduto durante la seconda guerra mondiale piccola parentesi lo abbiamo elaborato noi quello che è accaduto durante la seconda guerra mondiale pensiamo che andare ad Auschwitz sia sufficiente per elaborare quello che è accaduto durante la seconda guerra mondiale io credo di no dovremmo interrogarci se era un altro su quella scritta Arbeist Mach Frey tanto per dire una cosa perché non è casuale quella scritta ha a che fare con con il secco il superbo e sciocco di cui parlava Leopardi ma questo è un altro ragionamento il problema è che appunto quello che è scattato quella paura di cui si parlava stamattina che è scattata appunto con la caduta del muro di Berlino con la crisi che ha attraversato la Jugoslavia per cui c'erano io me le ricordo insomma i biglietti i soldi la carta moneta insomma da 5 miliardi 10 miliardi di dinari insomma per prendere una borsa di pane insomma quindi una inflazione di quel tipo eccetera ma la cosa che più ancora ha funzionato erano i racconti dei padri e dei nonni cioè la verità parallela a quella di Stato perché lo Stato racconta la sua storia e la storia che veniva raccontata nelle scuole era appunto il valore della resistenza partigiana e su questo non c'è non c'è che dire insomma ma anche lì bisogna stare attenti a ciò che è storia e ciò che è retorica ma era soprattutto il racconto di quei 700 e passa mila morti che ci sono stati durante la seconda guerra mondiale e quando i serbi hanno come dire avuto sono stati come dire le principali vittime possiamo dire insomma della resistenza al nazifascismo è scattato immediatamente il meccanismo dei racconti dei padri e dei nonni e tutto quello che Tito e il regime avevano sostanzialmente messo in una no a tacere perché era difficile costruire la Jugoslavia della fratellanza e dell'unità no se non se non appunto coercendo le storie il risultato è che quelle storie ritornano fuori il grande tra gli altri ma il grande errore di Tito è il fatto appunto di averci messo una pietra sopra ma se ci pensiamo la pietra sopra la si è messa sulla guerra civile americana e poi chi è che vota Trump andate a vederlo la geografia degli stati che votano Trump e quella che vota ma non perché ci sia come dire poi questa enorme differenza tra i candidati democratici proposti e quelli repubblicani ma andate a vederla vuol dire la geografia politica del voto a Trump è la stessa geografia della guerra di secessione americana la stessa identica tu puoi andarci farla farla no questo qui vuol dire vuol dire che i conflitti bisogna elaborarli bisogna dire come sono andate le cose bisogna ricostruire un tessuto di narrazione almeno in parte condivisa senza il quale non c'è riconciliazione che tenga e infatti le storie che si tramandavano di padre in figlio di nonno in nipote sono a quel punto immediatamente scattate fuori ecco no vedi come sono questi c'è un bellissimo libro che si intitola di Milenko Yergovic si intitola Buic Rivera la Buic è la macchina e la Riviera era un tipo di quella di quell'auto insomma americana ed è la storia di due bosniaci uno serbo e l'altro bosniacco che si incontrano profughi negli Stati Uniti casualmente perché sono in incidente stradale dove si mettono a parlare e scoprono di essere originari dello stesso paese insomma allora si raccontano le proprie storie prima inizia il serbo che comincia a spiatellare tutto vita e morte miracoli dei suoi familiari e poi toccherebbe al musulmano e il musulmano è un po' più reticente diciamo non dice e questo gli dice ecco vedete come siete voi musulmani altro che unità e fratellanza ed è davvero vuol dire è una pagina trepitosa della psicologia insomma bisogna come dire elaborarli perché altrimenti funzionano questi meccanismi appunto di reticenza o di luogo comune insomma per cui quando appunto stamattina si rosonava di jugonostalgia è davvero un fenomeno strano ma è un fenomeno appunto che riguarda il fatto che non si è elaborato niente né della seconda guerra mondiale né di questa altra guerra perché se tutto andava bene nella vecchia Jugoslavia per cui ora si tratterebbe di essere nostalgici no? non si capisce da dove salti fuori sì certo c'è la teoria dei complotti internazionali però francamente non lo legge insomma no? per cui il tema della jugonostalgia è davvero un tema di prodotto della non elaborazione ma c'è anche un'altra ragione per cui appunto quando si ragionava del carattere belluino della violenza appunto espressa no? non dobbiamo mai dimenticare due cose la cultura militarista e il fatto che la Jugoslavia era organizzata non con un esercito ma con due eserciti la cultura militarista era quella che si insegnava nelle scuole perché l'uso delle armi era parte integrante della formazione scolastica dei ragazzi e secondo luogo appunto i due strumenti di difesa e cioè l'esercito federale e le milizie territoriali per cui tutta la popolazione era parte delle milizie territoriali dentro un sistema di difesa molto intelligente molto efficace il generale Japp ve lo ricordate il generale appunto della resistenza vietnamita andò in Jugoslavia a imparare le forme della difesa popolare l'idea era non serve presidiare i confini o lasciamolo fare l'esercito federale lasciate che pure che entrino e poi quando sono entrati gliela facciamo vedere noi è una cosa mica scema dentro quello schema insomma per cui voglio dire il fatto che le persone fossero praticamente tutte armate non era un fatto secondario se a questo appunto aggiungi la cultura militarista che è una delle facce della cultura macista perché poi appunto le guerre le fanno soprattutto gli uomini e beh no qual è il problema è che il lavoro di elaborazione dei conflitti non lo fa nessuno non lo fa la cooperazione non lo fa la diplomazia ufficiale e non lo fa nemmeno la cooperazione internazionale abbiamo pochi esempi di elaborazione del conflitto che sono conosciuti quello del Sudafrica è certamente uno di questi ma l'idea che non è la pena l'elemento fondamentale ma è il riconoscimento di ciò che è accaduto è il tratto fondamentale ma questo appunto non è avvenuto nel 45 non è avvenuto nel 95 o nel 2000 e quindi tutti loro sono dentro tutti capiamoci insomma c'è anche qualcuno che non lo è ma sono dentro quelle diverse narrazioni che se continueranno ad essersi in maniera così netta e separata non possono certamente costruire alcunché di riconciliativo e questo è il problema ed è il problema ripeto non soltanto nella vecchia Jugoslavia però ci sono altre 4-5 cose che si potrebbero dire ma tante ce ne sono in realtà che non che avremmo dovuto imparare dentro la guerra degli anni degli anni 90 ve li dico solito come titoli la fine del monopolio statuale della forza la fine del monopolio statuale della forza i corpi paramilitari sono come dire protagonisti dentro tutte le guerre moderne le curve degli stati degli stadi anche questo vuol dire un tratto della modernità le curve degli stadi potremmo parlare della prima tangentopoli europea che avvenne in Jugoslavia agro scandalo agro commerce e sapete come si chiamava il capo di agro commerce si chiamava friket abdic ed era soprannominato babo cioè l'idea di una persona che è contemporaneamente capo industriale politico militare e talvolta anche religioso altra figura appunto post moderna il ruolo delle diasfore dentro la guerra andate a vedere chi ha soffiato sul fuoco dall'esterno perché saltasse per aria la Jugoslavia sono tutte le diascore appunto in Australia negli Stati Uniti in giro per il mondo no? e la diaspora è l'accentuazione della propria identità fissa nazionale poi si potrebbe parlare del sovranismo l'onda lunga degli stati nazionali insomma e di tante altre cose ancora ma avremo modo di parlare un'ultima cosa che ve la voglio dire e scusate se ho fatto sono le 4 e 4 dopo la postmodernità c'è la post politica nei giorni scorsi appunto ho fatto questo viaggio ad ascoltare un po' di amici in fra Bosnia Serbia in particolare in particolare insomma e a un certo punto parlando con Dario Terzis a Mostar mi dice mi dice il cambiamento il cambiamento avverrà non perché qualcuno lo decide ma nell'adeguarsi di ognuno ad una situazione nuova lo ripeto il cambiamento avverrà non perché qualcuno lo decide ma nell'adeguarsi di ognuno ad una situazione nuova quando Dario mi ha detto così ho avuto un lampo e questo lampo mi ha riportato a Ebron di qualche anno fa quando un pomeriggio a Ebron in Palestina quando mi sono messo lungo una strada ad osservare come la gente stesse vivendo in quella città peraltro una città segnata dalla occupazione in pieno centro storico da parte dei coloni ebraici insomma e mi era fatto un'idea sostanzialmente che della questione nazionale ai palestinesi non gliene fregava più niente non tiratemi qualcosa ma insomma è un'idea che mi sono fatta ed era la stessa idea che avevo qualche giorno prima di Ebron avuto quando ospite di una famiglia a Gerusalemme andammo in questa casa insomma e dentro questa casa abitavano 70 persone di almeno 4-5 generazioni e dentro queste 70 persone c'erano tutti i mestieri possibili di cui quella famiglia avrebbe potuto avere bisogno dall'elettricista al meccanico al ristoratore no? l'istruzione veniva garantita per quanto l'asilo ma poi appunto fino a quell'università attraverso i parenti negli Stati Uniti e così via quindi avevano anche le relazioni estere dentro un microcosmo di una famiglia c'era tutto quello che poteva servire a loro cosa vi viene in mente? quando Casaleggio Junior ci dice guardate che fra dieci anni i parlamenti non servono più mi si accapona la pelle ma dice una cosa che non può essere presa sotto gamba perché dice appunto cosa ne sarà di noi perché la tendenza che io ho visto nei Balcani in questi giorni è il fatto che in realtà della impalcatura di Dayton che non si può toccare perché qualsiasi mattone ci rivia casca tutto alla dimensione appunto statuale di nazionalità non c'entrano più niente e che i processi ormai navigano altrove sono a Travnik insomma Travnik è un centro è l'antica capitale della Bosnia e Herzegovina e sono al caffè di Lutvo dove andremo e a questo punto mi trovo circondato da arabi sauditi ora in un paese islamico con un islam endogeno vedermi circondato dove le donne musulmane hanno la minigonna ancora più gridata che quella che noi possiamo immaginare insomma e vedermi circondato da costumi integrali di tipo va a vita ho detto cosa sta succedendo qui vado a Sarajevo la stessa cosa e ora chiedo agli amici cosa sta succedendo e mi dicono guarda che stanno comprando tutto cioè quello quando durante la guerra arrivarono dai paesi arabi circa 2500 3000 mujeidin per dare una mano ai bosniaci insomma perché erano gli unici a non essere dotati di una forza militare insomma o erano molto raffazzonati insomma e arrivarono a questi 2500 3000 mujeidin appunto che si insediarono in questa caserma a Maglai quando la guerra finì questi volevano rimanere e sposarsi in loco appunto con grandi finanziamenti da parte degli stati arabi per introdurre i costumi islamici integrali il sindaco di allora di Maglai disse voi non siete i benvenuti e quindi li mandò via sostanzialmente proprio per questo vuol dire perché non c'entrava proprio niente con la cultura islamica del territorio questi hanno capito che non hanno bisogno di chiedere niente perché c'è qualcuno che sta al potere che gli fa tappeti rossi per portare i loro denari e anche se non c'è qualcuno che gli fa i tappeti rossi questi entrano ugualmente perché la finanza è globale e quindi questi stanno costruendo resort esclusivi intorno a Sarajevo intorno a no per vuol dire appunto insediarsi sul territorio quindi c'è una dimensione di cambiamento che sta avvenendo non perché qualcuno lo decide se volete sì ancora perché qualcuno l'ha deciso ma non perché un'istituzione specifica lo decide ma perché i fatti sono più la realtà come dire è più forte e la realtà con la quale abbiamo a che fare è appunto un'interdipendenza e una globalizzazione che non conoscono confini e regole e allora voglio dire questo pensiero insomma l'ho poi ritrovato e anche questo lo vedremo a bel grado e uno disse ma no anche lì gli arabi questi che hanno fatto la guerra contro i musulmani per dire noi siamo i difensori della cristianità nei confronti della penetrazione dell'islam in Europa eccetera stanno costruendo si chiama belgrado butterfront residence ed è un'immensa costruzione fatta sul fiume Sava in uno dei posti più belli di belgrado alta 70 metri ne è in programma una alta 170 metri appunto capitale Dubai i balcani i balcani da luogo della postmodernità diventano luogo anche di sperimentazione della post politica quello che non so se vi ricordate quando l'anno scorso vi dicevo di quando ero ritornato a Priero dopo un po' di anni e mi aveva stupito la proliferazione delle farmacie questa cosa della proliferazione delle farmacie immediatamente non la capivo ma perché queste moderne farmacie ogni 50 metri insomma perché laddove non c'è un sistema sanitario nazionale la gente si cura così va su internet e ad una patologia risponde come dire una un farmaco o qualcosa che trova se ha la possibilità di comprarlo se no crepa ma ormai è così e i sistemi sanitari nazionali ci sono oggi sul sistema mondo di 200 paesi in appena 10-15 paesi magari ci sono sulla carta perché in Bosnia c'è sulla carta un sistema sanitario nazionale ma se voi lo vedete dite alla larga no? cioè nessuno ci va ma nemmeno ma nemmeno per il più semplice degli interventi insomma no? e questa come dire è la stessa cosa che vale per l'istruzione che vale per appunto i servizi e se lo Stato nazionale è come dire non funziona più per i servizi che non serve ed è la post politica anche lì un conto è sperimentare queste cose voglio dire appunto in Argentina altra cosa è sperimentarle nel cuore dell'Europa se le troveremo in casa noi diventeremo così noi diventeremo così perché questa è la modernità mi dispiace ma purtroppo è così e sta già diventando così sta già diventando così perché se pensi anche al solo sistema sanitario nazionale pensa alla differenza che tu trovi voglio dire da una regione all'altra in Italia no? e poi di fronte al fatto che la finanza locale non ha risorse dov'è che che va a tagliare fondi lo dico da persona che è stata in consiglio provinciale regionale voglio dire no? taglia la sanità la prima roba che si può tagliare è la sanità e questa cosa avviene a furor di popolo perché negli Stati Uniti abbiamo visto che avviene a furor di popolo quindi datecile a noi quei soldi che ci arrangiamo per cui dentro l'antipolitica ci sta anche voglio dire la post politica noi non abbiamo più bisogno non avremo più bisogno sono tutte cose che io leggo con uno sguardo disperato ma noi dobbiamo appunto avere la capacità di cogliere i segni del nostro tempo perché la politica o serve a questo o altrimenti non serve a niente cogliere i segni del tempo dopo di che io sono contento se mi sbaglio e quindi volesse il cielo che io mi sbagliasse insomma ma per dire insomma che in questo c'è anche la solitudine del fatto che questi processi non vengono comprese per cui noi assistiamo a queste cose e non ci rendiamo spesso conto della gravità per questo è importante che esattamente come a Sarajevo quando la guerra era già iniziata la gente diceva qui non accadrà e non erano sciocchi erano persone come tutti noi no dimmi il tuo nome tu nome Annalisa li ho visti subito sono rimasta spiazzata Annalisa scusa un attimo mi porto il microfono perché stiamo anche cercando di registrare per chi non è qui oggi grazie naturalmente per questa opportunità li ho visti questi sauditi ho fatto un giro fanno anche impressione perché sono proprio diversi sia i maschi che le femmine da e subito ho chiacchierato un po' e mi sono informata di come ha chiesto a gente ah sono turisti ok ma tanti e poi dopo siccome mi piace chiacchierare con un altro signore gli ho chiesto allora ho scoperto che mi hanno detto che lo finanziano dai due trecento euro danno al mese a famiglia affinché adottino l'islam integrale il generalista scusate dei guaditi in paesi dove ho capito che lo stipendio medio il reddito medio di una famiglia è sotto i quattrocento euro se ho capito bene due o trecento euro sono sbalancate di soldi capaci di incidere profondamente sulla quotidianità di paesi che queste donne vestite in questo modo è vero mi sono rimasta colpita vanno un giro le ragazze con degli sciordi un po' lozzanti anche canottierine piccolissime e poi vedi queste che hanno neanche il velo adesso non mi ricordo come si chiama hanno la fessura come come nella radio assunita non è la rete è la fessura come nella radio assunita però se è una famiglia dove il reddito medio generalmente sotto i quattrocento euro che arrivano due barri per cento euro tutti i mesi io non so come se ne esca insomma prendo in prestito questo un attimo che mi segno anzi vi prendo in prestito tutti vi rendo subito se ci sono altre domande ne raccogliamo alcune poi passiamo la parola a Michele vai Daniela aspetta che ti porto il microfono se tu hai accennato alla mediocrità dei mediatori internazionali volevo chiederti se ci puoi dire qualcosa di più invece sui interessi che paesi come la Germania la Francia l'Inghilterra la Russia hanno avuto e hanno insomma hanno avuto un ruolo non passivo durante la guerra e nella ricostruzione e anche attualmente la Sorisina vuol chiederti qualcosa sulle donne ma se vuole fare la domanda non so però se vuole fare la domanda quando hai parlato di queste locale balcaniche ma adesso le locale allora c'erano le donne queste locale adesso ci sono le donne cioè voglio sapere il fatto che le donne a parte queste arabe sono un pochino più presenti nella società non so nel mondo il piazza il bar e soprattutto se questo può essere un aderente perché quello di cui ci hai parlato è un mondo molto costito è un pochino che è un pochino che è un pochino di società domanda rimanendo sulle donne si risulta che ci sia stato il tribunale delle donne a proposito di risoluzione dei conflitti mi dici il tuo nome mi dici il tuo nome che le donne hanno seguito un problema se sai qualcosa meris tornando al discorso dell'islamo come hai detto il nome scusa meris meris volevo chiedere abbiamo parlato tutt'oggi di identità allora questi che vengono dall'esterno diciamo questi arabi che quindi sono portatori di una religione uguale o simile ma di una cultura diversa adesso singoleggiata da quel che si diceva dagli abiti però insomma ci capiamo questa cosa rafforza un sentimento identitario basato sulla religione o entra in qualche modo in contrasto cioè abbiamo parlato di nazionalismo l'entrata di questi corpi in parte strane insomma anche se hanno delle soriglianze contrasta con il nazionalismo oppure invece è un elemento che con forza nella identità propria rispetto ovviamente anche la licea che trovate dietro allora riccardo vorrei una tua opinione su un sentimento la sensazione che ho provato che proprio tutte le volte in cui parlo con il cese persona giovane che anziana eccetera della con i balcani ho trovato mi è successo con un librario di Reggio Emilia ho comprato alcuni libri e ho visto alcuni della lista e ho scoperto che ne sapeva a pacchi e veramente anzi era molto interessata anche la lista e tutto il resto ma anche appunto da ragazzi molto più giovani appunto miei coltani anche che non hanno vissuto cioè erano molto piccoli erano molto piccoli in quel periodo e questo sentimento è un sentimento di profonda vergogna che però porta anche a cercare di capire di più quindi se ne parla poco purtroppo in una vasta in mia emilia diciamola così se ne parla poco però nello stesso tempo appena si apre l'argomento c'è proprio il sentimento di non ho fatto le domande che non ho dovuto fare o vedendo la televisione non ho fatto quello che avrei dovuto fare proprio cioè di pratico è una cosa che sto sentendo molto però non capisco bene cioè se la mia sensazione di quello che sento consentitivamente anche se volete magari sotto c'è questa cosa questa vergogna e avrei dovuto fare di più non so mi chiedo questo se uno trasporta del tempo in Bosnia si accorge di alcuni meccanismi perversi a livello di istituzioni a livello di vita quotidiana cioè esistono i processi decisionali passano su tre linee diverse sempre comunque passando dai quartieri per arrivare poi alla politica più alta la domanda la domanda che mi faccio sempre quando passo da quelle parti è ma non c'è da parte della popolazione civile del civismo un riscatto e una richiesta di cambiamento partendo da valori condivisi quale potrebbero essere un miglior funzionamento della sanità un miglior funzionamento della politica un miglior funzionamento dei processi decisionali cioè quello che quando passo in Bosnia mi colpisce è il fatto dell'appiattimento ecco da parte della cittadinanza ecco ti chiedo una tua opinione di questo perché non c'è anche un riscatto forte o istante di questo tipo o magari ci sono e non ne sentiamo parlare ecco chiedo a te da questo punto di vista fermiamoci per il momento perché non c'è beh intanto questa cosa del finanziamento alle famiglie è una cosa che non è solo di ora quando vi parlavo della ricostruzione e dei tratti bahabiti che queste andavano assumendo contemporaneamente appunto per l'introduzione di costumi radicali di un islam radicale venivano appunto iniziavano questo meccanismo che passava attraverso l'aiuto e la solidarietà data a chi aveva subito la guerra insomma devo dire però che questa cosa purtroppo non ha riguardato soltanto l'islam e i musulmani perché questa idea del aiuto di solidarietà di solidarietà dato a partire dalla propria appartenenza religiosa riguardato tanto gli ortodossi quanto i cattolici per cui nel carattere generalmente peloso degli aiuti umanitari questa dinamica dell'aiuto ai nostri è una cosa che c'è stata durante la guerra e anche nel dopoguerra è grave questa cosa che sto dicendo perché ma è così quante volte noi abbiamo sentito parrocchie che dicevano andiamo a aiutarli e nemmeno si ponevano il problema se quegli aiuti finivano da una parte all'altra a tutti o a qualcuno in particolare per cui non è una pratica semplicemente saudita ecco insomma questa cosa è una pratica che hanno messo in moto tutti a partire da questa affinità elettiva in qualche modo insomma non è diverso dal meccanismo che è funzionato anche durante la guerra di aree di rispettiva influenza quando i paesi anche europei ma il mondo intero insomma di fronte allo sgretolarsi dell'ex Jugoslavia ciascuno ha pensato di mettere in moto meccanismi di relazione particolare insomma e quali erano i criteri delle relazioni particolari erano criteri che avevano a che fare anche con la ricerca di consenso all'interno del proprio paese no? e quindi immediatamente vuol dire scattarono queste strane affinità no? anche l'Italia l'ha fatto insomma no? l'Italia sia quella ufficiale che quella ufficiosa attraverso appunto le parrocchie attraverso i luoghi di aiuto tradizionale insomma io ho fatto parte di tante associazioni che si sono occupate anche di aiuto umanitario e devo dire che questa dinamica era talvolta presente insomma quindi ed è non è facile andare in un posto e dirgli no voi non dovete aiutare quelli lì perché non potete aiutare soltanto i cattolici o soltanto no qualcuno in particolare insomma perché questo significa in qualche modo accreditare la divisione sociale tra appunto in chiave religiosa e per quello che mi riguarda ho sempre combattuto questa cosa insomma però non c'è dubbio che questa cosa si sia realizzata penso alla diocesi della mia città che immediatamente si è presa in carico la diocesi di Bagnaluca creando una sorta di ponte tra alcune parrocchie trentine e quella realtà in particolare ma ne è pieno voglio dire appunto il panorama bosniaco insomma così come quando noi entrammo per la prima volta a Priedor si stupirono del fatto che noi arrivassimo lì senza una finalità di tipo di comunità di tipo religioso o nazionale insomma si stupirono di questa cosa perché fino a quel punto i serbi di Bosnia avevano ricevuto aiuti solo dalla Grecia oppure dalla Russia oppure ma pochi dalla Russia oppure dall'Inghilterra insomma dove le chiese luterane avevano sostenuto in qualche modo l'ortodossia l'ortodossia serba per cui questo è un meccanismo è un meccanismo ha funzionato in qualche modo anche dentro il pacifismo questa idea che nell'immediato dopo guerra tutti andassero a Tuzla perché era la città che si era tenuta fuori più delle altre dalle dinamiche di conflitto nazionale etnico nazionale come vogliamo insomma era un'altra cosa che mi faceva un po' sorridere perché questa idea di andare a aiutare quelli che la pensano come te non è una bella cosa tu devi appunto avere il coraggio di mettere le mani dentro il conflitto e più di forme sei mi viene da dire meglio è insomma tu devi essere terzo non diventare parte del conflitto che ha assunto i caratteri religiosi eccetera per cui dopo di che è in dubbio che 200-300 euro sono come dire un aiuto che può in qualche modo tenendo conto di un altro fatto di cui non abbiamo parlato e cioè del fatto che nel momento in cui una comunità è in crisi di identità insomma noi in Yugoslavia siamo passati da un'identità ufficiale che era di uno stato di un paese comunista al fatto che il comunismo non esisteva più non è mica un passaggio da niente insomma tu non sai più cosa cosa sei se ci hai creduto no se non ci hai creduto vabbè è più facile ovviamente ma se ci hai solo anche un po' creduto ti ritrovi che vuol dire orfano dentro questa dimensione di orfano culturale o identitario no ci sta anche il fatto di abbrazzare una fede religiosa che prima magari voglio dire era solo un meccanismo di tipo familiare no perché guardate che appunto questo era non è stato detto stamattina è mai rascritto ma io lo dico insomma l'identità religiosa che c'era prima nella Jugoslavia era un'identità privata un po' perché era guardata male nella dimensione pubblica ma era essenzialmente privata anche perché nella cultura ortodossa per esempio il santo più importante è la slava cioè il santo di famiglia e quindi è una è una una adesione religiosa che ti gestisci molto dentro la dimensione familiare no e quindi non ha bisogno ecco necessariamente di una rappresentazione pubblica ma ripeto quando tu perdi un'identità precedente e non ne trovi di nuove e io sfido a trovare voi a trovare un'identità politico culturale nuova di fronte alla caduta delle ideologie vai a cercarla indietro nel tempo e devo dire che questa cosa non mi spaventa affatto insomma se io penso all'omologazione culturale che si vede in giro insomma anche nei costumi delle persone nel modo di essere e nella loro banalizzazione e una persona che decide contrariamente a quello che accade nella propria famiglia di mettere il velo io vedo in questa una ricerca che può essere anche molto positiva io non ne vedo necessariamente negativamente non è di per sé negativa e questa è la mia opinione ma non perché sia giusto mettere il velo no io non sono credente tanto per essere chiari quindi per me qualsiasi cosa che va in questa direzione la guardo sempre un po' di sgimbescio e al tempo stesso però io ne vedo una ricerca laddove altrimenti una ricerca non c'è non so se capite quello che voglio dire no e e e quindi in questo senso secondo me io se vedo una ragazza con la sua a Sarajevo con il velo e sua mamma senza il velo vestita all'occidentale chiamiamola così sicuramente non è il prodotto di un'imposizione perché altrimenti ce l'avrebbe anche la mamma no e lo penso dentro una dimensione di ricerca che poi io posso non condividere ma questo non c'entra non è comunque banale non avviene all'insegna della moda è una ricerca perché ti costa in qualche modo insomma costosa quindi in questo senso io voglio in qualche modo dar credito ecco a questa cosa però ripeto magari mi sbaglio non lo so insomma e in ogni caso ecco credo che è difficile stare senza identità ma identità in senso positivo identità che è appunto quell'esito sincretico che ciascuno di noi è e ha no e in continua trasformazione interessi dei paesi che diceva Daniele certo che quando i paesi hanno cominciato a interrogarsi su come avrebbero potuto approfittare di questa situazione hai visto hai visto immediatamente cose vecchie e cose nuove cose vecchie l'idea dello sbocco sul mare della Germania per dirne una insomma e immediatamente dirottare i finanziamenti lungo la costa d'Almata per condizionare l'esito delle vicende e aprirsi come dire una strada verso il Mediterraneo ma penso anche appunto alla Turchia nei confronti della Bosnia Sdegovina il fatto di non essere come dire di trovare un'affinità culturale altrimenti altrimenti che altrimenti non c'era insomma penso alle mafie alla mafia montenegrina e il rapporto tra la mafia montenegrina e la mafia russa ma non c'era solo la mafia russa in ballo c'è anche la quarta mafia italiana cioè la Sacra Corona Unita che prima considerava la mafia montenegrina come propria manovalanza e adesso è la Sacra Corona Unita ad essere la manovalanza della mafia montenegrina e russa perché sono un po' più sgamati e un po' più potenti e il controllo dell'acqua tu in un territorio come quello bosniaco dove hai ripeto sette volte la quantità d'acqua sette volte quella pro capita europea tu lì hai una risorsa trepitosa e allora il controllo delle dighe il controllo dei fiumi il controllo appunto sui flussi d'acqua eccetera diventa un oggetto io ho in mente società che hanno provato a costruire dighe in giro insomma no e a privatizzare e a privatizzare l'acqua lo fanno in Italia perché non dovrebbero farle dove c'è una quantità d'acqua spaventosa insomma no e quindi ognuno ci ha messo del suo il il Vaticano ci ha messo del suo voglio dire tutti ci hanno messo del loro insomma no e questo a prescindere se volete da Međugorje perché Međugorje è una storia non ne ha parlato diffusamente Eric stamattina ma se volete io ve ne parlo non è mica problemi insomma Međugorje è un'operazione di criminalità organizzata e ho detto tutto no padre Iozzo voglio dire era uno che è stato in galera per traffico internazionale d'armi no e quindi non c'è dubbio che loro il ponte di Mostare è stato abbattuto da uno dei territori controllati voglio dire dai francescani di Međugorje peraltro Međugorje non esisteva è un'invenzione vera e propria ma guardate che gli altri hanno fatto cose analoghe perché si sono inventati santi tutti santi miracoli dall'inizio degli anni 80 agli anni della guerra c'è stata una proliferazione di miracoli spaventoni in giro per tutta la vecchia Jugoslavia tutti avevano qualche cazzo di santuario scusatemi il francesismo il francesismo insomma per cui in questo appunto tutti hanno provato ma voi pensate a quando gli russi arrivarono prima degli americani all'aeroporto di Pristina ve la ricordate questa cosa? dando uno scacco di micidiale alla Nato voglio dire perché arrivare prima voleva dire controllare l'aeroporto del paese che si sentiva liberato dagli Stati Uniti d'America insomma così è andata nel senso che poi tutti hanno provato a giocarsi dentro questa cosa compresa l'Italia l'affare Telecom Serbia rimarrà come dire come Milosevic rimane al potere per altri due anni grazie al fatto che dall'Italia arriva il finanziamento per pagare i dipendenti pubblici della Serbia attraverso l'affare Telecom Serbia andatevi documentatevi vedrete che non sto raccontando di stupidagge per cui è difficile capire appunto dire chi non ha avuto la più grande base militare degli Stati Uniti d'America è quella costruita voglio dire in Kosovo la più grande base militare di stanza in Europa non sono interessi questi? certo che sono interessi Anna diceva nella Krojima ci sono le donne la Krojima è un dato simbolico non è che se ne incontra tante però è come dire quella cosa che ti permette di capire una dinamica insomma certo l'universo della Krojima è un universo maschile ma questo non vuol dire che se una donna vuole entrare in una Krojima le dicono di no perché tu sei una donna insomma no però ti senti comunque immediatamente a disagio prima perché ti squadra da cima a fondo in secondo luogo perché devi bere grappa e rispondere ai rituali maschili insomma e quindi non è semplice io ho provato a portarsi qualche signora in una Krojima ma insomma ne veniva fuori un po' scossa insomma il tema è che in una società appunto che si fonda su su questo immaginario ed è un paradosso perché la Jugoslavia era un paese emancipato ma non liberato dove cioè le donne potevano arrivare a qualsiasi ruolo perché in questo voglio dire c'era un'emancipazione molto forte e contemporaneamente però sotto questo K di macismo molto forte per cui questa era la cosa Tribunale delle donne Cristina si ha provato le donne hanno provato a costruire un loro tribunale per affrontare tutti i temi che riguardano appunto l'elaborazione del conflitto io ho sempre guardato questa cosa come un po' come un rituale dopodiché io dico è stato un tentativo comunque utile importante perché le donne hanno avuto uno specifico di sofferenza dentro la guerra e anche questa cosa questa idea che gli uomini sono quelli che distruggono e le donne quelle che ricostruiscono a me non piace molto anche se purtroppo nella ricostruzione è vero che poi le figure femminili sono quelle che hanno il maggior fervore ricostruttivo sono quelle che si danno da fare di più però anche questo è uno schema che non è mica tanto bello perché tende in qualche modo a fissare i ruoli insomma e quindi e poi non è detto voglio dire che quell'universo maschile di fantasmi sia messo in discussione da parte dell'altra metà del cielo per cui anche in questo insomma sono processi culturali nei quali si è vittime e carnefici al tempo stesso insomma c'è un altro aspetto che secondo me è importante che riguarda il tema dell'elaborazione del conflitto l'elaborazione del conflitto è un lavoro che devi fare con i criminali non soltanto con ma non con il criminale che finisce all'aia insomma con il concetto di colpa politica e morale io quando ho avviato questo lavoro che è durato per 7-8 anni e che poi la mia associazione non ha voluto continuare perché preferiva fare pacchi e io me sono andato e il il tema era proprio questo ah ma quanto è difficile fare questo lavoro di elaborazione del conflitto perché perché richiede terzietà richiede lavoro di riconoscimento di stima richiede quindi perché io dovrei raccontarti la mia vicenda dolorosa e perché a te chi sei tu no che vieni qui più o meno distrattamente no quindi ti devi conquistare un rapporto di relazione importante infatti non a caso iniziamo dopo diversi anni che eravamo presenti sul territorio a fare questo lavoro ed è stato difficile e non ha portato sostanzialmente da nessuna parte allora fare i tribunali tra quelle tra le persone che la pensano nello stesso identico modo rischia di essere un po' un'altra forma di retorica ecco insomma questo Meris diceva identità portatore di una cultura diversa queste forme di islam radicale venivano guardate male perché non centravano niente con la storia e la modalità di essere religiosi in per cui poi gli atteggiamenti cambiano non è che se poi appunto è come le diaspori le diaspori sono molto più radiche quando noi abbiamo a che fare con una persona che viene dal Maghreb qui in Italia vediamo che sono portatori di una cultura che loro stessi non esercitano all'interno del loro stesso paese persone che portano il velo donne che portano il velo qui non lo portavano quando erano nel loro paese d'origine qual è il meccanismo è che quando tu sei fuori sei più sei più nazionale sei più italiano ma questo ha riguardato le diascore in ogni parte del mondo e non a caso dalle diascore ti arrivano i maggiori finanziamenti esterni per sostenere processi di tipo nazionalistico ed è accaduto così se poi questa diaspora corrisponde al fatto di essere stati di essersi arricchiti durante la seconda guerra mondiale per esempio e tutti gli ustace che hanno tagliato la corda dalla Croazia dopo appunto la fine della seconda guerra mondiale sono finiti portandosi via quello che avevano arraffato o quei tesori sono finiti dove no? e guardate che sono tesori imponenti insomma che sono passati spesso attraverso canali ufficiali della chiesa cattolica in quel caso insomma quindi è davvero una dimensione particolarmente complessa e poi però voglio dire di fronte alla difficoltà anche quei due o trecento euro ti possono far cambiare idea e poi perché poi coltivarsi un islam endogeno non è così semplice perché vuol dire che tu sei eretico rispetto alla chiesa dominante in qualche modo insomma quindi in questo senso c'è Riccardo dice parla appunto della vergogna di non sapere quello che è accaduto la prima volta che mi capita di sentire una cosa di questo tipo non non ci ho mai pensato di certo c'è che se un ragazzo oggi ha 18 anni quando è accaduto tutto questo non c'era insomma quindi ne ha sentito parlare in maniera no e siccome sostanzialmente se ne parla poco e male è evidente che questa è una pagina recente nell'ultimo viaggio avevo con me quattro ragazzi adolescenti sostanzialmente dai 12 ai 20 anni e quando siamo andati a Potocari nel memoriale di Sebrenica ero preoccupato che questa cosa non fosse un pugno nello stomaco troppo forte per loro perché andare ad Auschwitz è una cosa comunque che hai messo in conto legata ad un tempo passato e quindi quasi si trattasse di una memoria lontana in qualche modo da conoscere no qui siamo nel presente perché quello che è accaduto negli anni 90 e negli anni immediatamente successivi e poi questo memoriale che viene aggiornato di anno in anno con nuove sepolture perché vengono trovati i resti poi sapete vuol dire hanno l'identificazione ne parleremo quando siamo lì insomma ecco però l'identificazione non è così facile perché poi quando hanno scoperto che esistevano filmati satellitari delle fosse comuni hanno cominciato a dispare le fosse comuni e i resti sono finiti in tanti posti per cui tu trovi un DNA simile da una parte e anche dall'altra quindi è davvero un gran problema insomma ecco temevo in qualche modo che per loro questo questo impatto fosse troppo forte perché si parla appunto della tua contemporaneità insomma in questo senso posso capire questa cosa della vergogna ma la vergogna come il pianto è uno stimolo che può essere positivo insomma se ti fa interrogare sul sul tempo insomma e soprattutto su quello che avremmo dovuto imparare che non abbiamo imparato Alberto poneva il problema appunto delle diverse linee decisionali e della protezione e della popolazione civile le richieste di cambiamento se c'è sempre stata una cosa che non mi ha mai turbato più di tanto è il castello di Dayton voi sapete la Bosnia-Herzegovina ha praticamente il Parlamento della Bosnia-Herzegovina il governo della Bosnia-Herzegovina poi c'è il Parlamento della Repubblica Serbska e il governo della Repubblica Serbska il Parlamento della Federazione Musulmana con il governo della Federazione Musulmana poi hai la Serbska che è divisa in municipalità e la Federazione Musulmana in cantoni quindi hai un complesso livello decisionale ciliegina sulla torta su questa piramide enorme tu hai l'OHR cioè l'autorità internazionale che fino a poco tempo fa vagliava ogni decisione che ciascuno di queste istituzioni doveva prendere insomma quindi un castello non semplice se ci fosse un meccanismo di autogoverno reale io direi ci può anche stare se ci fossero meccanismi partecipativi reali ci può anche stare il problema è che appunto tutto questo non c'è e quindi questo è soltanto un meccanismo di proliferazione di assetti di potere più che non di luoghi decisionali è questo che mi preoccupa non tanto il castello in senso ma specie se questo appunto è presente in quel contesto di totale delegittimazione di qualsiasi ambito istituzionale che i processi della modernità stanno determinando per cui tutto questo alla fine è anche un involucro assolutamente privo di poteri reali o comunque largamente privo di poteri reali nel 2014 c'è stato in Bosnia e Herzegovina soprattutto in federazione musulmano-proata un forte movimento di protesta per le condizioni di vita non è facile vivere in Bosnia perché lo vedrete il rapporto tra gli stipendi che ci sono e il reale costo della vita il costo della vita non è molto diverso dal nostro per capirci gli stipendi sono un decimo da un quinto a un decimo di quelli che ci sono qui la gente vive perché c'ha le rimesse dall'estero perché senza le rimesse dall'estero non potrebbero sopravvivere con 80 90 marchi o euro o 180 marchi convertibili non vai non fai niente perché ripeto il costo della vita non è poi tanto diverso da quello voi andate andremo sicuramente a visitare un qualche mercato per avere l'idea di cosa è una cosa oppure appunto vedremo qualche vetrina dove sono esposti i prezzi e vedrete che non è che ci sia questa grande difformità dal costo della vita qui insomma e quindi oggettivamente li infaticano a vivere insomma vivono ripeto perché ci sono le rimesse dall'estero perché tutti hanno qualcuno fuori che ma anche questo è un tratto postmoderno mi sembra di aver capito che la prima voce del PIL è rimesse degli emigrati ma certo ma certo ma il poi la popolazione civile richiede cambiamento magari voglio dire ma è difficile qui per come è ridotta la politica in questo paese riuscire a trovare meccanismi partecipativi di reale cambiamento e trasformazione insomma agli interlocutori che io sto facendo come vi dicevo questo viaggio nella solitudine della politica questa cosa ha a fare con la mia solitudine alla quale non do necessariamente una sezione negativa perché può anche essere un dato interessante in cui metti in moto i tuoi strumenti di bordo insomma ma se io vivo una condizione di solitudine nei giorni scorsi appunto chiedendo ai miei interlocutori con chi ti confronti con qual è hai un luogo in cui le idee voglio dire le tue idee le confronti con altri la risposta unanime di tutte le persone con cui ho parlato era no non ho nessuno con cui parlare oppure ne parlo con me stesso per cui appunto la solitudine è al cubo e mettere in moto processi di impegno politico dove la politica è stata prima il regime poi la rappresentazione nazionalistica ci vuole una bella forza a immaginarsi non che questo sia impossibile insomma ma ci vuole una bella forza c'è un'ultima cosa che dico a riguardo voi pensate al tema dell'Europa il tema dell'Europa è stato nei Balcani soprattutto in Bosnia uno degli elementi che poteva costituire un elemento di rianimazione politica perché l'Europa ti permetteva in qualche modo di darti un obiettivo che non rientrasse dentro la logica della divisione etnica nazionale eccetera in Bosnia che sono sempre molto sagaci e simpatici dicevano sempre noi entreremo nell'Unione Europea quando l'Unione Europea non esisterà più ed è quello che sta no non è ancora avvenuto nel senso che ma loro sono ancora lontani dall'Unione Europea ma mi pare che l'Unione Europea si è messa piuttosto male per cui nella loro ironia ci avevano proprio preso insomma quindi oggi parlare io vado ancora a parlare con loro di Europa e mi rendo conto mentre ne parlo che questa parola mi si mi si perde dentro mentre la dico insomma mentre un tempo questo era un obiettivo politico oggi mi sembra di fare demagogia insomma o comunque di raccontargli una favola vuoi aggiungere qualcosa abbiamo parlato soprattutto di Bosnia vuoi aggiungere invece qualcosa sul destra nazionalista croata direi l'argomento di estrema attualità di quello allora io in realtà quando dico queste cose non è che mi riferisco soltanto alla 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 Bosnia e Degovina sì certo questo castello istituzionale di Dayton si riferisce a quello però nell'atteggiamento insomma nel rapporto con la dimensione politica eccetera molte delle cose che incontriamo da una parte le troviamo anche anche dall'altra per cui nella fattispecie la destra croata è una destra appunto forse più esplicita per i suoi riferimenti perché voi pensate solo al fatto che la rinascita della Croazia è avvenuta con lo stemma che avete visto anche durante i campionati europei no cioè appunto quello era il simbolo Ustas no e quindi lì c'è stato un meccanismo forse 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 come si può dire forse non no sì non voluto non è vero insomma ma insomma la nascita dello stato indipendente croato è avvenuta come dire guardando al passato più che non guardando al futuro un po' inevitabilmente ma un po' perché appunto quella quando io andavo in Bosnia le prime volte a seconda dei ponti interrotti eccetera si decideva di fare una strada o l'altra insomma e quando mi capitava di viaggiare lungo la costa l'immagine di Ante Pavelic cioè il duce croato alleato di Hitler e Mussolini la trovavi frequentemente nei luoghi pubblici e non era certo una cosa obbligatoria era una scelta che costoro facevano insomma per cui c'è stato un processo di identificazione sul quale la chiesa croata ci ha giocato insomma la santificazione di Stepinac cioè il capo del di Avzenovac no? non è mica stata una cosa che è caduta dal cielo quindi c'è stato come dire un meccanismo no? ha fatto santo il direttore no non il direttore era il cappellano no io è il vescovo il primato sì quello che presiedeva voglio dire però sapevano esattamente quello che accadeva di dentro insomma quindi no no non era il capo del campo di concentramento però insomma e questa cosa poi insomma hanno in maniera superficiale secondo me santificato un po' di figure discutibili insomma tipo un altro era Ivo Merz no? e questa cosa è avvenuta negli anni 80 e successivi per iniziativa di Voitiva insomma bisogna però dire per esempio che Voitiva ha sempre messo in guardia dal culto di Meggiugorie per esempio e lì si era creato uno scontro molto forte tra le gerarchie vaticane e le stesse gerarchie di Zagabria contro i francescani di di Meggiugorie no? per cui c'era stato un grosso scontro anche dentro la chiesa insomma vabbè una parentesi insomma ma solo per dire che questa cosa se a questo aggiungiamo appunto il ruolo della diaspora nella formazione e nel finanziamento dei partiti della destra croata durante i tempi dell'ancora della Jugoslavia in questo ne parla molto diffusamente Luca Rastello nella guerra in casa avete un quadro abbastanza preciso dopo di che la Croazia è un paese anche quello molto diviso per cui tu hai un'area l'area dalmatica diciamo così quindi lungo la costa molto segnata da questa tradizione di destra insomma Ustasha c'è una parte invece più zagrebese diciamo così dove che è molto più laica e molto più chiamiamola democratica insomma e poi c'è un corpo particolare che è la Craina cioè tutto quel territorio che era popolato principalmente da Serbi e che circonda tutto il confine tra Croazia e Bosnia e Herzegovina che ora è praticamente desertificato desertificato perché quelli che abitavano inizialmente li hanno cacciati e desertificato perché la conquista del territorio e la rivendicazione del fondo genetico di quel territorio avviene molto spesso attraverso la desertificazione perché non si torna che ne sono Ugo voleva fare una domanda qual è l'evoluzione demografica dei tre principali paesi che cioè la Croazia la Bosnia e il Serbo vi ha visto che si sono scannati così bene le conseguenze quali sono state le conseguenze sono state che per quanto riguarda in particolare la Bosnia e Herzegovina due milioni di persone se ne sono andate durante come profughi durante la guerra i morti sono stati difficili da fare un conto preciso ma intorno le cose insomma i dati più realistici sono intorno ai 120 mila morti solo per quanto riguarda la guerra di Bosnia poi però dovete tener conto che la riconquista delle craine da parte della Croazia non è stata certo priva di assassini e con appunto un esudo anche lì molto forte di 250 300 mila persone quello che è avvenuto in Kosovo è stato altrettanto pesante direi che ecco e poi c'è un altro fenomeno lo vedremo anche a Priedor per esempio Priedor è stata una città che pur essendo la tana del lupo insomma perché il mio amico Luca Rastello appunto in un suo articolo sul manifesto scrisse Luca è morto qualche anni fa insomma ed era persona di particolare intelligenza lui fece un articolo sul manifesto dove parlò di Priedor come la capitale inaccessibile e siccome appunto ci conoscevamo io poi appunto iniziai il lavoro su Priedor fu anche un po' una sfida con lui insomma vediamo un po' se è davvero inaccessibile e lì appunto di musulmani non erano pur essendo la popolazione maggioritaria prima della guerra non ce n'erano praticamente più dopo qualche anno di lavoro si sono create delle buone condizioni per il ritorno e sono rientrate intorno ai 20-25 mila persone di queste 20-25 mila persone che magari sono ancora formalmente residenti a Priedor almeno la metà se ne sono ritornate dove erano stati dove erano andati come profughi sostanzialmente e quindi nonostante il censimento fatto nel 2014 reso noto nel 2016 dopo mille trattative nel senso che non volevano rendere pubbliche le dinamiche del censimento secondo me comunque non sono veritieri perché tengono conto delle persone registrate ma le persone registrate non è detto che siano sul territorio magari si tengono la casa si tengono anche la residenza ma poi appunto hanno una residenza anche altrove soprattutto laddove hanno subito la pulizia io credo che questo sarà un processo che determinerà un progressivo un progressivo deficit demografico non nascono tanti bambini non è come il Kosovo e l'Albania dove questo invece voglio dire va in direzione esattamente opposta insomma quindi se decidono di far figli li fanno lontano oppure dove ci sono condizioni di futuro insomma e lì devo dire mi parlavano nei giorni scorsi con Giovanni mi diceva i miei studenti studiano come andarsene e lui parla di Belgrado in questo caso insomma studiano per andarsene non la modalità per quella la conoscono bene insomma ma studiano per andarsene per cui se uno dovesse calcolare insomma questi nazionalisti che hanno nazionalisti e criminali che hanno vinto la guerra perché loro hanno vinto e loro comandano ora insomma hanno costruito un mondo che non vuole nessuno le persone anziane rimangono lì perché quella è la loro terra la loro vita ma per i giovani voglio dire non quello è un luogo che non è più il loro ma questo vale in generale per le seconde generazioni anche degli immigrati insomma posso raccontarvi delle storielle che riguardano appunto marocchini o altro che in dialetto trentino mi dicono ma mi sono de Perzen no Perzen è un paesino vicino a Trento no e di fronte ai genitori che vogliono farli rientrare dentro il loro paese d'origine questi venivano da me a dirmi ma mi sono de Perzen in dialetto stretto per dire appunto come anche questa cosa dell'identità poi alla fine sia davvero un grande inganno fermo restando che le identità sono al tempo stesso una cosa della quale non si può fare almeno ci sono altre che non vedo vai Giulia io mi chiamo Maria Giulia lei prima ha detto che non è la pena ma il riconoscimento di ciò che è accaduto che può permettere una giusta rielaborazione collettiva e quindi una riconciliazione allora alla luce di questo io le volevo chiedere intanto un suo parere sull'operato del tribunale dell'AIA soprattutto sotto questo aspetto ovvero la costruzione di una memoria collettiva e poi le volevo anche chiedere se secondo lei esiste effettivamente la voglia da parte della popolazione civile di riconciliarsi in modo positivo ecco allora per quanto riguarda il riconoscimento di ciò che è accaduto certamente il tribunale dell'AIA nella ricostruzione delle vicende giudiziarie ha scritto pagine di verità bisogna però dire che i tribunali affrontano insomma se voi leggete Carl Jasper che era uno dei maestri di Anne Arendt ha scritto un libro che è tradotto anche in italiano che si intitola La questione della colpa Jasper divide la colpa in quattro tipi di colpa diversi lui dice c'è la colpa criminale c'è la colpa politica c'è la colpa morale e c'è la colpa metafisica la colpa criminale è quella che il tribunale dell'AIA ha affrontato e che in genere i tribunali internazionali affrontano Norimberga è stato così insomma indagando quella specifica colpa e questo ci sta ma la colpa politica e la colpa morale che sono la colpa di chi sapeva cosa accadeva insomma e non ha alzato un dito o la colpa di chi ha votato quelle persone cioè vuol dire se noi parliamo del nazismo il nazismo non è andato al potere senza il consenso popolare e non mi vengano a dire che non sapevano quello che accadeva all'interno dei campi di sterminio perché questo riguarda la falsa coscienza e però voglio dire questo tipo di colpa è stato elaborato solo in minimissima parte voi prendete per esempio il fatto che oggi in Germania rinasca vuol dire grumi di di fascismo e di nazismo dove risorgono soprattutto nella vecchia Germania dell'est cioè nella vecchia Germania comunista dove questo processo di di rilettura degli avvenimenti di elaborazione del conflitto c'è stato molto meno che non nella Germania dell'Ovest insomma e quindi questa cosa ci dice che lo stesso lo potremmo dire per l'Italia lo potremmo dire per il Cile lo potremmo dire per in realtà ogni luogo insomma ci dice che affrontare il tema della colpa criminale rischia di diventare un processo di tipo di vuol dire che cerca il capo espiatorio insomma per cui tu te la prendi con il capo o i capi e tutti i processi voglio dire che riguardano appunto la banalità del male che riguardano le compiacenze che riguardano le responsabilità diffuse no non li tocchi perché oggettivamente non è facile insomma allora per quello e non può farlo un tribunale un tribunale penale devi darti delle istituzioni ad hoc per fare questo lavoro ma queste istituzioni ad hoc chi le finanzia spesso è laddove voglio dire tutto si gioca ancora nella divisione etnica per cui tutti i partiti che contano sono partiti di rappresentanza nazionale qual è il partito di rappresentanza nazionale che decide di avviare un processo di questo tipo vuol dire che si scava la fossa da solo e quindi non lo fanno no e quindi questa cosa richiederebbe una grande capacità da parte della società in quanto tale di fare questo lavoro che è un lavoro però davvero di grandissima complessità per cui il tribunale dell'AI ha fatto un lavoro importante mi viene da dire che aveva però appunto soltanto questa parte di indagine l'effetto di quel lavoro era tale che a bel grado quando trasmettevano le sedute del tribunale penale internazionale dove c'erano in ballo i vari Milosevic anziché Karad eccetera questi li guardavano tutti come se fosse una sorta di telenovela nazionale no ma a volte anche in maniera ironica voglio dire no però voglio dire cioè non costruisci elaborazione del conflitto su questo no per cui si richiederebbe un surplus ma chi lo fa la comunità internazionale ma non sa neanche di cosa stiamo parlando perché usano la parola riconciliazione in maniera talmente banale per cui pare che la riconciliazione sia il fatto che due persone che si sono scannate fino al giorno prima improvvisamente dovrebbero darsi la mano e parlare e dire ma com'è ma poi c'è appunto questo meccanismo di falsa coscienza capita a Priedo mi raccontavano insomma persone che erano state via magari per dieci anni cacciate da quella città che decidevano finalmente di rientrare e che incontravano magari appunto questi bosniaci prevalentemente oppure croati e incontravano magari dieci anni delle persone serbe che non vedevano appunto da tutti questi anni e questi gli dicevano ah ciao è tanto che non ti vedo dove sei stato ma come ma con che coraggio mi chiedi dove sei stato insomma saprai bene voglio dire che c'è stato un processo per cui metà della popolazione è stata vuol dire cacciata da quel luogo questa si chiama falsa coscienza ed è il modo attraverso il quale ciascuno di noi sopravvive incoscienza con se stesso no? ma questo è il meccanismo ripeto quindi non è facile fare questo lavoro allora se la cooperazione internazionale invece che fare il lavoro sull'emergenza si occupasse di questo sarebbe un bel lavoro ma è meglio è più facile fare solidarietà portare aiuti no? perché quello non ti mette in gioco invece dentro un processo di riconciliazione di elaborazione del conflitto quel conflitto lo metti dentro di te ed è doloroso chiaro? no? e quindi voglio dire non è facile prendersi in carico il dolore degli altri e poi non è detto appunto che funzioni e quindi oltremodo voglio dire oltremodo complicato voglia di riconciliarsi la gente ha voglia di scordare il passato ma scordammo ciò passato non è riconciliazione né questa idea che ci vogliono che il tempo è galantuomo è una fesseria il tempo ingigantisce le contraddizioni e la pancia piena non funziona non è sufficiente vi potrei portare l'esempio che mi è vicino insomma quello di Bolzano no? andate a Bolzano e vedete appunto come le persone di lingua italiana e le persone di lingua tedesca ragionano insieme ma quando mai ci sono le scuole separate no? eppure voglio dire siamo in un territorio che è il più ricco d'Europa più o meno no? quindi la pancia piena ce l'hanno no? sono passati dal fascismo 80-90 anni 80 anni insomma quindi di tempo ne è passato insomma no? e allora la pancia non funziona e il tempo non è galantuomo tu devi fare un lavoro specifico ma il lavoro specifico è trovare il punto d'incontro delle diverse narrazioni e questo è un lavoro complicato oggi in Bosnia la cosa più complicata da fare è trovare dei libri di testo che raccontino una storia che non sia divisa perché fin quando i libri dei croati diranno una cosa i libri dei bosniazi diranno un'altra i libri dei serbi ne diranno un'altra ancora ora io questo non vuol dire che non è un approccio relativistico non è che tutti quanti hanno torto tutti quanti hanno ragione insomma no? e io so distinguere perfettamente credo abbastanza bene insomma i diversi gradi di responsabilità ma nel momento in cui tu decidi di procedere dentro un processo di riconciliazione tutto questo lo devi avere chiaro e contemporaneamente però devi metterti nei panni dell'altro e mettersi nei panni dell'altro è doloroso e questo la gente non ha voglia di farlo non vorrei essere troppo pessimista ma guardate che insomma vabbè non posso venire a raccontarvi una realtà diversa da posso bene anche se volete vi posso anche infiorettare qualcosa ma insomma ci sono anche tante famiglie miste che no famiglie miste che di cui si parlava stamattina quelli che si dichiaravano i jugoslavi come sono finiti durante la guerra si sono spaccate le famiglie o tagliavano la corda chi aveva la possibilità di farlo no e allora mantenevano ancora ma chi rimaneva dentro la guerra a Sarajevo quelli che venivano assediati scusa a Sarajevo quelli che venivano assediati non erano mica soltanto i bosniazi musulmani assediati erano anche serbi che erano assediati dai loro ancora peggio no c'erano i croati che erano voglio dire che erano dentro la città in questo senso stamattina quando si parlava dei cittadini chi lo diceva eri tu la popolazione civile è giusto parlare di popolazione civile senza dimenticare che dentro quella popolazione civile non si può far parti uguali tra disuguali nel senso che voglio dire degli 11.000 12.000 morti che ha avuto la città di Sarajevo 10.000 sono stati musulmani quindi non puoi far finta che siano no è giusto sapere che le persone sono morte in quanto cittadini assediati che e non in quanto serbi o croati o musulmani e però sappiamo voglio dire appunto che questo è avvenuto senza la questione dell'elaborazione dell'urto mediazione appunto oggi la mia impressione è che si sia un po' sorvolato sulla Yugoslavia di Tito abbiamo parlato dei traumi della seconda guerra mondiale dei traumi degli anni 90 però in mezzo i traumi credo che ce ne siano stati tanti perché sì c'è gli Azerovats c'è Amasca ma in mezzo c'è anche Gregorio Toc e quindi posso avere la sua opinione anche perché il rischio poi dall'Italia è di confrontarsi subito con la nostalgia quindi non credo che sia una cosa sana anche come osservatore protagonista poi dell'unimento di cooperazione sì il movimento di cooperazione italiano è stato abbastanza presente già da subito credo dal 91 al 92 però volevo sapere se da dentro si è toccato anche questo di di trauma che può essere piccolo grande perché sì la Jugoslavia degli anni 70 è un conto quella degli anni 50 credo che fosse molto diversa prima ha citato Jervovic e io ho letto Volga Volga e lì emerge insomma allora io non sono come avrete capito Jugoslavia nostalgica ok si si e al tempo stesso era uno che era uno che guardava a quel paese con attenzione l'ho detto prima insomma quello era comunque un tentativo diverso quel tentativo è fallito è fallito per ragioni interne perché appunto per le contraddizioni di cui ho fatto accenno quello era un paese federale ed era centralista era un paese che teorizzava l'autogestione e l'autogestione non veniva praticata e le scelte economiche erano tutte decise dall'alto e a bel grado era un paese che si diceva per l'unità e la fratellanza e però ciascuno si guardava di sghimbescio era un paese che era capo del movimento dei non allineati e c'era un razzismo pazzesco quando ho provato a quando ho fatto un lavoro sul tema del microcredito in Bosnia e ho raccontato da dove veniva l'idea del microcredito parlando della banca dei poveri di Yunus e quindi del Bangladesh ma presto mi tiravano le sedie insomma ecco perché avevo paragonato loro i jugoslavi belli e fieri voglio dire appunto ad un luogo del loro cosiddetto terzo mondo insomma c'era proprio tutta una finzione mi viene da dire insomma e era un regime contro l'unione sovietica ed erano stalinisti perché le stesse dinamiche interne poi appunto Goliotto che è una di queste di queste di queste vicende insomma Goliotto che è l'isola nuda o l'isola calva se una volta andate al mare e avete voglia di fare un bagno di tristezza quando uscite a Kirk vi chiedete ad un gommone di portarvi a a a Goliotto che vi varderanno un po' di sghimbescio ma vi portano insomma ecco se voi andate lì trovate esattamente un campo di concentramento come tutti gli altri campi di concentramento cioè un campo di lavoro spaccare pietre dalla mattina alla sera certo non era un campo di sterminio ma la gente si moriva per cui la Jugoslavia non era il paradiso se confrontiamo la Jugoslavia con la Romania per fare un esempio o con l'Albania era tutta un'altra cosa no? per cui io capisco le persone anziane che hanno creduto in quella cosa che si chiamava Jugoslavia e che ne sono un po' nostalgici per effetto che quello che è accaduto dopo è stato sicuramente peggio di quello che c'era prima il problema che non si pongono gli Jugos nostalgici è che quel dopo è stato determinato da quello che c'era prima perché non è che le cose vengono giù dal cielo insomma se tu semini in una direzione poi raccogli la tempesta che ti viene insomma in questo senso secondo me c'è stata anche poca elaborazione della vicenda jugoslava è indubbio che la Jugoslavia rispetto appunto ai paesi dell'est europeo era sicuramente un paese molto più libero voi tenete conto che con il passaporto jugoslavo mentre noi avevamo bisogno del visto per andare negli Stati Uniti loro potevano andarsi senza visto perché ad un certo punto quando si fu la rottura tra Stalin e Tito tutti si misero a cullare la Jugoslavia insomma tant'è che che hanno cominciato a lavorare relativamente perché avevano finanziamenti che venivano dall'Italia dagli Stati Uniti quindi dall'Occidente esattamente come da paesi non allineati eccetera quindi voglio dire c'era una condizione di vita e di lavoro che era sicuramente migliore di quella che potevamo avere altrove insomma ecco certo non dovevi dire quello che pensavi perché il dissio era di finire appunto a Goliotok però Goliotok fu un'esperienza tutto sommato emblematica ma limitata ecco insomma le dinamiche dentro le leghe dei comunisti perché c'era appunto questa parvenza di di federatività faceva sì che appunto ci fosse anche una dialettica interessante come ho detto prima il 68 belgradese è stato un 68 importante la rivista Praxis era parte integrante di un dibattito europeo quindi tu avevi un'intellettualità molto significativa insomma avevi una conoscenza delle lingue molto maggiore che non in qualsiasi altro paese europeo avevi una conoscenza della musica più alta molto più alta che non in altri paesi europei per cui insomma se voi attaccate una cosa all'altra insomma non è che nella vecchia Jugoslavia si stesse poi così male bastava non occuparsi della cosa pubblica e non rompere le scatole a nessuno insomma però questo non è un bel dire insomma ecco e poi ha determinato tutto quello che ha determinato in questo libro di Radevajkovic appunto che ha come sottotitolo ad autopsia di Balcani saggio di psicopolitica ti racconta tutti i meccanismi psicologici di una generazione che ha disfatto la Jugoslavia perché i genitori avevano fatto tutto quello che avrebbero potuto realizzare pensa che che meccanismo perverso voglio dire e quindi in questo senso io credo che bisognerà ancora elaborarla la vicenda la vicenda jugoslava nel bene nel male voglio dire comunque per quello che è insomma la cosa che mi spaventa nella jugonostalgia stamattina Eric parlava di quella dei vecchi e di quella dei giovani insomma quella da parte degli uni e degli altri andrebbe andrebbe rivisitata soprattutto devo dire dei giovani insomma i quali appunto non perché in Slovenia per esempio la jugonostalgia è più forte che altrove ci sono due paesi dove la jugonostalgia è particolarmente forte uno è la Slovenia l'altro è la Macedonia cioè agli antipodi insomma in Slovenia per una semplice ragione l'università di Ljubljana durante la Jugoslavia era un'università la più frequentata con Belgrado insomma quindi con persone poi il fatto di essere a capo del movimento dei non allineati in quelle università transitavano persone che venivano da ogni parte del mondo voi pensate che melting pot culturale insomma no si poteva esprimere lì dentro oggi si trovano con un'università di un paese che è grande così nessuno va a Ljubljana a studiare perché mai uno dovrebbe andare a Ljubljana a studiare insomma e quindi si trovano in una condizione di isolamento anche un po' di frustrazione ecco che dunque si può anche comprendere appunto non è soltanto i simboli no di Tito la stella rossa o che cavolo ne so io insomma no si può anche comprendere voglio dire questa 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 sorta di 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 retrocessione ecco insomma no da un paese importante ad un paese in essenziale per quanto sia parte della comunità europea ma vediamo com'è messa la comunità europea per gli anziani è un'altra cosa io non dimenticherò mai un signore di 70 anni più o meno in un appartamento di Sarajevo dopo nell'immediato dopo guerra seduto in poltrone che guardava l'orologio ogni 5 minuti con le pillole per il cuore penso insomma con 3 sigarette contate e con tutti gli stemmi intorno del riconoscimento della lotta partigiana no serbo da tagliarsi le vene immediatamente insomma ora capisco voglio dire che queste persone che hanno lottato fatto la resistenza contro il nazifascismo il livello di resistenza più importante di tutta l'Europa perché la resistenza in in Italia in confronto è stata quasi niente dobbiamo saperlo no cioè lì si sono inchiodate le armate della Wehrmacht non in Italia in Italia voglio dire sono state inchiodate con l'arrivo degli alleati no ma senza gli alleati non c'era voglio dire liberazione di questo paese e lo stesso potremmo dire per molti altri paesi per la Jugoslavia no no e quindi in questo senso voglio dire pensate il livello di frustrazione di una persona anziana e quindi io capisco anche non è soltanto come erano belli i tempi in cui a Rosovane c'è qualcosa di più se non ci sono altre domande ringrazio Michele Nardelli per il suo intervento ringrazio Michele per aver risposto anche a tutte queste domande e noi allora dimmi non fatevi un'idea sbagliata del sottoscritto io sono uno che ci gode la vita voglio dire quindi questo è assolutamente vero per cui io vi dico queste cose che magari sono un po' mi portano un po' d'affanno però voglio dire poi quando si viaggia si viaggia insomma quindi no l'anno scorso effettivamente perché Michele ha la sua prospettiva dal suo punto di vista l'anno scorso è stato molto interessante professionalmente nel viaggio di ritorno ci sono stati dibattiti anche molto accesi ma questo è bello e credo che sia assolutamente positivo allora ricapitolando con voi che partite sabato prossimo l'appuntamento e vi prego davvero di essere rispettosi degli orari che vi verranno dati volta in volta e l'appuntamento quindi è qui alle 7.30 con questo parcheggio qui 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 fuori da questa porta il pullman ci aspetterà sulla strada perché è un po' complicato per lui fare un anoro specialmente per uscire quindi ci aspetterà sulla strada per questo dobbiamo essere puntuali e cercare di partire il prima possibile perché più di tanto non può soccitare però tassativamente si parte alle 8 non vorrei aspettare nessuno mi riferisco a uno scottino lo saluto allora Eric e anche Michele hanno messo lì all'ingresso dei libri che hanno portato Eric probabilmente ha ripreso quello che non è stato comprato qui ci sono ancora dei libri di Michele che anche se voi siamo ben lieti questo è appena uscito ed è sul tema abbastanza di attualità siamo sicurezza grazie a tutti quindi ci vediamo sabato prossimo grazie mille allora spegniamo Giulia Giulia allora io adesso spengo mezzo per salvare